Il titolo a questo vostro congresso abbia voluto affidarvi una traccia di questo gioco duro, perché sembra quasi dire che è necessario per tutti voi diventare Atticus Finch, ognuno di voi deve essere un po' Atticus Finch, questo grande avvocato, l'avvocato di quel romanzo che sfida l'America razzista, segregazionista, l'America dei Ku Klux Klan per la formazione della giustizia e dei diritti. Non ce la fa Atticus a far assolvere il suo assistito di colore nero, ma non si arrende. Non china la testa davanti al potente, davanti all'arroganza, davanti alla violenza. Non è, insomma, un avvocato abbongole. Anzi, mette in pericolo per la difesa dei suoi ideali anche la vita dei suoi figli, cresciuti con i sani principi dell'uguaglianza fra tutte le razze, ma anche i principi della libertà, della legalità e della giustizia, che sono i vostri principi, sono i vostri valori. Questo concreto vi affida a una nuova sfida. Raccoglietela, voi avvocati, senza retorica. Siete le sentinelle del diritto e su di voi c'è la fiducia di tutto il Paese. A Beniamino voglio dire grazie per la vita che hai dato alla mia battaglia. Grazie per aver dato una nuova vita alla mia battaglia sulla giustizia giusta nel nome di Enzo, ma anche e soprattutto per quello che hai dato all'intero Paese. A tutti voi auguro buon lavoro, con la promessa, se volete, che io non rinuncio a tacere, nonostante i tempi. Anch'io vorrei giocare duro e quindi, se mi volete, sarò ancora felice di farmi il megafono delle parole di un grande uomo che era Enzo Tortora. Onorevole Berardini. Scusate, mi ero dimenticato, l'avevo detto ieri sera. Voglio ringraziare davvero gli amici di Radio Radicale perché, come sempre peraltro, hanno seguito tutti i convegni, tutti i congressi, tutto quello che riguardava l'Unione e quindi la giustizia. Io sono contento che insieme a voi siamo riusciti anche ad aiutare Radio Radicale. Io dissi a suo tempo che mi iscrivevo a Radio Radicale proprio perché ritenevo importante salvare questa voce di libertà che deve essere un prezioso ausilio da conservare, non per noi penalisti, ma per l'intero Paese. Grazie ancora a Radio Radicale di avermi fatto compagnia e di aver fatto compagnia l'Unione anche in questi quattro anni. Grazie di tutto. Grazie, grazie davvero, Beniamino. Onorevole Berardini, anche a te la senza preghiera sui tempi. Va bene. Grazie, Beniamino. Sono stati anni che abbiamo vissuto insieme nel pieno della lotta politica, perché considero, e hai fatto bene a rivendicarlo, l'azione delle Camere penali, dell'Unione delle Camere penali, la più alta forma di nobiltà della politica. Il buio oltre la siepe è pesto e, come hai detto tu, Beniamino, come ha ribadito ieri Giorgio Spanger, è un buio che non ci si è presentato all'improvviso. Chi dice che all'improvviso è successo qualcosa di straordinario per cui ci troviamo di fronte ai barbari che governano questo Paese, beh, io credo che dobbiamo avere la lucidità di riconoscere che il buio che vediamo oggi di fronte si è determinato per quanto è accaduto in termini di erosione dei principi democratici in tutti i decenni precedenti. È stata un'escalation che ci ha portato ai nostri giorni. Devo dire, poco fa ha preso la parola Francesca Scopellini, come dimenticare che anche quella battaglia di giustizia è stata anche alimentata da un referendum sulla responsabilità civile del giudice, del magistrato, responsabilità civile che ancora oggi non c'è in Italia nonostante il popolo italiano abbia votato a stragrande maggioranza per aver fermato. Hanno fatto di tutto, fin da quando fu emanata la legge Vassalli, hanno fatto di tutto per non dare al magistrato che sbaglia la sua responsabilità, anche se può distruggere la vita delle persone. Guardate, io voglio soffermarmi soprattutto a quello che è accaduto sul discorso delle carceri, che è quello che mi ha visto più impegnata, soprattutto insieme con gli osservatori carceri delle Camere Penali. Perché vedete, ieri c'era qui Melillo, il dottor Melillo, e quando ci incontravamo quando chiedevamo di fare lo stralcio dell'intera riforma della giustizia che conteneva cose inaccettabili sia per noi del Partito Radicale che per le Camere Penali, Melillo, capo di gabinetto del governo Orlando, ci diceva, no, guardate, state attenti, è meglio tenere tutto insieme, anche per la riforma dell'ordinamento penitenziario. E poi abbiamo visto, possiamo dire che li abbiamo controllati giorno dopo giorno, anche con gli scioperi della fame che hanno visto coinvolti decine di migliaia di detenuti, abbiamo visto quanto sono state false le loro promesse, quando dicevano, è questione di giorni, di ore. Ma hanno rimandato sempre nel tempo e ci troviamo nella situazione attuale. Guardate che la situazione attuale sta peggiorando in un modo esponenziale. intanto la più grande preoccupazione che ho è che si sta tornando indietro in termini di trasparenza. Quel poco che avevamo conquistato in termini di trasparenza su quello che avviene negli istituti penitenziari, da questo punto di vista stiamo tornando indietro. Io so che a noi ci sono state negate le visite in alcune carceri, so che è successo anche alle camere penali, agli osservatori carcere, e questo vuol dire che non si vuol far conoscere quel che avviene là dentro. Sì, ha ricordato bene Francesca Scopelliti, più carcere, più carceri. Ma qui ci sono persone che si tolgono la vita, qui ci sono persone che non sono curate. Certo, può non essere simpatico a tutti Armando Verdiglione, ma uno che ha più di 70 anni, ha 74 anni, che è condannato, deve scontare ancora 5 anni, che si viene a consegnare, si consegna a lui in carcere. È gravemente malato, tanto che in un mese e mezzo ha perso 25 chili. Sì, mi spiegate il motivo per cui debba rimanere in carcere quando la legge prevede che possa avere una soluzione alternativa rispetto alla detenzione negli infami istituti penitenziari. Allora concludo. Come Partito Radicale siamo abituati, ce l'ha insegnato Pannella, a dar corpo quando vediamo che la situazione è veramente grave in termini di democrazia, di Stato di diritto, di erosione dei principi fondamentali. Abbiamo molto apprezzato quel che ha fatto la Corte Costituzionale. Gli abbiamo suggerito però di andarci dentro le celle, di non frequentare solamente i teatri, dialogando con i detenuti. È una cosa molto bella, però visto che avete questo potere almeno dal 1975, cioè da quando è stato varato l'ordinamento penitenziario, entrateci in quelle celle, in quelle immonde celle dove abbiamo ancora i WC a vista in alcune parti e dove sicuramente il principio della rieducazione non trova alcuna applicazione, ma soprattutto dove vige quel che è stato condannato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Vigono i trattamenti inumani e degradanti. Quindi bene la Corte Costituzionale. Anche il fatto che Lattanzi abbia detto ai detenuti, guardate, noi come giudici della Corte Costituzionale siamo lo scudo contro il potere, contro lo Stato che si fa potere violando i principi fondamentali, perché nessuno può violare quelli che sono i diritti umani fondamentali. Nessuno. Tanto è vero che è previsto un procedimento per cambiare la Costituzione. Non so quanto lo comprendano coloro che ci sono oggi. In forma di dialogo persino con loro, da qualche giorno spero che le carceri si uniscano. Forse chi governa oggi vuole le rivolte. Spero che le carceri con tutta la comunità penitenziaria si unisca. Abbiamo deciso di dialogare con la forma della non violenza attraverso lo sciopero della fame, persino con questo Governo, persino. Ma però vogliamo vedere quali saranno le risposte e siamo disposti ad andare avanti, andare avanti a lungo, fino alla fine, perché pensiamo che il momento sia veramente grave. Se volete, e concludo veramente c'è un tavolo dove potete firmare le proposte di legge, di iniziativa popolare che riguardano i vostri e i nostri temi. Le interdittive antimafia, i sequestri, il 41 bis, vietato parlarne, l'ergastolo stativo, l'amnistia. Sono queste le vostre e nostre proposte di una vita. Vi invitiamo a fermare queste proposte di legge e, se potete, come diversi di voi hanno fatto, ad iscrivervi al Partito Radicale. Grazie. Chiamo al microfono per il suo intervento il ministro collega avvocato Enrico Costa. No. So che a lui mi ha piacere essere chiamato. Ho detto ministro del culto perché, devo dire, ormai abbiamo in questo Parlamento soltanto più un potere di raccomandazione, nel senso buono, ecco, nei confronti di questa maggioranza. State attenti a qualche pubblico ministero del resto. Ecco. No, io ci tenevo ad essere qua con voi. Ci tenevo perché, e l'ho detto più volte, mi sento a casa, ma soprattutto respiro un'aria che non respiro in Parlamento in questo periodo, un'aria diversa, un'aria che è fondata su dei principi, è fondata su delle idee, è fondata su delle argomentazioni, è fondata su una storia, è fondata sulla civiltà giuridica. Vi devo dire che oggi io leggevo il titolo del vostro congresso e la tutela delle garanzie è una battaglia che ci deve vedere tutti insieme molto determinati. Perché oggi le garanzie, e lo vediamo norma dopo norma, proposta dopo proposta, sono considerate dei fastidiosi impedimenti, dei fastidiosi impedimenti rispetto all'obiettivo da raggiungere, che è un obiettivo certamente nobile, che è quello della celerità, quello della rapidità. E gli avvocati sono considerati coloro che danno voce a questi fastidiosi impedimenti. lo si percepisce, non posso dire lo si ascolta nell'aula della Commissione, perché questa maggioranza non parla, questa maggioranza ci fa precipitare delle norme, non le argomenta e non cerca neanche di contraddirci. Quando cerchiamo di avanzare le nostre idee, le nostre controproposte, i nostri emendamenti, non parlano, non parlano e non emendano. Questo è molto pericoloso, perché viene meno una qualsiasi capacità di dibattito. Dal dibattito, anche su aspetti tecnici, meramente tecnici, possono venire fuori dei miglioramenti. Ebbene, io faccio un esempio quando dico l'avvocato è sotto attacco. Il Ministro Bonafede ha fatto una lettera, vi ha inviato una lettera, ho letto sulle agenzie e ha puntato tutto sul tema della prescrizione. Perché la prescrizione? Perché per loro la prescrizione è ciò che dà voce alle tecniche dilatorie delle difese. Noi dobbiamo combattere le tecniche dilatorie delle difese e dobbiamo quindi cercare di abbattere l'istituto della prescrizione, dimenticando tante cose, dimenticando che il 65-70% dei procedimenti va in prescrizione durante le indagini preliminari, quando le difese non toccano palla, dimenticando che ci sono uffici giudiziari che hanno il 30-40% di prescrizione e uffici giudiziari che hanno il 3% di prescrizione. Se fosse colpa dell'istituto, molto probabilmente non ci sarebbe una disomogeneità tanto palese. Qua c'è invece un problema di organizzazione, ma è molto difficile mettere mano al profilo organizzativo. Bisogna cercare di agire con il cacciavite e non con la scimitarra. È più facile forse fare un tweet, fare uno slogan demagogico piuttosto che cercare di operare chirurgicamente, come dichiara il Ministro, ma di chirurgico non c'è proprio niente rispetto a quello che fa questa maggioranza. Ebbene, io dico che il vostro ruolo è fondamentale, come lo è stato ad esempio nelle audizioni sulla anticorruzione, dove avete portato tante ragioni significative, che vi dico già da subito. Non verranno prese minimamente in considerazione, se non dagli emendamenti di una parte della Commissione che però non vince nei numeri. Bene, noi quotidianamente cercheremo di far prevalere le idee, le valutazioni, le critiche, la storia, la dottrina, cercando di giorno dopo giorno parlare al Paese. Cercando di far percepire al Paese che la civiltà giuridica non può piegarsi rispetto ai titoli dei giornali, rispetto ai tweet, rispetto agli slogan. Ed è fondamentale il vostro lavoro, perché voi non fate sconti a nessuno. Non avete mai fatto sconti. Avete una linea chiara ed è una linea che sicuramente sarà fondamentale per tutti coloro che operano nel campo della giustizia. Due impegni. Un impegno a portare avanti la proposta di legge costituzionale sulla separazione delle carriere. Ho detto a portare avanti, perché la nostra facoltà è di chiedere la calendarizzazione. Ovviamente ci vorrà la collaborazione di tutti perché ci sia un esito positivo. Un altro tema a cui mi sta particolarmente a cuore, lo sapete perché ne ho già parlato tante volte e devo dire che gli interventi che mi hanno preceduto lo hanno anticipato, che è il tema dell'ingiusta detenzione. Noi abbiamo mille casi l'anno di ingiusta detenzione riconosciuta e di fronte a questi mille casi l'anno paga solo lo Stato. Ma paga lo Stato perché nessuno di questi atti finisce sulla scrivania del titolare dell'azione disciplinare, che potrà decidere se mandare avanti o meno. Io ho presentato una proposta di legge molto semplice, l'automatismo. Il provvedimento della Corte d'Appello che riconosce l'ingiusta detenzione, trasmissione automatica al titolare dell'azione disciplinare per le valutazioni di competenza. Nella scorsa legislatura un rappresentante dell'ANM l'ha definita un'intimidazione. A me pare semplicemente un atto di buonsenso. Vi ringrazio veramente moltissimo per quanto mi avete dato in tutti questi anni di politica. Io ringrazio tantissimo per l'affetto che mi ha dato, per i consigli. Devo dire, tante volte anche per gli sfoghi che abbiamo avuto reciproci. Beniamino Migliucci, ringrazio Francesco Petrelli, ringrazio tutti voi perché veramente mi avete, diciamo, avete animato una mia passione fortissima, una mia fortissima passione civile che in certi ambienti parlamentari molte volte rischia di, non dico addormentarsi, ma di non essere così attiva. Ecco, voi l'avete stimolata e tenuta sempre accesa. Grazie. Grazie al Ministro Costa. Chiedo scusa. La Commissione verifica poteri ha necessità di conferire con i rappresentanti della Camera Penale di Cosenza, i quali sono pregati di rivolgersi direttamente alla Commissione verifica poteri. Allora, cominciamo i lavori della giornata. Alla parola l'Avvocato Armando Veneto. Armando, purtroppo anche per te dovrò essere feroce. Non me lo dire, lo so. I miei rapporti però con te sono tali che non me lo consenti. Sta perdendo tempo lui, eh? Io non concentro. Grazie, grazie. Sta facendo perdere tempo lui. Malgrado tutto, un caro saluto ai Presidenti che sono qui. Il senso vero della nostra fraternità. Sono tutti lì, messi insieme dopo anni di servizio. Grazie a loro. A voi tutti un abbraccio fraterno. Alle avvocatesse, agli avvocati che sono presenti. Io non vi farò l'elenco della giornata. La mattinata di solito si apre con le cifre dello spread. Perché non la faccio? Perché l'ho scritto in una breve memoria riassuntiva una sorta di motivi aggiunti, conclusivi, che mi dicono in distribuzione. Leggerete lì. Vi posso dire con grande soddisfazione che abbiamo raggiunto cifre che prima non c'erano. L'81% delle presenze delle 127 Camere penali italiane ai 13 incontri che abbiamo avuto nel biennio, due e poco più di due ogni mese, ogni due mesi, come prescrive lo Statuto, e 250 circa interventi di altrettanti colleghi nel corso delle quattro ore che ogni volta abbiamo dedicato, sottraendo i sabato alle nostre famiglie, alla attività di lavoro. Un lavoro che abbiamo fatto senza rimborso delle spese. Questo lo dico per poter ringraziare ancora una volta tutti coloro che con abnegazione hanno dato il loro impegno per la realizzazione di quello che oggi l'Unione è, con orgoglio davanti al Paese. Lo possiamo dire perché siamo orgogliosi di questo. Di cosa ha parlato il Consiglio? Dei temi, e li abbiamo visti già da prima, già da due anni, or sono da quando è iniziata, ma credo anche da prima naturalmente, da quando io ho avuto il privilegio di presiedere l'assise dell'Unione. I temi fondamentali li abbiamo percorsi tutti, dalla separazione delle carriere all'attività forsennata, con la quale siamo riusciti a raccogliere 72 mila firme sul territorio. Sostituendoci all'unica Camera penale che aveva detto che non avrebbe raccolto le firme, in quella sede abbiamo raccolto 500 firme d'ufficio. Naturalmente io non censuro le ragioni per le quali quella Camera ha detto che non aderiva, ma voglio dire che eravamo presenti in supplenza anche rispetto al tema che ci affascinava e ci affascina, quella della separazione delle carriere. Siamo qui a dirci non solo orgogliosamente che abbiamo adempiuto il nostro dovere, ma per dare alcuni cenni che possono sembrare significativi, e lo sono d'altro canto. La querelle sulla presenza del Presidente eletto dell'Unione alla riunione delle Camere penali, al Consiglio delle Camere penali, è passata all'unanimità perché non c'è stato nessuno che l'abbia contraddetta, la tesi, in virtù della quale è un bene che il Presidente eletto sia presente ai Consigli, non solo perché ci dà così in diretta le notizie che sono relative all'impegno e quanto impegno ha avuto questo biennio, ha svolto la giunta presenuta mirabilmente da Benemino Migliucci, ma soprattutto per sentire che cosa dicono i territori di questa attività, perché le critiche, e sono state sempre critiche costruttive, e io ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, le critiche servono per raddrizzare alcuni percorsi, per accentuarne di altri. Noi dobbiamo vivere un rapporto colloquiale che è quello che aspireremmo a realizzare all'interno del processo, ma dobbiamo vivere già noi, dando l'esempio in maniera che esondando questo metodo dal ristretto ambito nel quale lo manteniamo in vita, esso intrida di sé il senso, il significato che dobbiamo dare al nostro rapporto con la comunità, con le autorità giudiziarie del luogo nel quale operiamo e viviamo. E dunque questa querelle ha avuto questo risultato. E un altro elemento fondante, a nostro parere, è costituito dalla circostanza della operatività, del significato da dare al consesso, costituito da tutti i presidenti delle Camere Penali italiane. È un organo politico, e lo abbiamo segnalato formalmente, che elabora prospettive, che discute, dibatte, propone, ma è la Giunta che esercita poi l'attività concreta della messa alla prova delle varie opzioni che nascono dal rapporto dialettico e dal conflitto giusto, doveroso, che si manifesta all'interno del Consiglio stesso. Dunque questi due capisaldi li abbiamo fissati e all'interno di questi due capisaldi, ancora una volta torniamo allo spread e alla fredda enumerazione, quattro commissioni di approfondimento sono state realizzate. Una, ad una abbiamo chiesto anche di partecipare, Michele Cerabona, che è qui, saluto dal podio di una nostra amicizia ormai quarantennale. Va bene così i quaranta, ma no bene, meno male. Era un giovine notte, quindi prima. Io ero già anziano al tempo. Poi abbiamo ascoltato anche tre relazioni tecniche di soggetti, di amici, di colleghi che non partecipavano al Consiglio, ma che abbiamo chiamato come esperti perché ci facessero le loro relazioni. Abbiamo messo mano ad attività che non trascendono naturalmente i compiti del Consiglio, ma riguardano proprio la politica generale dell'Unione delle Camere Penali. Ma questo lo leggerete perché io l'ho scritto. Il tema di oggi, e chiudo dando spazio alla bagarre che adesso si deve aprire, io sono l'ultimo dei moicani, tranquillizzo tutti e poi diamo sfogo alle nostre voluttuose volontà e desideri. L'ultima cosa che volevo dirvi, il buio oltre la siepe, due anni fa abbiamo detto, stiamoci attenti, ci sono i verbali, sono a vostra disposizione, stiamoci attenti. La deriva è preoccupante, avevamo ragione, vedevamo bene perché i sensori applicati alle periferie danno questo senso. Ieri le Camere Penali sono stati investite quasi di sorpresa dalla richiesta della magistratura di trovare in noi un alleato nella battaglia per i diritti fondamentali. Ma il senso di questa richiesta lo abbiamo compreso nella sua intera accezione. Io spero di sì. Non si tratta semplicemente di condivisione dell'unico comune obiettivo, che è l'obiettivo della giustizia, non solo della legalità formale, ma della giustizia vera. Ma è anche un altro aspetto. La magistratura sente vacillare il terreno sotto i piedi e vuole la nostra adesione per mantenere in vita il suo potere. Se non comprendiamo questo, non abbiamo capito niente. Lo ha già fatto l'incontro di Roma dei sei procuratori più noti della Repubblica d'Italia per chiedere che venisse messo da parte il disegno di legge sulle intercettazioni. Nel sintomo preciso chiedevano la nostra collaborazione. Ma perché? Perché c'era un privilegio aggiunto che nella legge faceva Capolino, e non soltanto Capolino, era il soprapotere della magistratura inquirente a decidere quale dovesse essere la parte di conversazione ostensibile al magistrato decidente. Questo era il tema. Ed è questo potere di applicare gli omississi, di decidere cosa fare, di costruire il doppio fascicolo, l'uno al dibattimento e l'altro riservatamente nelle procure, per addomesticare i temi che poi dovranno essere vissuti semplicemente perché ormai costruiti negli uffici di procura che ci impressiona e ci preoccupa. E' questo retroagire del processo nelle caserme e poi negli uffici di procura che ci terrorizza e ci invita alla battaglia. Quindi attenzione, soprattutto a voi giovani per i quali noi parliamo. La nostra toga è consunta ormai. Noi stiamo finendo. E nel momento nel quale andiamo finendo, credetemi, la sintesi non si fa sulle cose belle che abbiamo fatto, ma sugli errori di omissione che abbiamo consumato. E questo errore di omissione io non voglio portarlo con me nella tomba. Io voglio darlo a voi, giovani, amici, colleghi. State attenti a quello che succede. La bella tradizione italiana del foro, la bella tradizione italiana dell'avvocato che combatte, la bella tradizione italiana che è impersonata dai ricordi ormai sbiaditi e affidata a voi, giovani. Dovete saper metrare ragione per gestire la vostra vita. E quale può essere? Io non mi impanco. Naturalmente a censore. Vi dico soltanto quello che la mia modesta esperienza può consentire di passare a tutti voi. Noi dobbiamo essere sui territori tutti i giorni. Quando si parlava delle cose aure e meravigliose ieri che possono accadere, io pensavo a quello che noi sopportiamo nelle aule di tribunale tutti i giorni, con questa smaccata disponibilità dei giudici a proteggere il pubblico ministero, con questa evidente lesione anche delle nostre dignità di fronte alla gente che ascolta, di fronte all'imputato, di fronte alla parte offesa. E pensavo ai soprusi di tanti nanerottoli del processo penale che, subito dopo l'uditorato, hanno appreso ormai definitivamente che loro sono dei semidei e che, pertanto, non possono essere messi in discussione. Come lo facciamo, questo lavoro improbo, ma vero, autentico? Incominciamo a chiamare i politici di turno, dai Cinque Stelle alle Lega a tutti, magari in convegni anche locali, con cinquanta persone, e spieghiamo loro qual è il senso della battaglia che noi portiamo avanti, che l'Unione porta avanti. Incominciamo a cercare di sradicare i luoghi comuni, cerchiamo di portarli all'impegno nostro perché si confrontino con noi. Lo abbiamo detto prima delle elezioni, non lo abbiamo fatto. Avevamo detto chiamiamo i candidati perché ci dicano che senso ha per loro e che tipo di giustizia poi andranno a sostenere. Facciamolo ora, altrimenti è troppo tardi, guardate. E poi i vertici si acconceranno per ragioni politiche, ma non per ragioni vere e autentiche, che sono quelle che derivano dalla nostra attività. Bene, resto a quello che il Consiglio si è inventato. Noi siamo operatori sociali, si voglia o non si voglia. Non difendiamo il singolo cliente. Nel difendere il cliente difendiamo i diritti del quale egli è portatore e quindi i diritti della gente e di tutta la gente, indipendentemente dal fatto che si sia affedato a questo o a quell'avvocato. E questa è la grande funzione. E questo è il senso che dà lucentezza alla nostra toga. Siatene fieri, cari amici, così come noi abbiamo creduto di poterne essere fieri al momento nel quale, tanti anni fa, incominciamo questo meraviglioso cammino, quello di essere interprete delle grandi istanze che la storia non ha mai bocciato. La storia del difensore di Luigi XVI, che era già condannato e tuttavia venne difeso come meglio non si poteva davanti al Tribunale Rivoluzionario a costo della vita di quel grande avvocato. La storia di tanti piccoli e grandi episodi di eroismo. Siatene fieri, siatene orgogliosi. Voi siete gli avvocati, i veri avvocati d'Italia. Auguri, buon lavoro a tutti. Grazie. 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 Sono state presentate nei termini due candidature alla Presidenza, l'avvocato Gian Domenico Cagliazza e l'avvocato Renato Borzone. Hanno sorteggiato tra di loro l'ordine degli interventi e l'ordine degli interventi è questo. Prima l'avvocato Cagliazza, poi l'avvocato Borzone. prima di dare la parola al collega Cagliazza, do la parola al collega Spigarelli per un suo brevissimo intervento. Solo una citazione, un ricordo, e viene bene dopo che un altro gagliardo personaggio storico dell'Unione ha scosso le nostre coscienze e i nostri cuori. Quest'anno è venuto a mancare Vittorio Rossi. Era un grande avvocato di Modena, era un liberale, bene, era un uomo che amava le camere penali, era un uomo che sapreva abbracciare le idee e le persone. Collega Cagliazza, L'Ufficio di Presidenza non ha voluto stabilire anticipatamente i tempi dei vostri interventi, però mi affido alla vostra comprensione. Dobbiamo andare avanti con la discussione, poi. funziona un cronometro qui, in modo che con Renato ci eravamo dati un ordine di grandezza, insomma, che cercheremo di rispettare. Avevamo detto tre quarti d'ora... Facciamo quattro minuti. Non bene. Va bene, insomma, fate voi. L'ordine di grandezza che ci eravamo dati è questo, ma fate voi. Al termine dei vostri interventi vi chiederò una cosa che anticipo. Io ho sempre richiesto, come Presidente, che dopo le elezioni i due candidati, il vincitore e lo sconfitto, si stringano la mano. Stamattina vi voglio chiedere che prima che si cominci a votare vi stringiate la mano, che poi ripeterete successivamente. Gustavo, io e Renato abbiamo cominciato a fare camera penale insieme ormai 25 anni fa e di più, Valerio. Quindi ci stringeremo la mano e ci stringiamo la mano in ogni momento in cui è necessario, perché ci vogliamo bene e ci conosciamo da tanti anni. Poi abbiamo l'avventura e l'avventura di trovarci qui con questo enorme onore di essere candidati e quindi futuro Presidente l'uno o l'altro è per noi un motivo di grande orgoglio. Carissimi congressisti di questo splendido congresso, noi arriviamo qui al termine di un percorso che è durato molti mesi. A volte questo si sottovaluta quando carichiamo l'evento del congresso di aspettative che poi sembrano tradite, come di un dibattito che non abbia il tempo sufficiente per svilupparsi. In realtà noi, dal momento in cui abbiamo annunciato la nostra candidatura, abbiamo, io certamente, ma so anche Renato, abbiamo girato tutta l'Italia, da tutta l'Italia, da tutti coloro che hanno voluto parlare con noi, da tutte le camere penali che hanno voluto sapere perché ci candidavamo, per quale ragione. Con quali idee. E in questo viaggio che è stato faticoso, straordinario, emozionante, io ho trovato conferma di quello che avevamo detto e scritto già nella lettera di candidatura. Abbiamo toccato con mano la crescita straordinaria di questo soggetto associativo che è l'Unione delle Camere Penali Italiane. Una crescita vertiginosa e una crescita che è certo il frutto della semina di una lunga storia, ma che in questi ultimi anni è esplosa attraverso una serie di intuizioni politiche che hanno determinata. Il coinvolgimento delle Camere Penali Territoriali nella politica nazionale è stato ed è il merito più tangibile della politica di questi ultimi anni. Le Camere Penali Territoriali non vogliono più partecipare alla politica nazionale solo al momento del Congresso o nell'attività di controllo e di interlocuzione del Consiglio delle Camere Penali, ma vogliono essere protagoniste sui territori di politica nazionale che vogliono fare e condividere. Perché non bisogna riconoscere il risultato politico così straordinario di questa intuizione che è nei numeri, nei numeri delle partecipazioni, nell'esito straordinario della campagna di raccolta delle firme. Quella follia di raccogliere le firme in prima persona, senza appoggi, senza deleghe, per un soggetto politico e per persone non abituate a questo, che sono andati nelle strade a mettere dei banchetti, io lo dico sempre, a mettere le proprie grisaglie per strada, e che hanno trovato in questo non solo l'esaltazione di un obiettivo politico concreto da raggiungere, ma l'acquisizione forte e definitiva di un sentimento di identità, la comprensione che è possibile fare molto di più di quello che abbiamo fatto finora. Questo, io dico, significa la crescita di un soggetto definitivamente affermatosi come soggetto politico di primo piano in questo Paese. E questo è il senso della mia, della nostra candidatura, quando noi diciamo in continuità politica. Non è una scelta di tifoseria, non è la curva sud e la curva nord, non sono gli affetti e le amicizie, ma una fredda, lucida, razionalità politica che ci fa dire abbiamo fatto dei passi straordinari in avanti, facciamone tesoro, proseguiamo su questa strada. E io non ho nessuna remora a dire e a riconoscere che in questi quattro anni, in questa giunta, dobbiamo riconoscere questo successo. Che significa, Renato, quando usi queste formule? Parliamo di unione, non parliamo di giunte. Noi ci stiamo candidando con giunte, l'unione sono le sue giunte, l'unione è il sommarsi della storia delle giunte. Poi la regola deve valere sempre. Non è che quando dobbiamo riconoscere dei meriti dobbiamo parlare dell'unione, se dobbiamo parlare di demeriti dobbiamo parlare della giunta. Troviamo un linguaggio unico, armonico. Questo è il senso della nostra continuità. Nient'altro che questo, non ci interessano scontri di tifoserie. Attorno alla raccolta delle firme si è materializzata la diversità di due idee di essere unione delle camere penali. Perché siamo tutti per la separazione delle carriere. Ma se oggi una proposta di legge di riforma costituzionale è davanti alla Camera e sarà calendarizzata, non è perché siamo tutti per la separazione delle carriere, ma per quanti hanno lavorato per sei mesi a raccogliere le firme sui tavoli e per strada. Se fosse per chi è per la separazione delle carriere, senza aver fatto altro che apporre solo la propria firma a tutto concedere, oggi noi non avremmo un risultato politico che è già straordinario. Perché ormai il tema della separazione delle carriere non è più il tema dei penalisti italiani. non è più l'ossessione che noi sterilmente dobbiamo porre ogni volta, ma è una scadenza parlamentare. Ed è una volontà popolare nelle forme consentite con la quale l'intero Parlamento e il Paese dovrà fare i conti, dovrà discutere senza che sia più l'unione delle camere penali a doversela intestare. E penso che chi ha scelto legittimamente, intendiamoci bene, qui non è che sto facendo l'elenco dei buoni e dei cattivi, chi ha legittimamente scelto di non investire, di non credere in quella campagna di raccolta delle firme, ritenendola un errore, una cosa marginale, una cosa non tra le più importanti, non prioritaria, per le mille legittime ragioni per cui si può fare una simile scelta. Io credo che ha commesso non solo un errore politico, ma soprattutto ha perso il polso di quello che è questa associazione e di quella che questa associazione è diventata intorno a questa straordinaria, inedita iniziativa. si rischia di non capire dove batte il cuore di questa associazione, che non vuole più tornare indietro da questa esperienza, che vuole continuare ad essere protagonista perché ha toccato con mano la differenza tra avere un'idea e realizzare un'idea. Le idee non servono a niente se dobbiamo snocciolarle per dire che siamo per questo, per questo, per questo e per quell'altro. Noi dobbiamo trovare come mangiarle le idee e come farle mangiare alle persone, come renderle concrete, come rendere carne viva. Questo è successo. Da questo non si torna indietro. Questa è la nostra continuità. L'unione dei territori, l'unione della raccolta delle firme, l'unione dell'open day. Ma voi lo sapete che io quasi in nessuna delle decine di incontri non ho avuto rivolta la domanda, ma lo mantenete l'open day. Se lo vogliamo liquidare come un posto dove si va in discoteca non abbiamo capito nulla del cuore di questa associazione. Siamo lontani dal cuore e dalla intelligenza di quello che è questa associazione. Non lo commettete questo errore. Perché tutto questo ci torna straordinariamente utile? Perché andiamo incontro a un periodo terribile, ci siamo già dentro. È la prima cosa di cui si deve preoccupare chi si candida alla responsabilità politica di un'associazione come questa e testarne la forza interna di coesione. E questo, non mi ripeto, ci rasserena in un momento terribile che cambia i parametri della valutazione nostra dell'agire politico. Non è che quello che abbiamo fatto fino a ora o fino a prima della raccolta delle firme è roba che non serve a nulla. Abbiamo seminato per tutti gli anni della storia dell'Unione cose straordinarie, che è una storia straordinaria. Ma oggi non basta più. Perché noi ci siamo misurati sempre con il populismo penale. Sempre. Ma il populismo penale era, come possiamo dire, embedded. Era nascosto in una dialettica politica che tendeva a negarlo. Si facevano le leggi, sull'incidente stradale, perché la campagna di stampa sull'incidente stradale, sull'aumento della pena, dello stupro, perché c'era stato lo stupro che aveva... Quello è il populismo penale. Quindi noi sempre con questo abbiamo avuto a che fare. Ma è la prima volta che abbiamo a che fare con un populismo che si è fatto governo e che rivendica il populismo e che realizza il suo populismo proprio sui temi. O innanzitutto sui temi, perché sono a costo zero i temi sulla giustizia penale, che sono l'esatto contrario, la negazione di quello che noi siamo e abbiamo fatto in tutti questi anni. Ed è una politica, state attenti, che si è con un'improvvisa, virulenta addirittura, arroganza, affrancata da ogni pretesa di controllo. da parte della magistratura, stiamo attenti. Noi abbiamo assistito per 25 anni ad una politica asservita alla magistratura. Noi abbiamo visto un potere della magistratura esondare oltre ogni limite costituzionale al controllo, alla determinazione della vita politica. Noi non dimentichiamo e non dimenticheremo e non dobbiamo dimenticare in nessun momento dalla conferenza stampa con le barbe incolte di Di Pietro e Borrelli contro il decreto biondi. A 25 anni di storia nel quale erano le procure che facevano i governi. Seminando nell'opinione pubblica, seminando nell'opinione pubblica, ne hanno la principale responsabilità. L'idea che la politica è solo corruzione, è solo mafia, che le istituzioni, senza il salvifico intervento della magistratura, sono destinate a morire. Il risultato di Semina dopo 25 anni è che il populismo travolge, ci travolge e rischia di travolgere anche i suoi mentori incoscienti e irresponsabili. Guardate con che baldanza Salvini apre l'avviso di garanzia in diretta Facebook e come redarguisce il procuratore di Catania, che non ha seguito la sua indicazione di far scendere in vincoli, in catene, il migrante sarebbe stato un colpo da tre punti percentuali di consenso. Allora noi questo lo dobbiamo capire. Dentro di noi ci verrebbe da dire che vi sta bene, ma dobbiamo avere la lucidità politica di capire che è questo mostro che è nato da tutto ciò e che si ribella perfino a chi lo ha generato, travolge e nella sua novità. Sconcerta anche il campo della magistratura, lo abbiamo visto, lo abbiamo capito, prese di posizioni contraddittorie, forti. Noi dobbiamo essere pronti a capire, a inserirci, a valorizzare questi fermenti, questi smarrimenti. Non importa quali siano le ragioni per le quali si possano trovare convergenze. Questa è una regola della politica, ce lo dobbiamo dire una volta per tutti. Quando si ha un obiettivo politico, quello che conta è la linearità dell'obiettivo. Chiunque voglia concorrere, per qualunque sua personale e diversa ragione ha il perseguimento di un obiettivo che noi riteniamo nostro è il benvenuto nella chiarezza, naturalmente, nella limpidità delle posizioni. Dunque questo è il quadro politico, populismo che si è fatto governo. E allora la forza della nostra associazione deve essere moltiplicata, complicata, perché sennò verremo triturati. E come facciamo a fare questo? Può davvero essere sufficiente l'elencazione orgogliosa dei nostri pensieri, dei nostri programmi, dei nostri punti di vista? Su quelli siamo d'accordo tutti. Se voi leggete i nostri due programmi, l'elencazione dei temi che consideriamo cruciali della nostra identità culturale e politica, sono perfettamente sovrapponibili. Noi li abbiamo approfonditi, vi rinvio alla lettura del nostro programma. Ma abbiamo cercato di dire che non basta più l'elenco dei sogni se sono sogni. Io dico delle idee, non c'è bisogno di sognare. Poi i sogni, una volta che uno deve sognare, è meglio che siano irragionevoli, piuttosto che ragionevoli, francamente. Ma quali sono questi temi? Lo voglio qui ricordare, perché non ci siano equivoci su quale siano le nostre idee, i temi su cui intendiamo intervenire, lo abbiamo diffusamente detto nel programma. Lo statuto del difensore, il tema inconcepibile ed inaccettabile dell'intercettazione delle conversazioni tra difensore ed assistito, parliamo naturalmente delle intercettazioni indirette, in violazione manifesta della testualità del comando normativo. La riqualificazione è indispensabile del difensore. Formazione, specializzazione, sono i temi nostri su cui ci riconosciamo, è il nostro terreno, il difensore d'ufficio. Abbiamo fatto dei grandi passi avanti con la riforma del 2015, di Paola Rebecchi, il lavoro di Paola Rebecchi e della Commissione. Possiamo anche non avere riserva a nominarle quando parliamo della riforma della difesa d'ufficio. Se diamo un ricordo a chi ne è stata una protagonista amata da tutto il Congresso, penso che non facciamo nulla di male a farlo. Quel percorso deve essere continuato, perché è un percorso che va verso il recupero della riforma del 2001, dove il difensore d'ufficio era l'idea di una elite di difensori penali. Per loro e solo per loro era prevista la necessità di una formazione specialistica, i due anni, eccetera. Il contrario di quello che è accaduto nella realtà, l'idea che essendo una nomina di mano pubblica dovesse garantire qualità e dovesse essere equiparata alla difesa fiduciaria anche sotto il profilo retributivo. Oggi siamo tutti spettatori di una difficile crescita di questa qualità, sulla quale siamo impegnati spasmodicamente e dobbiamo continuare. e da una indecenza dei criteri, delle modalità e dei tempi della retribuzione del difensore d'ufficio. Ma noi dobbiamo difendere l'idea originaria di quella riforma per poter pretendere dignità e qualità della figura del difensore d'ufficio. Le nostre idee sull'ordinamento giudiziario, ma dobbiamo veramente fare l'elenco qui? Ma dobbiamo veramente ripeterci? A parte che il progetto di riforma della separazione delle carriere non riguarda solo, come sapete, la separazione delle carriere, ma tocca punti fondamentali. Intanto riafferma l'indipendenza del Pubblico Ministero una volta per tutte. Non so che cosa dobbiamo fare, se dobbiamo mettere dei cartelli, diteci che cosa dobbiamo fare per non sentirci dire di volta in volta dai nostri ospiti, graditissimi magistrati nei nostri dibattiti che voi volete portare alla sottomissione del Pubblico Ministero. Leggete il disegno di legge, di riforma, di iniziativa popolare che lascia, integra l'indipendenza del Pubblico Ministero. Ma non c'è solo quello, c'è il tema dell'obbligatorietà dell'azione penale che andiamo ad affrontare con determinazione. i temi dei distacchi dei pubblici ministeri e dei magistrati nei ministeri. Non lo so voi, io me ne occupo, ho raccolto le firme sui referendum, era il 1980, insomma il tema mi è abbastanza chiaro, non so come dire. Sono temi tutti cruciali. La difesa dell'idea costituzionale del processo penale. L'aggressione ai principi basilari fondamentali del processo penale si è fatta insostenibile. E ora abbiamo capito tutti, ma con un ritardo colpevole che dobbiamo riconoscere noi avvocati. Abbiamo capito tutto, abbiamo capito solo ora cosa significa e cosa significavano i segnali di allarme che ci davano i colleghi che esercitano la loro professione in Sicilia, in Calabria, in Campania, in Puglia, dove c'è un diritto penale, un diritto processuale di guerra. E' quel segnale che ci veniva dato da questi autentici avamposti della difesa dei diritti costituzionali dei cittadini e delle persone interessate da una vicenda penale. Da questo abbiamo ben presto capito e toccato con mano il contagio che ci ha travolto. e ci sta travolgendo tutti. Basti l'esempio delle misure di prevenzione patrimoniale, che pensavamo essere un tema che riguardasse aree circoscritte, che è diventato, io lo ricordo sempre, il procuratore Pignatone quando ha preso servizio a Roma, sono ormai quasi otto anni, sette anni fa, disse che il processo penale non funziona, è l'aggressione dei patrimoni. Il tema delle impugnazioni, la riforma delle impugnazioni, che crea secondo me qualche equivoco anche tra di noi. Legittimo, ci mancherebbe altro. Qui non è in discussione la qualità dell'atto di impugnazione. E noi lavoriamo strenuamente le Camere Penali Territoriali, la Scuola Nazionale, l'Unione, per la formazione continua nostra. Quello che non è accettabile è che un'impugnazione, una qualità o una mancanza di qualità, di alto standing, diciamo così, dell'atto di impugnazione, debba tradursi attraverso il giudizio di inammissibilità nella negazione del diritto dell'assistito ad un secondo grado di giudizio. Questo è il tema di questa riforma pericolosissima, contro la quale il nostro impegno deve essere strenuo. E potrei continuare così, sull'abuso della custodia cautelare, abbiamo appena licenziato una piccola ricerca che dice tutto. Vi dico solo che ancora adesso non noi, ma il Ministero di giustizia non è in possesso del dato di quante siano le misure cautelari, o meglio, le richieste di misure cautelari rispetto alle misure cautelari risposte. È un mistero. Non c'è verso di avere questo dato che sarebbe la illuminazione più evidente, poi al libero giudizio di tutti, alla discussione di tutti, ma se funziona la famosa terzietà del giudice delle indagini preliminari nella valutazione delle misure cautelari. Non c'è verso, neanche il Ministero lo ha questo dato. Tutti i temi sui quali abbiamo elencato una serie di iniziative credo importanti che intendiamo adottare. Il tema del carcere. Ma qui funzionerà il principio di realtà, lo scriviamo anche nel programma. Siamo già 60.000 detenuti. Ci sono già le prime rivolte. L'autusità politica. Di pensare solo al segnale che devi dare a un'opinione pubblica disinformata. La necessità di dire che basta la certezza della pena, il carcere. Gli esploderà in mano. Non si possono buttare a mare tre anni di lavori degli stati generali dell'esecuzione che hanno rappresentato il coinvolgimento di una tale varietà di soggetti politici, sociali e culturali, che il loro lavoro rappresenta un macigno che è illusorio perfino per questi signori di poter nascondere, fraintendere e far dimenticare. E l'Unione sarà in prima fila a rivendicare e a proseguire su quel percorso di lotta autentica politica. Il tema della informazione giudiziaria, su cui tornerò in modo un po' più approfondito. Il tema dell'Europa. Noi abbiamo nel capitolo nostro, abbiamo voluto dire, ma noi abbiamo con noi Paola Rubini, che ha fatto un lavoro straordinario nella Commissione, nell'Osservatorio Europa. E noi diciamo difesa dell'Europa e difesa dall'Europa. Terreno scivoloso, terreno pericolosissimo. Ma la vicenda Taricco è la dimostrazione, intanto è la dimostrazione concreta della complessità del rapporto tra il legislatore nazionale e il giudice europeo, ma è anche la dimostrazione di come, lo ricordava bene Beniamino ieri, l'iniziativa dei penalisti italiani può essere concretamente efficiente nell'affrontare e risolvere un problema di quella importanza e di quella complessità come è stato. Ora, sono tutti questi temi, ripeto, sui quali c'è un consenso assoluto. Non sono misurabili differenze, ma il punto è che elencarli non basta. Se posso segnalarvi una diversità del nostro programma, una diversità della mia candidatura, è nel tentativo di ragionare di come andare oltre un'elencazione che avrei potuto fare qui per un'ora, chiedendovi applausi su ciascun passaggio, perché siamo tutti d'accordo. Ma io non capisco, Renato, te lo dico con amicizia, con affetto, con rispetto per il tuo lavoro, per quello che hai fatto, per il tuo programma, ma io non so che cosa significhi che l'Unione deve divenire faro attraverso la sua alta elaborazione. Non so cosa significhi che non devono trovare luogo nei collegi atteggiamenti culturali ostidi al giudizio di legittimità. Lo so che cosa significa, ma la domanda è come facciamo tutto questo. Un impegno politico deve indicare la strada di strumenti per affermare le proprie idee, non solamente affermare le proprie idee. Immaginando che affermandole, battendo i pugni, sventolando le bandiere, le idee camminino, non è così. Non è così, non funziona così la politica, non ha mai funzionato così, non la possiamo inventare ora così. Allora noi ci siamo sforzati di immaginare degli strumenti e su questo io voglio chiedervi l'attenzione. Potremmo sbagliare naturalmente. Pensiamo che siano idee su cui si può lavorare bene. La prima, l'avete letta, è promuovere la redazione di un manifesto sulla giustizia penale liberale. Il manifesto è uno strumento politico secolare, ogni qualvolta, nei contesti più vari, dalle grandi rivoluzioni, all'arte, alla razza, alle idee razziste. Ogni qualvolta si è sentito la necessità di dovere dare corpo e forza, di dover scrivere uno statuto di una idea. Si pensa al manifesto. Cioè il luogo dove una discussione attenta, approfondita, accurata, intanto individua quali siano i temi che definiscono le iniziative politiche, gli ambiti di intervento, gli ambiti che definiscono l'identità di un'idea liberale della giustizia penale. Perché non c'è accordo nemmeno tra di noi? Perché abbiamo bisogno di questo accordo e di questo chiarimento? Vi faccio un solo esempio. Sul tema cruciale della legalità, del principio di legalità dell'articolo 25 della Costituzione, 12 delle preleggi, il tema cruciale della interpretazione del giudice della norma. Quindi la giurisprudenza creativa, tutti i temi che sappiamo benissimo. Possiamo fare come il vecchio Magilla Gorilla, che uno alzava, invece di parlare, alzava un manifesto dove c'era scritto. Mi capite quando dico questo? E su questo abbiamo un dibattito, anche abbastanza vemente, nella dottrina, nell'accademia, dove chi sostiene che il giudice non possa, che questa pretesa di stare ancorati al testo è una pretesa che non è più sostenibile ragionevolmente, perché l'interpretazione ex se viene rivendicata, anche essa in nome di principi liberali del diritto penale. È com'è possibile questo? Dobbiamo affrontarla e discuterla. E non perché non ci sia una parte di verità in questo. Abbiamo grandissimi sistemi democratici liberali con diritto puramente giurisprudenziale, con un piccolo particolare di differenza, che hanno un sistema ordinamentale a carriere separata in cui il giudice non ha nulla a che fare col pubblico ministero, dove il giudice ignora la cultura del pubblico ministero, dove probabilmente l'ha avversa la cultura del pubblico ministero. Allora come dobbiamo chiarire anche questo. Vi faccio un secondo esempio. Certezza della pena. Ma possiamo tollerare, amici miei, che un tema della importanza storica della certezza della pena venga declinato in questo modo analfabeta e barbaro, inteso come continuità della sanzione carceraria. Noi abbiamo a che fare con un analfabetismo di ritorno. La certezza della pena è un tema che dobbiamo rivendicare orgogliosamente alla nostra cultura e alla nostra tradizione. Possiamo farlo. È un'ambizione possibile questa del manifesto. Intanto è diventata possibile anche questa perché il coinvolgimento dell'Accademia da parte dell'Unione è cresciuto in un modo straordinario. Grazie al lavoro di tutti, al lavoro del Marongio, di Lorenzo Zilletti, altro che ufficio legislativo, Renato, dell'ufficio legislativo. Noi qui dobbiamo mobilitare e abbiamo un'Accademia, qualcuno lo ha ricordato, che fino a qualche anno fa non si schierava e che ora comincia a schierarsi su questi temi. E noi la dobbiamo spronare e la dobbiamo raccogliere, aiutarci a definire. Quindi qual è l'idea concreta? La leggete nel programma. Prima un comitato ristretto di giuristi e amici che fissino le tesi fondamentali di quella che può essere l'identità di un manifesto della giustizia penale liberale. Poi la discussione in tutte le università, la redazione di questo manifesto e la raccolta delle adesioni a questo manifesto, a questo punto, della politica, del mondo parlamentare, degli uomini di cultura, dei giornali. con noi protagonisti, lo strumento in mano all'unione delle Camere penali, perché siamo nelle condizioni di farlo. Siamo l'unico interlocutore, l'unico interlocutore credibile su questi temi. Abbiamo la forza cresciuta, sedimentata in tutti questi lunghi anni, cresciuta in questi ultimissimi anni, di coinvolgere in modo importante l'Accademia. E quindi oltre ai nostri oreste dominioni Gaetano Pecorella e Gustavo Pansini, naturalmente Nicola Mazzacuva, ma c'è Enzo Maiello, c'è Gaetano Insolera, c'è Vittorio Manes, ci sono tutti quei giuristi di seconda generazione, anche terza generazione, che abbiamo visti raccolti in un convegno straordinario del Marongiu poche settimane fa a Roma. Chi ha occhio politico deve guardarle queste cose per capire che sta succedendo qualcosa di positivo e che questo è un patrimonio che dobbiamo spendere. Quindi il manifesto come primo strumento politico, secondo strumento politico, certo dipende un po' meno da noi perché non siamo in Parlamento, ma noi dobbiamo cogliere l'occasione della separazione delle carriere e della calendarizzazione per provare a costituire un intergruppo parlamentare parlamentare a sostegno della legge sulla separazione delle carriere. Si fa così, non si dice che la separazione delle carriere siamo tutti. Allora immaginiamo un intergruppo parlamentare. Perché lo immaginiamo questo intergruppo parlamentare? Innanzitutto perché ci aspettano delle contraddizioni interessantissime. Adesso a che punto sto io? Alla fine? Cinque minuti? No, no. Ragazzi, mi dispiace, ma io ho bisogno di un quarto d'ora buono. Vado rapido. L'intergruppo parlamentare ci servirà come interlocutore, come strumento anche per le altre iniziative di legge di cui vogliamo essere artefici e proponenti. E vi rimando in questo al programma, ne abbiamo indicate alcune molto importanti, che vedo essere speculari a quelle che propone Renato, perché siamo tutti d'accordo e meno male che siamo d'accordo sui contenuti della nostra politica e ci mancherebbe altro che non lo fossimo. Dobbiamo operare, dobbiamo rilanciare, perché in realtà, tranne che la vicenda Taricco e poche altre cose non l'abbiamo fatta, noi dobbiamo usare l'iniziativa giudiziaria per far camminare le nostre idee. Beppe Frigo, e anzi me lo consentite, di rivolgere un saluto affettuoso a uno straordinario presidente che ha dato dimostrazione di che cosa significhi la cultura delle Camere Penali nelle istituzioni, perché è stato un giudice costituzionale che ha segnato delle pagine fondamentali della storia della Repubblica, il nostro Beppe Frigo. E Beppe Frigo mi diceva, ma ci credi che nelle udienze di discussione in Corte Costituzionale spesso la difesa non c'è, non c'è mai l'avvocatura a sostenere? Noi dobbiamo usare in modo metodico, offrendo di affiancarci ai colleghi, monitorando il calendario della Corte, noi dobbiamo essere presenti, discutere di tutte le questioni che riguardino il diritto e la procedura penale davanti alla Corte Costituzionale. Devo correre. L'errore giudiziario, questo è un tema su cui io tengo troppo. Perché noi dobbiamo cambiare la nostra comunicazione politica. Non è una critica quello che abbiamo fatto finora. Ma non basta più. Siamo nell'epoca nella quale le idee camminano sulla immedesimazione emotiva. Per cui se c'è lo stupro di una inerme ragazzina di 15 anni e ai titoli di tutti i giornali e tutti dire impiccatelo e noi andiamo lì, come dovremmo continuare a fare intendiamoci? Ma è garantita la presunzione di non colpevolezza fino al terzo? Non ci sentono nemmeno. Ma noi abbiamo. Le vicende umane che riguardino il diritto penale possono essere raccontate nello stesso modo dal versante delle nostre idee. L'errore giudiziario è il fallimento del processo e al tempo stesso è la ragione per la quale l'essere umano nei millenni si è dato un processo come regole, con il principio per evitare il timore che un innocente potesse essere. In dubbio proreo, siamo al codice giustinianeo ed è già una compilazione, pensate un po'. Ora c'è un'associazione straordinaria che si chiama erroregiudiziario.com che raccoglie da 25 anni un sito strepitoso di 750 storie di persone massacrate dall'errore giudiziario o dalla ingiusta detenzione. Storie di fronte alle quali è impossibile non capire, toccare con mano che cosa significhi, quale orrore è il mancato rispetto delle regole fondative del processo e del principio di non colpevolezza, della custodia cautelare come extrema razio. Ho chiesto a loro, e ne sono entusiasti, di fare insieme di quel loro archivio che noi vogliamo implementare, un munizionamento con il quale vogliamo bombardare i nostri interlocutori, le opinioni pubbliche, in ogni momento, far raccontare queste storie, far capire che cosa significhi sulla viva pelle delle persone, non rispettare i principi che sono quelli nei quali noi crediamo del processo penale. Da questo momento sei fuori tempo. Dobbiamo istituire perciò anche noi stessi un osservatorio, questa è la nostra intenzione, sull'errore giudiziario e la ingiusta detenzione e le molte altre cose che penso in modo completo. Trenta pagine, la sintesi è uno sforzo. Mi pare che fosse Cartesio che scrivendo a una sua amica diceva perdonami cara per la lettera così lunga che ti ho scritto, ma non ho avuto il tempo di scrivertene una più breve. Questo è stato il nostro sforzo, tutte le nostre proposte, le nostre idee, vedete sono già fuori tempo qui e avrei voluto dirvi molte altre cose. Voglio concludere con una riflessione su noi stessi invece, sul nostro modo di essere associazione, su quello che noi abbiamo in testa. Possiamo dirci mille cose, poi possiamo fare Captazio, bene volete, non mi interessa. Io voglio dirvi solo una cosa con molta chiarezza. In un'associazione come la nostra, ma in qualunque soggetto associativo, c'è un solo modo per fare squadra, per essere uniti, non ne hanno inventato un altro. Ed è quello di partecipare con tutta la forza possibile al dibattito in questi mesi, poi al congresso. Era una vostra sollecitazione? Sì, ho capito. Sto finendo, fatemi esprimere questo concetto finale. Dicevo c'è un solo modo e non ne hanno inventato un altro, che dopo il dibattito, il confronto, lo scontro, si accetta il risultato del congresso. E il presidente che viene eletto è il presidente di tutti i penalisti italiani. E non si passa il proprio tempo e non si investono le proprie energie per i due anni successivi per dimostrare quanto fu errata la scelta che la maggioranza del congresso ha fatto. Non si viene a parlare a noi di divisività. Noi vogliamo un congresso unito, un'unione unita e affratellata dal rispetto delle sue decisioni. E dunque io dico adesso che chiunque sarà il presidente, quello deve essere il presidente. Questo sarà il senso del nostro stare insieme. Benvenute le idee diverse, le idee. Io ho letto qualcosa, sentirò verosimilmente nell'intervento di Renato qualche altro, di accenni continui a temi di dissensi soffocati. Io non riesco a avere memoria di un solo tema politico su cui si possa essere misurato un dissenso politico, non giudizi su comportamenti o su persone. Questo mi conforta. E Renato, quando ho letto il tuo programma e ho letto che sulle questioni di fondo, siamo tutti lì. Ne ho tratto un grande sollievo perché ci aspetta la traversata del deserto. Io sono già qui onorato di essere candidato. Se riterrete che io sia nelle condizioni e con me la squadra, non so se devo indicarla adesso, devo indicare ora i nomi dei miei... Ditemelo voi. Lo presento adesso? Lo dico? Sì. Lo faccio o non lo faccio? Sì. Questa squadra di amici straordinaria che mi ha accompagnato e che mi fa l'onore di candidarsi con me. Nicola Mazzacuva, Camera Penale di Bologna, che mi onora della sua disponibilità di candidarsi alla vicepresidenza. Eriberto Rosso, Camera Penale di Firenze, che mi onora della sua disponibilità di essere segretario. Tutti voi mi onorate. Giuseppe Guida, Camera Penale di Nola, nel segno della continuità, candidato tesoriere. E poi Fabio Frattini, Camera Penale di Tivoli. Ubaldo Macri, Camera Penale di Lecce. Marcello Manna, Camera Penale di Cosenza. Savino Murro, Camera Penale della Basilicata. Carmelo Chiuto, Camera Penale di Patti. Domenico Puzzolu, Camera Penale della Gallura. Daniele Ripamonti, Camera Penale di Milano. Paola Rubini, Camera Penale di Padova. E Paola Savio, Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta. Se lo riterrete, noi siamo onorati già, se lo riterrete vi posso assicurare e che noi siamo pronti. Un abbraccio a tutti voi. Scusa, Gian Domenico. Volevo chiarire che il suono non è stato da me provato. perché è predisposto... La collega... Non ne dubito il telefonino. La collega Bocassa deve dare un attimo... Bocassi. Bocassi, chiedo scusa. Ma è femmina. Deve dare una comunicazione alla Commissione Verifica Poteri. Sì, a nome della Commissione Verifica Poteri comunico che le seguenti Camere Penali non si sono ancora accreditate alla Segreteria UCP. Il termine scade alle 13.30. Le Camere Penali sono Agrigento, Avezzano, Camerino, Frosinone, Grosseto, Modena, Orvieto, Palmi, Paola, Patti, Rossano, Rovigo, Sciacca, Teramo, Vasto e Verbagna. Chi è in sala è pregato di portare la documentazione in segreteria UCP. Grazie. L'Avvocato Bordoni... Renato, il tempo... che ha parlato il collega Cagliazza è di 50 minuti invece di 45 previsti. Quindi avrai lo stesso tempo anche tu. Buongiorno. Scusa, ma noi siamo qui anche a tutelare il diritto di tutti i partecipanti a intervenire. Quindi dobbiamo necessariamente contingentare i tempi per dare spazio alla discussione. Un attimo solo che sto controllando la mia scaletta perché non vorrei che ci fosse una manina di Batman o di Robin che me l'ha cambiata stanotte. la nostra squadra è composta da Aldo Casalinuovo, Vicepresidente, Lodovica Giorgi, Camera Penale di Lucca, Aldo e di Catanzaro, Roberto Capra, Camera Penale del Piemonte Occidentale, Valentina Alberta, Camera Penale di Milano, Marco Campora, Camera Penale di Napoli, Mauro Gionni, Camera Penale di Ascoli Piceno, Rino Licata è il più giovane, 38 anni, Camera Penale di Catania, Rachele Nicolin, Camera Penale di Vicentina, Eustacchio Porreca, Camera Penale della Lombardia Orientale, Nicola Quaranta, Camera Penale di Bari, Stefano Sambugaro, Camera Penale Ligure, Alessandro Sivelli, Camera Penale di Modena, Cari amici, oggi occorre fare uno sforzo per una consapevolezza precisa del perché siamo qui. È un momento importante, non solo e non tanto perché è una scadenza elettorale, dobbiamo scegliere chi vincerà e chi vincerà sarà certamente colui che sarà il presidente di tutti, ma perché i diritti vivono una situazione di pericolo ed è un'affermazione impegnativa sulla quale vi chiedo riflessione. Io oggi vorrei tentare di parlare non alla pancia di tutti noi, preferisco un applauso in meno e un ragionamento in più. Siamo qui anzitutto per comprendere che la nostra Unione si deve svincolare da tatticismi politici, da astuzie, da presunte visioni con occhio lungo. La nostra Unione deve anzitutto ragionare e dare una chiave di lettura al nostro futuro. Sia chiaro, noi siamo qui per andare avanti e non per guardare indietro. Siamo qui per capire cosa si può migliorare. E siamo qui, va detto subito, per capire, e io credo che la presenza di tutti voi, di così tanti voi, che sicuramente va anche a merito delle persone che hanno finora gestito, se si vuol dire, l'unione delle Camere Penali, ne sia sintomo, è di trovare quello che ci unisce e non quello che ci divide. E in questo io mi sento di dire che questa ingenerosa rivendicazione di presunte polemiche debba essere spazzata via subito. E questo è un ragionamento. Guardate che io ho fatto anzitutto al nostro interno, rispetto alla squadra, che mi onoro, si dice così, di guidare, cercando di rinunciare alle polemiche, cercando di rinunciare ai momenti di tensione, per andare avanti, per guardare avanti. Questo però implica un altro dovere, anche quello di guardare a qualcosa che non va bene. Non è ingeneroso guardare anche a qualcosa che non va bene, anzi credo che sia generoso. Io ieri ero in piedi con tutti gli altri ad applaudire Beniamino Migliucci e i colleghi della Giunta, perché ho colto, e non è la prima volta che faccio parte di un organismo dell'Unione, ho colto la passione, ho colto la commozione. E quindi io ringrazio Beniamino e la Giunta per quello che hanno fatto in questi anni. Credo che il ragionamento non sia quello di criticare Beniamino e la Giunta, credo che sia possibile migliorare, come sempre, anche Beniamino, quando è subentrato, si sarà proposto di migliorare quello che c'era prima. E allora io dico fin d'ora che cercare e perseguire un ragionevole sogno non è uno slogan della nostra cordata elettorale, ma è un auspicio, è un programma che deve coinvolgere tutti noi, nessuno escluso. E se una riflessione da fatta, io credo che vada anzitutto fatta sulla nostra situazione politica. Badate bene, io cercherò di dare una lettura che non ho sentito, finora da Gian Domenico non ho letto nel suo programma se non a linee generale. Certo siamo tutti contro il popolismo, ci mancherebbe. Ma occorre una chiave politica precisa, una chiave di lettura politica precisa per comprendere cosa si debba anzitutto fare. Perché, badate bene, e lo dico subito, in questa situazione politica avanzare le nostre proposte di legge sarà necessario e indispensabile, avanzare le nostre idee sarà necessario e indispensabile, ma c'è, e lo dirò tra poco, un prerequisito che dovremo affrontare senza il quale queste idee e queste proposte saranno vane, perché c'è una maggioranza parlamentare assolutamente contrastante a quelli che sono i nostri temi. E non possiamo fare finta di nulla. Certo, esistono delle forze, e di questo parlerò un pochino più avanti se ce la faccio, le quali ci sono più vicine, altre che ci sono più lontane, altre alle quali siamo particolarmente affezionati. Ma il dogma dell'unione delle Camere Penali è stato sempre, e sempre sarà per quel che mi riguarda o mi dovesse riguardare, la trasversalità assoluta da ogni movimento politico. Noi non andiamo a rimorchio di nessuno! La vecchia politica, colleghi, ci aveva abituato al populismo, non era indifferente, era una politica che spesso ci avversava o ci ignorava, ma con la quale a volte si riusciva a dialogare, ci si confrontava. Era una politica molto spesso sotto tutela della magistratura associata, ma con cui esistevano spazi di interlocuzione, che venivano gestiti bene, gestiti male, con alterne fortune. Questo è capitato a tutti. Ma oggi io credo che non si sia a sufficienza segnalato, neppure nella relazione che ho sentito di Gian Domenico, che i pericoli sono devastanti. Vedete, non mi sogno di assimilare i nostri rispettabili due vicepresidenti del Consiglio a Robespierre. Tuttavia c'è un passo del processo a re, è stato, mi pare, richiamato da Armando Veneto, di Robespierre, che ci dà degli stimoli sulla nostra situazione politica. Quando Robespierre scriveva, per rispondere a coloro che volevano processare il re, c'è un bellissimo articolo di Massimo Nobili su critica del diritto, su questo, qui non c'è da fare un processo. Il re non è imputato. Non dovete mettere una sentenza a favore o contro un uomo. Dovete prendere una misura di salute pubblica. Dovete compiere un atto di provvidenza nazionale. In effetti, se Luigi può essere ancora oggetto di un processo, Luigi può essere assolto. Può essere innocente. Cosa dico? È supposto innocente fino a che non sia stato giudicato. Ma se Luigi viene assolto, che ne è della rivoluzione? I popoli non giudicano come le corti giudiziarie. Non emettono sentenze. Lanciano la loro folgore. Noi ci troviamo in una situazione, ripeto, senza istituire paragoni irrispettosi, non so se per Robespiero o per Di Maio, in una situazione nella quale vi è un attacco sistematico allo Stato di diritto. In nome, probabilmente non se ne rendono neanche conto perché il loro background culturale non glielo consente, di concezioni autoritarie proprie di uno Stato etico. Non sono, Gian Domenico, come scrivi, due forze politiche straordinariamente diverse. Sono due forze politiche contingentemente diverse, ma accomunate dalle loro concezioni autoritarie dello Stato e della giurisdizione. Se noi non abbiamo consapevolezza di chi sia il nemico, e non sono loro in quanto persone, ma le loro concezioni, rischiamo di fare un flop. Ho letto alcuni post su Facebook, vedi, tu ti sei dedicato molto a me, ma io ti ricambio la cortesia. Ho letto di velleitarismo, di dilettantismo. Credo che una sottovalutazione dell'attuale maggioranza governativa e di quello che obiettivamente c'è dietro, perché c'è un consenso popolare, sia estremamente pericolosa. Io credo che stiamo vivendo dal 4 marzo, e su questo, mi spiace dirlo, siamo un po' troppo stati, un po' troppo silenziosi della civiltà giuridica in Italia, per vellicare gli istinti peggiori, chiamiamoli giustizialisti della popolazione, per acquisire consenso. In una situazione che non è compensata da anticorpi, le forze di opposizione, la stessa magistratura, e una parte della magistratura sicuramente deve essere oggetto della nostra grande attenzione. Ho sentito ieri con grande rispetto e interesse quello che la segretaria di magistratura democratica Guglielmi ha detto, però non hanno avuto in questi anni gli anticorpi per scongiurare quello che si è verificato. Quello che si è verificato non è casuale, e lo dobbiamo dire interloquendo con le opposizioni di destra, di sinistra, di centrodestra, di centrosinistra, perché diversamente non abbiamo un quadro adeguato sul come muoverci. Così come pure è estremamente pericoloso che qualcuno dica, ma in fondo l'opinione pubblica accoglie queste visioni e dobbiamo perciò sociologicamente tenerne conto. Certo, ne dobbiamo tenere conto. Allora, in questo quadro abbiamo i nostri due interlocutori tradizionali, la magistratura e la politica. Io credo che una riflessione vada fatta, non demagogica. È certo che c'è un fronte della magistratura con cui si può e si deve dialogare, a parte fatto che si deve dialogare con tutti. È certo che ci stanno magistrati ai quali i nostri temi stanno a cuore. Però, attenzione, sottovalutare come è stato fatto le posizioni, ad esempio, del dottor Davigo, del quale noi ci dobbiamo domandare se è un accidente della storia o appartenga ad un background silente della magistratura italiana. Lo so anch'io, Gian Domenico, che la corrente di Davigo ha preso meno voti di quanto si poteva forse ipotizzare. Ma so anche che nelle elezioni che ci sono state nel luglio scorso, 2.500 magistrati, un quarto circa della magistratura italiana, ha appoggiato, non Davigo in quanto tale che non ci interessa, ma una concezione della giustizia dalla quale noi siamo anni e anni luce distanti. E guardate che dei 2.500, evidentemente, sono quasi tutti del penale. Questo è l'oggio. E quindi un primo profilo. Ieri il professor Spanger ci ha detto che la magistratura verrà probabilmente una parte sulle vostre posizioni, ma diffidate. Non è il problema di diffidare o non diffidare, il problema è capire fino a che punto si voglia spingere la magistratura rispetto alla difesa dei diritti. Ma Salvini è con noi. Vedi, Gian Domenico, nel tuo post dei primi di marzo, di fine marzo, leggevo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, la lettura politica corretta degli atti ci farà vedere come la separazione delle carriere verrà all'ordine del giorno. Mi pare che c'era scritto anche dovremo esporre delle gigantografie di Salvini, il quale ha firmato la nostra proposta. Io le gigantografie di Salvini non le metto. Ma detto questo, nelle successive settimane, Salvini sulla separazione delle carriere è stato zitto, con una sola eccezione, che noi respingiamo, brandendo la separazione delle carriere dopo la vicenda di Ciotti, come un randello contro la magistratura. E noi questo non lo accettiamo. Non lo accettiamo non soltanto perché è il modo più sicuro di affossare la separazione delle carriere. Ma non lo accettiamo perché noi siamo stati già in passato, non è una storia nuova, quelli che hanno difeso l'autonomia e la indipendenza della magistratura quando è stata sotto attacco della politica. Però abbiamo detto alla magistratura, cari amici magistrati che siete sensibili a questo, l'autonomia e l'indipendenza. Difendetela anche quando c'è qualche magistrato che scarcera e viene massacrato. Difendetela anche quando ci sono situazioni che vi chiamano in causa. Come? Questa affermazione delle bandiere la richiamerò successivamente. Come si affaccia l'unione delle camere penali sul balcone del populismo penale? se il quadro che ho fatto sinteticamente è questo. Noi io credo, e scusate se l'espressione non è chiara, ve la chiarisco, che dobbiamo far politica sui nostri temi, con nostre iniziative, ma anzitutto con un crinale che prima non c'era, che è quello della difesa dello Stato di diritto. Attenzione, noi dobbiamo fare politica giudiziaria e continuare a fare politica giudiziaria con un respiro di grande profilo. E ci dobbiamo porre questa domanda che io non ho sentito risuonare né ora né nel programma di Gian Domenico. Rientra nel nostro operare la difesa dei diritti fondamentali, dei diritti civili, delle libertà civili o non rientra. Io rispondo sì, io rispondo sì, io non ho bisogno di studiare il diritto della navigazione. Il nostro statuto, colleghi, è detto nel nostro programma, è un crinale invalicabile. Se lo leggiamo superficialmente, fa un riferimento l'articolo 2 al giusto processo, ma noi sappiamo che quello statuto indica e ha come suo proprio background dei prerequisiti, che sono appunto le libertà civili, i diritti fondamentali. È uno statuto che respinge la saetta della volontà popolare. Perché sappiamo che questi prerequisiti, dove la libertà personale viene posta in pericolo anche dall'autorità politica, dove l'autorità delle decisioni giudiziarie viene esibita al pubblico disprezzo, come succede per Genova. Non abbiamo bisogno di aspettare i processi. Già sappiamo chi è il responsabile. Mi riferisco al viadotto. Bene, queste cose sono cose che ci interessano, ci riguardano. Sono la premessa dell'anticamera, del disprezzo e della rovina delle garanzie processuali e dei diritti giudiziari. Ecco che tutto si tiene. Sia chiaro, noi rivendichiamo anche l'intervento sui CIE, ora hanno cambiato sigla, sui migranti, sulla Diciotti, perché questo è il prerequisito della difesa dello Stato di diritto. Attenzione, noi non facciamo politica, noi non stiamo dicendo che vogliamo inseguire una lettura di politica. La politica sulle migrazioni è, diciamo, rientra nei diritti e nei doveri dei fenomeni migratori, rientra nei diritti e nei doveri dell'autorità politica e su questo ciascuno di noi ha e deve conservare la propria opinione. Ma attenzione, laddove si toccano le libertà civili, laddove si toccano i diritti fondamentali, là ci deve essere un avvocato e ci deve essere l'unione delle camere penali. Nessuno può invadere il recinto dei diritti impunemente perché l'avvocatura è avvaluardo del recinto dei diritti. diritti. Tutto questo è scomparso perché non basta dire, dopo le polemiche che sono scoppiate, che il diritto della navigazione è stato una battuta. Tutto questo è scomparso nel tuo intervento e nel tuo programma. Noi sappiamo che in questo momento il prerequisito della nostra azione politica è quello di difendere lo Stato di diritto, i fondamenti dello Stato di diritto. Poi ci occupiamo dell'unione come punto di riferimento. Certo che l'unione deve diventare, ma lo è già, ma deve diventare ancor più in questa fase politica, il punto di riferimento di tutto quello che nella società si muove sulle nostre posizioni. a magistratura sensibile, se c'è. Però, attenzione, ricordate l'articolo di Sanzonetti qualche giorno fa sulla posizione di area o di magistratura democratica, in cui dice tutto bello, tutto buono, ma signori di magistratura democratica ci saremmo attesi e ci attendiamo per il futuro che sconfessiate anche i vostri ex compagni di viaggio che nel corso degli anni hanno realizzato le politiche securitarie e una concezione della magistratura etica per la quale ci aspettiamo una presa di posizione. Noi dobbiamo raccogliere tutto questo, signori, non su un manifesto. Francamente, e mi dispiace dirlo perché naturalmente ho rispetto, dei manifesti firmati, degli appelli degli intellettuali, degli appelli dell'Accademia, che sicuramente sono importanti e che perseguiremo, ma sono piene le fosse. Ma soprattutto questo manifesto liberale è un gravissimo errore politico, è una battaglia di retroguardia dell'Unione delle Camere Penali. In questo manifesto io leggo che dovremmo raccogliere le adesioni su dei principi che sono contenuti nell'introduzione dei manali di diritto penale, nell'Antolisei, nel Mantovani. Ma ci siamo ridotti a questo? Il manifesto lo firmeranno, aderiranno e richiederà magari un compromesso. I compromessi in politica sono importanti, ci stanno, ma i compromessi non si fanno in partenza, si fanno sul traguardo. E allora il come, il metodo è invertito. Facciamo le nostre iniziative concrete. Capisco il disprezzo per la parola bandiere, ma io lo rivendico. Facciamo le nostre iniziative concrete, facciamo le nostre proposte. Qui mi rimetto al programma anche sui primi cento giorni. Dopodiché su questo raccoglieremo adesioni concrete, non sulle chiacchiere e le parole di un manifesto. Ricominciamo a dialogare con chi si oppone. Per carità, dialogheremo anche con chi ha il pallino in mano, ma se non ci prendiamo in giro sappiamo benissimo che questo dialogo col Ministro Riddens non sarà facilissimo. Riprendiamo a dialogare con il centrodestra, con il centrosinistra, con la magistratura, ma, attenzione, dialoghiamo dalle nostre posizioni, dialoghiamo senza compromessi, dialoghiamo in posizione di parità, se no insceniamo una succubanza culturale che l'Unione non ha mai avuto. Rilanciamo, e qualcosa cercherò di dire, le grandi battaglie di principio con delle parole d'ordine nuove, la difesa d'ufficio, le misure di prevenzione, ma su questo noi riusciremo a far convergere. No, no, ci riusciremo pure sul manifesto a far convergere. Il problema è poi cosa succederà dopo. Vedete l'intergruppo. Io ho l'impressione che siano parole d'ordine e scammotaggi elettorali. Da quando l'Unione è unione, o comunque dagli ultimi anni, abbiamo sempre fatto politica, anche in Parlamento, c'è Enrico Costa da qualche parte, o se n'è andato, incontrando i politici, dialogando con i politici che erano attenti alle nostre posizioni, ma sappiamo tutti benissimo che non esiste un mitologico intergruppo a cui, come leggo nel programma, l'Unione toglie dal forno le proposte, gliele dà e questo automaticamente ce le propone in Parlamento. Sappiamo benissimo che l'Unione su questi temi avviene su singoli e specifici argomenti. Non avremo sempre tutti intorno, quindi è del tutto normale quello che si propone. E allora cos'è questo se non la prospettazione di un metodo molto chiaro? In questi mesi, in questi prossimi mesi, dovremo anzitutto e prima ancora che rilanciare o insieme al rilancio delle nostre singole battaglie, essere avversari durissimi e spietati delle concezioni giudiziarie e politiche dello Stato etico. Senza una nostra particolare forza e determinazione su questo saremo spazzati via. Cos'è che si può migliorare nell'Unione? La vita interna. Io ho sentito le parole di Gian Domenico. Hanno un po' un retrogusto della serie Chi vince vince e gli altri ci stanno. Sì, certo, chi vince ha il diritto di governare. Ma noi non ci possiamo fermare a questa parola d'ordine. Noi abbiamo bisogno tutti di fare un pezzetto di autocritica. Tutti. Io non raccolgo lamenti, Gian Domenico, non raccolgo frustrazioni, raccolgo entusiasmo tra i colleghi. Entusiasmo per l'Unione delle Camere Penali. Abbiamo qualche problema. Siamo stati anni in situazioni di tensione, rispetto alle quali, ripeto, tutti devono fare autocritica, ma forse anche chi da vincitore doveva cercare di fare uno sforzo per calmierare le tensioni. Non so se questo è stato fatto, ma ci interessa di meno. Guardiamo al futuro. Dentro l'Unione, e questo lo so che non è molto popolare dirlo, ma noi siamo qui anche per essere impopolari, hanno fatto talvolta irruzione le dinamiche della visibilità interna, disattenzione a certe degenerazioni territoriali. Sono state vellicate ambizioni che non lo meritavano. Si è sottovalutato un dialogo costruttivo, si è dato più spazio, a volte, per fortuna non sempre, ad ambizioni personali, piuttosto che alla modo di ragionare attento a tutto questo. Nell'Unione abbiamo anche da discutere qualcos'altro. Vedete, Beniamino ieri ha fatto una relazione appassionata, ripeto, da me applaudita, ma non so, la mia impressione è che era troppo sulla difensiva, cioè come se fosse criticato da tutti, come se lamentasse critiche continue che gli pervenivano. No, Beniamino, io credo che non si meriti questo mettere le mani avanti. Io credo che lo sforzo e l'attività della Giunta è stato apprezzato da tutti. Poi abbiamo avuto qualche differenza, c'è stata qualche situazione che ora non mi interessa, ma certamente la Giunta ha fatto cose positive. Però questo non significa essere ingenerosi, riflettiamo su quello che è stato, lo strumento dell'astenzione che è stato ieri rivendicato. Io condivido che in certi momenti l'astenzione debba essere uno strumento imprescindibile. A volte però è più forte la pistola carica dell'astenzione minacciata che l'astenzione fatta, specialmente se l'astenzione viene fatta un po' in ritardo, dando l'impressione sicuramente sbagliata che si voglia ricompattare l'aspetto interno dell'Unione delle Camere Penali piuttosto che fare una battaglia. Su Orlando siamo arrivati in ritardo. Sulla riforma dell'ordinamento penitenziario, le nostre Camere Penali da dicembre dicevano muoviamoci. Ma non applaudite, colleghi, perché le Giunte possono anche fare degli errori in buona fede. Non è ingenerosità, non vi sto chiamando a un applauso per cercare di dare delle scomuniche. Io voglio bene ai colleghi della Giunta, ma sono o non sono cose nelle quali in un congresso si debba aprire una riflessione. Anch'io ho girato tutta l'Italia in questi mesi. Devo dire, sarebbe retorico e anche un tentativo di captare la platea se dicessi che è stata un'esperienza che mi ha colpito molto, perché pensavo arrogantemente all'inizio, essendo stato molti anni anche in Giunta nell'Unione, di non poter apprendere nulla di nuovo. Invece ho percepito nuove sensibilità, nuove attenzioni, nuovi modi di rapportarsi. Ma ho percepito entusiasmo, ma ho percepito volontà di capire. E allora so perché giravo e ogni tanto arrivavano, ho visto ieri che ci stanno delle chat in cui ci stanno i borzoniani pure. Allora dice, ma i borzoniani vogliono eliminare gli osservatori, vogliono udite udite, radere al suolo come Sodoma e Gomorra, l'open day di Rimini. Io cerco di riflettere. Allora, gli osservatori, lo diciamo nel programma, sono un passo imprescindibile nella vita dell'Unione. È tanto imprescindibile che ho messo per iscritto, e quindi un impegno elettorale, che noi non faremo lo spoil system, si chiama così. Noi convocheremo i responsabili degli osservatori, cosa che in passato non è mai stata fatta dalle giunte uscenti. Anzitutto per dire grazie a queste persone e per ragionare insieme a loro le modalità per proseguire il lavoro. Noi non raderemo il suolo Rimini con le sue spiagge. Diciamo, io non vado in discoteca perché sembro un orso, ma non ho nulla di ideologicamente avverso alle discoteche. Tutte queste cose saranno oggetto di attenzione. Io sono stato a Rimini, l'ho anche scritto, capisco che sia scomparso, e ho visto uno straordinario entusiasmo, uno straordinario interesse dei giovani colleghi. Però, attenzione, affermare, come ho letto nel programma, che gli osservatori sono un modo di avvicinare le camere penali e quindi il territorio all'Unione è un'analisi politica elettoralistica che, se ci ragionate, va respinta. Gli osservatori sono un sistema di cooptazione che non è una bestemmia. In politica la cooptazione ci sta. Sono un sistema di cooptazione di alcune persone nelle attività di quel singolo osservatorio, di singole persone, non delle camere penali. Noi saremo e dobbiamo essere più vicini alle camere penali sul territorio perché io ho incontrato camere penali sofferenti, non perché non abbiano le spalle grandi per poter evidentemente cavarsela da solo, ma perché hanno bisogno di un'unione più vicina. Lo so che detto in campagna elettorale suona demagogico, però è così. Gli osservatori non avvicinano il territorio, avvicinano le persone. E gli osservatori devono rimanere, per la parte in cui sono stati, un grande serbatoio di entusiasmo e di lavoro dell'Unione delle Camere Penali. Non devono diventare uno strumento di ricompensa o per vellicare situazioni. Noi ho letto nel tuo programma, Gian Domenico, che vuoi prevedere due persone come responsabili di ogni osservatorio. L'Unione delle Camere Penali non è la distribuzione delle sedie. Qualcosa sul programma. La magistratura... Che ora erano quando iniziavo? La questione sulla magistratura, sulla quale ci siamo confrontati a Prato e a Lierna, è una questione importante. Mi fa piacere che ci abbiate inseguito sul programma menzionandola. Ma è stata banalizzata. La questione sulla magistratura è una questione non di attacco alla magistratura, ma difesa della nobiltà della magistratura. Perché quando diciamo che il Consiglio superiore della magistratura è diventato la terza Camera, quando diciamo che le pratiche a tutela, ovvero i pareri sulle leggi dati al Parlamento, sono eversivi in quanto in violazione delle leggi costituzionali che disciplinano il CSM, noi lì stiamo difendendo la nobiltà della magistratura italiana. E se non capiamo che se non si accompagna la battaglia sulle separazioni delle carriere alla grande questione sulla magistratura, vuol dire che non abbiamo capito. Vedete, oggi Gian Domenico non lo ha fatto più perché si è reso conto di quello che stava succedendo nei convegni preelettorali, mi ha accusato di vedere la magistratura come un monolite, di essere una specie di pazzo settario ossessionato dai magistrati. Ci sta in campagna elettorale tutto questo, ma attenzione, è vero che esistono magistrati illuminati, è vero che esistono settori della magistratura con i quali dialogheremo e bisogna dialogare, ma ricordatevi le parole di Spanger di ieri quando vi ha detto attenzione, ricordate Sansonetti nell'articolo di qualche giorno fa che invito tutti a rileggere, la magistratura o per meglio dire il sindacato della magistratura, l'ANM, sui temi fondanti delle nostre battaglie sempre e comunque si ricompatta e non solo sulla separazione delle carriere. Minisci la reformatio impeius, minisci l'accelerazione del processo, minisci le lodi al ministro Ridenz su questo provvedimento ridicolo dei reati contro la pubblica amministrazione nel quale vogliono eliminare il cambio del collegio. La separazione delle carriere, anche qui mi è eccheggiato nelle orecchie qualcosa del tipo, sì ma tu sei per la separazione delle carriere, però qualcuno ha scritto non hai raccolto ai tavoli le firme. Se vogliamo instaurare un processo staliniano lo possiamo fare. Io ho cercato di portare acqua alle palle del mulino dell'Unione con il nostro osservatorio, credo che abbiamo fatto un discreto lavoro. Ma io credo che bisogna dare merito alla Giunta, a Anna Chiusano, a chi ha scritto quella proposta di legge più o meno identica ad altre proposte di legge che già erano in Parlamento e che abbiamo sempre presentato. Ma si dice no, però qui c'è di diverso e io condivido. Si sono mossi i cittadini, si sono mossi le camere penali. È un fatto sicuramente importante. Attenzione però, non rischiamo, la proposta di legge è scritta nel nostro programma e non lo ripeto, va appoggiata, rilanciata, la battaglia va accompagnata con quella della questione della magistratura. Allora, attenzione non solo a chi usa la separazione come bastone, ma soprattutto attenzione al pericolo della liquidazione di questa proposta di legge. Se andiamo domani in Parlamento, cosa succede di questa proposta di legge? Lo sappiamo? E nel caso in cui venisse liquidata, per un motivo o per l'altro, magari perché alla fine la magistratura ha sempre la forza di interdetto sulla politica. Non staremo quindici anni a dare un'arma ai nostri avversari che ci diranno la proposta è stata liquidata in Parlamento. Renato, guarda, mancano cinque minuti. Non posso assolutamente consentire che si supera il tempo. Quello è il tempo che ha parlato l'altro candidato, con lo stesso tempo devi parlare. Io ho cominciato a mezzogiorno meno dieci, ma comunque. Io ho l'orologio sbagliato. Forse è sempre Batman che me l'ha cambiato. Nei primi cento giorni noi abbiamo promesso l'impegno su battaglie concrete, che con sprezzo vengono definite e bandiere, ma che sono battaglie su iniziative concrete. Abbiamo già le leggi pronte. Sul 103 esiste una proposta di legge che arrivò alla Camera Penale di Roma, che non ebbe il tempo di rilanciarla. Sulla informazione giudiziaria abbiamo pronta la proposta della istituzione di un garante sulla informazione giudiziaria. Quella proposta che leggo nel programma di Giandomenico sulla informazione giudiziaria, il procuratore capo che toglie al sostituto se il sostituto fa le bizze e dà le notizie alla stampa, è ancora una volta una proposta perdente, minoritaria e paternalistica, che rimette in mano alla magistratura quando noi sappiamo benissimo, e ce ne siamo occupati. Pignatone a Roma ha fatto la conferenza stampa su mafia capitale in violazione dell'articolo 114 del codice di procedura penale. A Lucca era il procuratore capo che faceva passare le pennette, le chiavette alla polizia giudiziaria. E noi vogliamo entrare e mantenerci su questa logica. Sull'ordinamento penitenziario interverranno i colleghi della Giunta perché ho poco tempo, ma naturalmente è una battaglia imprescindibile, è una battaglia di civiltà sulla quale coinvolgere anche quella magistratura sensibile che abbiamo visto. sull'Europa io credo si debba rilanciare la questione di una federazione, è chiaro che non si può fare un'unione delle Camere Penali europee, ma una federazione delle associazioni dei penalisti, riprendere in mano questa iniziativa, rilanciarla, eccetera. Abbiamo poi nel nostro programma già detto che la specializzazione è importante. La difesa d'ufficio deve lanciare una nuova parola d'ordine. La difesa d'ufficio all'avvocatura, di nuovo, significa qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi. La difesa d'ufficio all'avvocatura, che implica naturalmente sforzi di collegamento col CNF, con il Governo e quant'altro, significa attribuire anche le liquidazioni degli onorari all'avvocatura, perché noi siamo stufi di consentire che c'è un giudice padre che decide quanto vale la nostra difesa d'ufficio. E badate bene, non è una difesa, non è un tema corporativo, se lo facciamo così. Se lo facciamo così, non è un tema corporativo, è un grande tema ideale. La difesa d'ufficio venga tutta nelle mani dell'avvocatura penale. Nel programma ci sono i dettagli. Il MIUR è una grande iniziativa che io do con piacere, atto a Beniamino, alla sua giunta, di avere ideato, di avere lanciato e che sarà incrementata. Gli avvocati minacciati, siamo intervenuti su questo perché sono minacciati non solo all'estero, ma anche in Italia. E vado a chiudere, ma mi interrompere, mentre sto facendo la chiusura, che poi viene male. Io credo che il nostro compito è di tenere accesa la fiammella liberale dello Stato di diritto, anzitutto. Una fiammella liberale che si contrappone agli approcci populisti e autoritari che vi ho detto, con un dialogo che si svolga in condizioni di parità. Se una sedia di chi dialoga è più alta dell'altra, non è più dialogo, è succubanza culturale, ricordiamolo. E poi sì, Gian Domenico, sì, noi sventoliamo le bandiere, noi sventoliamo le nostre bandiere, perché la sfida qui è tra realismo e utopia. E noi siamo in grado di coniugarli. Vedete, Thomas Moore, che era la sua opera più nota sull'utopia, in realtà coniugava i temi utopici con il realismo, come pure Machiavelli, che è considerato, diciamo così, il referente del cinismo politico e quindi del realismo politico, lo coniugava con temi ideali, con le bandiere, tant'è vero che auspicava la nascita dello Stato italiano. Se saremo solo utopisti saremo velleitari, ma se saremo solo realisti il realismo politico ci fagociterà, diventerà una cinica legittimazione dell'esistente. Noi dobbiamo essere consapevoli, ragazzi, che nei prossimi mesi lo spartiacque della politica dell'Unione e lo spartiacque in questo Paese è lo statuto dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Questo è il crinale attraverso il quale noi dovremo aprire il confronto sui diritti fondamentali, sui diritti civili, sulle singole iniziative, se non lo capiamo tutti insieme, mettendo alle spalle le tensioni, le polemiche, i piccoli cabotaggi di cui tutti sono responsabili, noi perderemo. Noi siamo già perdenti. Le bandiere sono nella nostra storia. Noi queste bandiere le sventoliamo, Gian Domenico, le sventoliamo. E questo è il crinale della nostra battaglia politica. Per cortesia, per cortesia, allora da questo momento scatta la mezz'ora per l'ultima mezz'ora per la descrizione agli interventi per il pomeriggio. La seduta adesso è sospesa. Riprenderemo alle 14.30 precise. 14.30, non 15. Alle 14.30 si riapre la seduta. E adesso tutti a lancio. Non sono i canestrini che parlano dei problemi della repressione in Turchia. Cominciamo i lavori. Prende la parola prima dell'inizio della discussione il collega Menzione per illustrarvi dei problemi della situazione degli avvocati in Turchia. ci sia consentito sfruttare questi minuti che ancora mancano all'inizio della discussione per parlare di questo progetto avvocati minacciati e endangered lawyers. Sarà un intervento completamente equidistante nel senso che non posso non ricordare come il progetto avvocati minacciati nacque durante l'incontro alla Camera Penale Vicentina per idea di Raquel Nicolin che unì una mia testimonianza a quella di una giornalista che si occupava dell'omicidio di Pat Finucan. Da quel seme poi è germogliata l'idea e grazie a Riberto Rosso questo è diventato un progetto di giunta perché lui in quel momento approfittò della presenza di Beniamino a uno dei consigli dell'Unione e quindi la giunta fu felice e devo dire che gli ne va dato atto non solo di raccogliere questa sfida ma di supportarci. in questi anni Beniamino tu non ci hai mai fatto mancare il tuo appoggio ci sono stati dei momenti in cui come in una grande famiglia si hanno dei momenti in cui non si pensa in maniera completamente sovrapponibile ma io ti devo ringraziare ti voglio ringraziare te i componenti da giunta per aver creduto in questo progetto e andare a occuparsi non solo degli avvocati minacciati a tutelare le loro libertà tutelare i diritti che vengono difesi da giornalisti e magistrati è stato per noi un onore e di questo volevo fare partecipe questa assemblea si parla della turchia pansini ma inevitabilmente un pochino si deve parlare anche dell'italia io a seguito delle missioni che abbiamo compiuto ho poi fatto tantissime incontri con le singole camere penali e voi quasi tutti voi ve ne potete ricordare siamo sempre stati disponibili per farne altri ecco in queste in questi incontri ho visto una grossa disponibilità dei colleghi a interessarsi del problema degli avvocati minacciati o più in generale della difesa dei diritti e del diritto di difesa nelle varie parti del mondo che noi abbiamo cercato di analizzare di vedere e ogni volta è stato come dire un successo si fa per dire ma questo sta a testimoniare come ci sia nel corpo dell'unione e nelle singole camere penali un interesse a conoscere della questione dei diritti fondamentali e qui io chiedevo per il futuro naturalmente non solo di sostenere il progetto quanto nei quattro anni precedenti ma di cominciare a pensare di dare più spazio al tema dei diritti fondamentali c'è una specie di carenza li diamo quasi per scontati diritti fondamentali e invece così non è vorrei che le nostre scuole le scuoline di vario livello si interessassero a questo che è un problema fondamentale e lo è anche per l'italia anche in italia ci sono soggetti magari non cittadini italiani ma non per questo fuori del nostro ordinamento il cuore i cui diritti fondamentali non vengono presi in considerazione si prendano i primi due articoli del decreto sicurezza e si veda come i diritti fondamentali lì sono considerati in un coacervo di diritto e di amministrativo senza distinzione dove si intravede come siano calpestati e lo stesso sempre in italia parlando di avvocati è della settimana scorsa che un nostro esimio esimissimo collega è stato non minacciato ma direi più che oltraggiato e svillaneggiato ahimè purtroppo da un altro avvocato secondo il paradigma turco e secondo il paradigma egiziano vale a dire sol perché non sol perché identificandolo con il proprio assistito questo non deve succedere noi dobbiamo crescere culturalmente affinché questo non succeda noi andremo di nuovo in turchia andremo di nuovo in egitto prenderemo in considerazione altre parti del mondo però vogliamo far sapere che bisogna star con gli occhi spalancati anche qui in italia perché ad ogni momento ad ogni momento io vi ringrazio concludo ringrazio anche federico cappelletti che è stato in questi anni un ombrello capiente e sapiente nei nostri confronti e voi non scusami ma devo chiedere di finire perché il tempo è scaduto ho finito ho anche ringraziato chi ci tenevo a ringraziare grazie grazie a te intervengo solo un attimo non voglio rubare tempo prezioso al dibattito congressuale ma ci tengo a ringraziare in primis tutti le amiche e gli amici della commissione che hanno contribuito con il loro impegno in termini di tempo e di capacità a far sì che l'unione abbia portato la cultura dei suoi principi statutari ma più in generale quella dei diritti fondamentali in europa e soprattutto avevamo previsto l'intervento di due persone e allora vi ringrazio l'unica cosa è che posso assicurare da qui che il nostro impegno per l'unione in questi anni continuerà e voglio ringraziare beniamino migliucci e la sua giunta per la fiducia incondizionata che ci ha concesso grazie mi dà il nome del primo che deve intervenire grazie 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 Adelmo Manna Adelmo Manna la prima mio Signor Presidente allora io vorrei porre subito il problema che credo sia assolutamente fondamentale in questa epoca del linguaggio giuridico. In che senso? Ovviamente per quale ragione? Perché oramai scomparsi i partiti tradizionali ci troviamo di fronte non solo da noi in Italia a un governo giallo-verde che si caratterizza per un evidente populismo politico, ma anche più in generale in Europa ci sono molte nazioni che si muovono, in questo senso il gruppo di Visegrad, anche in parte Macron, la Brexit e così via. Cioè in altri termini evidentemente c'è un linguaggio della politica che parla, come sappiamo, direttamente alla pancia, cioè alle emozioni e non si riesce più a fare un discorso di carattere nazionale. E utilizzano naturalmente i mezzi di comunicazione di massa, come soprattutto quelli cibernetici, che consentono un diretto rapporto fra i governanti e i governati. In questo, secondo me, l'unione delle Camere Penali non può ancora arroccarsi soltanto a una difesa astratta dei principi costituzionali e o comunitari, ma deve per forza utilizzare un linguaggio del tipo di quello dei nostri governanti perché altrimenti i governanti non riescono a capire. Faccio un esempio sulla legittima difesa presunta. È inutile che noi ne facciamo una questione di contrasto con i principi costituzionali perché la gente vede soltanto quei due poveracci che sono stati malmenati, voglio dire, e quella donna che è stato tagliato un orecchio. Quindi evidentemente per loro una legittima difesa presunta è assolutamente fondata e quindi bisogna andare nello stesso tipo di mentalità e far capire che una legittima difesa presunta non ha senso come scriminante e semmai utilizzare il modello tedesco degli affetti astenici, cioè quelli paura, timore, eccetera, che sono quelli che poi danno luogo a questi fattori. Lo stesso per quanto riguarda la recente legge spaziacorrotti è inutile fare riferimento soltanto alle interdizioni perpetue. Quello che bisogna far capire è che questo legislatore non sa manco quello che fa perché nel momento in cui propone un agente provocatore per i reati di corruzione, che sono reati in genere a due persone o a limite a tre se c'è un traffico di influenze, non capisce che l'agente provocatore o l'agente sotto copertura vale solo e funziona nei reati di criminalità organizzata oppure stupefacenti, riciclaggio, ma con la corruzione non c'entra assolutamente nulla. Però bisogna mettersi su questo tipo di linguaggio, cioè far capire chiaramente alla popolazione. Non basta arroccarsi sui principi fondamentali. Da ultimo faccio una notazione, perché è una notazione secondo me assolutamente fondamentale, perché non riguarda un singolo argomento, ma riguarda uno sviluppo molto preoccupante, cioè quello relativo alle misure di prevenzione patrimoniale. Non è un problema specifico, è un nuovo modello di processo di polizia che si sta affiancando al processo penale. O noi ce ne rendiamo conto e ci chiediamo se è ammissibile in uno Stato sociale di diritto costituzionale che esista un processo di polizia, perché deriva dal confino fascista del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e ancora prima dalle leggi PICA del 1863. Se possiamo ammettere un sistema di questo genere che oggi si allarga tutto, e lo vedete, perché questo è vero populismo penale, oppure se vale la pena fare una battaglia dura, ma molto dura, non una battaglia di compromesso, per far capire che tutto questo è assolutamente inammissibile in uno Stato sociale di diritto, tanto è vero che la Germania, patria dei lager, ha rifiutato un sistema come il nostro. Grazie. Il collega Roberto Rognoni ha rinunziato. Deve prendere la parola all'Avvocato Guido Sola. Purtroppo non siamo ancora in grado di far funzionare il timer. Camera penale di... Guido Sola, camera penale di Modena. Modena. Cinque minuti, li vediamo, adesso stanno scappando. Purtroppo non funziona ancora, che devo fare? Non faccio il tecnico... Si prepari l'Avvocato Camporini della Camera penale di Como-Lecco. Sinto preoccupare. Grazie Presidente. Sinteticamente quindi per punti, continuità e discontinuità. La continuità in politica non è un valore in sé. Per la semplice ragione che la politica non è una scienza esatta, ma è semmai e più realisticamente l'arte del possibile o al limite l'arte del fare. In politica, questa è la conseguenza, ed io credo che noi la si debba avere chiara, non contano gli intenti, ma contano gli effetti. Se vi sono stati effetti positivi, e certamente vi sono stati, è doveroso, a mio avviso, che una giunta entrante prosegua nell'azione politica della giunta uscente. Ma se vi sono stati effetti negativi, e altrettanto certamente vi sono stati, perché è fisiologico in politica che vi siano, è altrettanto doveroso che una giunta entrante si ponga al problema di rivedere le rotte e ritracciare i traccianti. Non si può, non si può, non si può, io credo, e però è stato fatto per mesi, mesi e mesi, tacciare di eresia chi, su temi peraltro specifici e circoscritti, si permette di ragionare sull'opportunità di tracciare rotte che si pongano in discontinuità con l'azione politica della giunta uscente. Non si può, perché non è un contegno che si attagli ad una comunità politica che pretenda di essere matura, non si può, perché sono schemi che riecheggiano i delitti di lesa maestà. La politica oggi non è più frutto di dibattito parlamentare. Afflettere in questo Paese è il tradizionale modello democratico parlamentare. La politica oggi è frutto di sovente e stemporane iniziative bicefale che sono pensate per scatenare i social network e le piazze. Correttissimo dialogare con la politica. Il punto è, esiste un vero interlocutore politico per noi? Perché se la risposta è no, allora l'Unione ha il dovere di tornare ad essere propositiva. L'Unione non può continuare a fare politica solo in negativo, chiosando sovente in ritardo su testi che sono già legge. L'Unione deve tornare ad essere propositiva, deve tornare a proporre valori base sui quali anche questa sciatta immatura politica sia costretta a sagomare le proprie linee d'azione. E soprattutto, prima di intervenire in chiave politica, deve saper intervenire in chiave culturale. Perché se il Paese non è pronto a recepire determinati frutti propri della politica garantistica, noi non possiamo continuare a pretendere di coltivare il campo della politica se prima non ariamo il campo della cultura. L'Unione deve ritornare ad essere un luogo di passioni civili, che producano idee di libertà, che sono l'unico vero antidoto contro il populismo, contro il giustizialismo e contro, permettetemi colleghi, un'inaccettabile visione jansenista della società. Questo è un Paese ammalato da un patologico gigantismo della giurisdizione, ormai sempre più ammantato di aspettative etiche. Questo è un Paese dove impera da anni quella che Irsch definiva elegantemente giuristocrazia. È stato detto anche questa mattina. Ci affidiamo al potere giudiziario perché questa politica non è in grado di regolare le questioni. Questo è inaccettabile. E cambiare la rotta spetta in primis all'Unione. L'Unione deve essere riunita. Dobbiamo ritrovare la sintesi, perché la sintesi è punto più alto della politica, anche sul versante interno, perché è punto di equilibrio tra le varie anime che fisiologicamente compongono un'associazione strutturalmente complessa, qual è la nostra. Non è vero che non ci sono stati dissensi su temi politici. Possono non esserci stati dissensi sul merito, ma certamente vi sono stati dissensi sul metodo e sono stati soffocati, perché le continue battaglie di contenimento sono una linea politica perdente. Ed è corretto ragionare su questo. Concludo ricordando me stesso solo una cosa. Se l'Unione è tale, è tale perché, pur discutendo anche animatamente sul versante interno, è capace di marciare sul versante esterno come un solo uomo. Se ci dimentichiamo questo, ci dimentichiamo a mio avviso di che cosa è e deve essere l'Unione. interviene il collega Santorini. Si prepari la penna. Buongiorno a tutti. Ho deciso di intervenire oggi non come martire dello Stato di diritto, come qualcuno potrebbe pensare, ma perché credo che sia opportuno ribadire in questo congresso che l'Unione deve tornare a essere unita, non divisa. Ne sono prova i programmi che mi sembrano, i programmi dei candidati, mi sembrano pressoché speculari, soprattutto sulle questioni di massima rilevanza. Io credo che serva un'Unione forte, decisa, autorevole, ma soprattutto compatta e percepibile su tutto il territorio, non soltanto a Roma ed intorno. Il nostro lavoro a livello locale deve iniziare a far sentire la presenza dell'Unione, a far capire che è imprescindibile l'interlocuzione con noi. Io non credo che sia la magistratura il nostro antagonista, anche se devo dire che esiste una magistratura che io definirei comune, quella con cui interagiamo quotidianamente, che, devo dire, almeno dalle nostre parti è collaborativa, è disponibile, almeno in apparenza, un po' più in astratto che in concreto, ma esiste anche una magistratura che io definirei organizzata, che, prodomo proprio, ovviamente, indirizza l'opinione pubblica e le riforme legislative. Dobbiamo fare attenzione, dobbiamo fare attenzione anche a chi viene a dirci, anche qui, di stare nascosti, di stare nascosti dall'opinione pubblica, come dire, e soprattutto a chi viene a dire di stare nascosti perché, per lasciare apparire soltanto lui. Pensiamo, ad esempio, alla questione dell'inammissibilità, perché è un tema, secondo me, molto importante. Si è voluto spostare la responsabilità del magistrato in ordine alle decisioni sull'avvocato, minando che cosa? Minando o cercando di minare il rapporto con il proprio assistito. Infatti, la profonda differenza tra accusa e difesa sta proprio nel fatto che noi abbiamo un assistito, abbiamo un rapporto di fiducia con il nostro assistito. Qualche PM invece ha qualche rapporto di fiducia con chi giudica, purtroppo. Perché se viene meno questo rapporto di fiducia, viene meno la difesa. E questo qualcuno lo ha capito. Quindi, allargare a dismisura il campo dell'inammissibilità spesso diventa il modo per decidere di non decidere. Aumenta il rischio per l'avvocato di incorrere in responsabilità. E così la difesa risulta condizionata e certamente limitata. Questo era il disegno e questo è stato portato avanti. Ottenendo il doppio risultato della deflazione da una parte e di una difesa più debole, almeno nei gradi successivi al primo dall'altro. È un esempio, ma ce ne sono anche molti altri. Visto che oramai gran parte delle riforme sono codificazione delle sentenze della Suprema Corte. Io credo che dobbiamo ringraziare la Giunta uscente per il lavoro fatto. Ma alla nuova Giunta, qualsiasi sia, chiediamo di proseguire anche con maggior forza sulla strada dei diritti e delle garanzie. Partendo dalla diffusione del concetto tra la gente, soprattutto tra la gente, che l'interesse non è nostro, ma dei cittadini. Proponendo, se possibile, non solo contrapponendo. Sappiamo che l'interlocutore politico attuale non è tra i migliori possibili, ma proprio per questo occorre imporsi in modo capillare, soprattutto culturalmente. E se saremo uniti, non credo che vi sarà partita. Perché diverremo in questo deserto l'unico punto di vero riferimento della giustizia penale. Quella con la giu maiuscola. Viva l'Unione delle Camere Penali. Grazie. Si accomodi il collega La Penna e si prepari il collega Lunardoni. Lunardon, chiedo scusa. Buonasera a tutti. Starò ovviamente nei cinque minuti. Un ringraziamento alla Camera Penale ospitante, l'Avvocato Balzano, Balzano, per non solo la splendida accoglienza che questa città offre, però sempre nella lealtà dei rapporti, dove nell'Unione mi hanno insegnato anche questo, sin dall'inizio degli anni 90, quando ero ancora praticante, ad essere sempre leale. perché la lealtà riguarda tutti e la lealtà non si consuma con l'elezione di un candidato o di un altro, ma la lealtà rimane nel tempo. E perciò al Presidente della Camera Penale ospitante vorrei dire, con tutta l'umiltà possibile, che probabilmente fare entrare in questa sala solo i delegati non è stata una scelta felice, Presidente Balzano. Perché? Io al primo congresso che ho partecipato è stato quello di Abano Terme. All'epoca tenevo i capelli un po' più neri, sono passati molti anni. E ricordo però che in quell'occasione, con il mio dominus dell'epoca, l'Avvocato Bardi, mi innamorai delle Camere Penali perché c'era un'area di libertà assoluta, di partecipazione. I giovani si devono innamorare delle Camere Penali. Ma se noi facciamo differenzazione tra delegati, congressisti, non delegati, chi ha una stella, chi tre stelle, non facciamo un'opera meritoria. È una questione poi di regole. Le regole, noi che dobbiamo sempre e che le difendiamo sempre, noi Avvocati, devono valere per tutti. Nel senso che a volte tra di noi si fa riferimento al carattere della opportunità per alcune scelte. Per me, Presidente Migliucci, l'opportunità vale come il sorriso di Buonafede. Mentre la regola mi ricorda il sorriso dell'amica Paola Rebecchi. Ancora, noi, con la nostra solita lealtà, le Camere Penali Lucane, che mi onoro di rappresentare in questo momento, diremo per chi votiamo. Qualcuno direbbe che già lo si sa, ma lo diciamo anche da qui. Le Camere Penali Lucane, Potenza, Matera, Lago Negro, voteranno per il candidato Presidente, Gian Domenico Cagliazza. Voteranno per lui, ne hanno condiviso lo spirito del programma con cui si è avviato. Riconosciamo al contendente l'Avvocato Borzone, a cui mi lega una amicizia particolare per la vicenda nel 2004 che colpì la nostra Camera Penale con l'arresto dell'Avvocato Bardi. Simpatia, amicizia, e gli riconosco di aver combattuto una battaglia e di combattere una battaglia leale. Le Camere Penali Lucane, ripeto, appoggiano il collega Cagliazza. Ad entrambi dico l'Avvocatura, come ha fatto in questi anni, lo deve fare ancora di più, deve uscire dal solco. Che cosa intendo dire? Noi, Camere Penali Lucane, a Bologna, facemmo una proposta che era quella dell'applicazione dell'articolo 11 Codice Procedura Penale anche per gli Avvocati. Nei nostri circondari, specialmente piccoli, nei nostri distretti, a volte si abbassa il capo rispetto... Manca un minuto. Lo vedo già. C'ho ancora anche... Nonostante è anziano, 0053. Nonostante c'ho i capelli bianchi, vedo anche il tempo. Presidente Panzini. Volevo dire, l'articolo 11 Codice Procedura Penale è una battaglia sul quale noi dobbiamo farlo. Tutti insieme. Gli Avvocati non possono essere ricattati da alcuni pubblici ministeri. Quando indagano un Avvocato, l'Avvocato deve essere giudicato da altro distretto. Noi dobbiamo uscire dall'equivoco. Dobbiamo gridare che difendiamo i diritti dei più deboli, le libertà. Non ci dobbiamo far mettere sotto lo smacco e vada a farsi benedire l'opportunità. Grazie. Buon congresso a tutti. Grazie al collega Lapenna. Si accomodi il collega Lunardon e si prepara il collega Brancaleone. Io ho avuto la fortuna e la sfortuna in questi quattro anni di occuparmi di difesa d'ufficio. La sfortuna, o forse dovrei dire la tragedia, ha naturalmente a che fare con un evento che ha segnato tutti noi come è stato ricordato ieri dal Presidente Migliucci. La fortuna di cui ringrazio il Presidente Migliucci e la Giunta è stata invece quella di essere stato nominato da prima componente e poi responsabile di un osservatorio che io credo ha lavorato costantemente con attenzione e passione. Un osservatorio che è stato intitolato di intesa tra noi e la Giunta a Paola Rebecchi e consentitemi di dire che proprio l'intitolazione dell'osservatorio a Paola fa sì che Paola sia oggi un patrimonio dell'Unione tutta e io credo che non meriti qui i patenti di appartenenza all'uno o all'altro schieramento. Proprio dal mio ruolo di responsabile dell'osservatorio che è stato un ruolo sicuramente privilegiato vorrei provare a tracciare alcune riflessioni anche con molta umiltà su quella che è la difesa d'ufficio per poi spingermi a una dichiarazione di voto che invece è assolutamente personale. Io credo che con la riforma del 2015 che è andata oltre quella del 2001 si sia fatto un netto passo in avanti. Io credo che oggi abbiamo uno strumento normativo che sono i requisiti di iscrizione e di permanenza che stabilisce ribadisco a livello normativo un sufficiente standard di competenza e di professionalità. Ora io credo che la palla passi a noi passi agli avvocati a come dobbiamo e vogliamo dare attuazione ed esecuzione a quella riforma perché siamo noi con i nostri corsi che attribuiamo o neghiamo l'attestato per l'iscrizione all'elenco nazionale. Siamo noi quelli che devono organizzare corsi di un certo livello anche raccontando la storia delle Camere Penali e a vigilare sull'effettiva competenza dei candidati. Io credo che anche la tematica che pur necessita sicuramente di un intervento normativo e mi riferisco all'articolo 97,4 e alla cosiddetta girandola dei difensori d'ufficio chieda a noi avvocati e dalla nostra giurisdizione disciplinare domestica maggiore severità perché se è vero che le sostituzioni volanti pregiudicano il diritto dell'imputato a un giusto processo è anche vero e dobbiamo riconoscerlo che queste sostituzioni originano da un difensore anche di fiducia il più delle volte d'ufficio colpevolmente assente dal processo. Anche in questo caso io credo che la palla sia ora nel nostro campo e che spetti a noi decidere come giocarla se con atteggiamenti autoassolutori o peggio accondiscendenti verso certe prassi e certi comportamenti che talvolta anche noi per comodità o indulgenza abbiamo accettato magari dicendo anche che la difesa d'ufficio va lasciata ai giovani ovvero se come io credo con una ritrovata severità e con quel rigore che sono l'unico strumento che abbiamo per dimostrare di essere noi i primi convinti garanti della cultura del diritto di difesa magari proprio con l'esempio dell'iscrizione da parte degli avvocati più autorevoli ed esperti perché nessuna riforma della difesa d'ufficio porterà mai al risultato a cui andiamo se non siamo noi i primi ad essere consapevoli del ruolo che ci spetta e lo dimostriamo con coerenza anche quando questo è difficile perché occorre censurare il comportamento di un altro avvocato o non attribuire l'idoneità al termine del corso biennale io credo che tutto questo spetti a noi come avanguardia di quella cultura di minoranza di cui anche all'interno della vocatura noi siamo l'espressione migliore e autorevole ma per fare tutto questo io credo che vada recuperata un po' di severità anche al nostro interno e qui spingo la mia riflessione come dicevo all'inizio oltre alla tematica della difesa d'ufficio per venire a una riflessione di carattere più personale che riguarda quello che per me è l'unione delle camere penali come dicevo io penso che sia necessario recuperare consapevolezza rigore e severità anche tra noi all'interno della nostra vita associativa magari proprio a partire dagli osservatori fucina straordinaria di attività e idee e riflessioni come giustamente è stato detto ieri dal presidente Migliucci come è stato detto da entrambi i candidati ma la cui partecipazione io credo che questo debba essere riconosciuto troppe volte è diventato una sorta di qualifica da spendere chissà come chissà dove chissà per quali ragioni magari non partecipando alle riunioni come è accaduto ed accade troppe volte l'appartenenza all'unione è stata equiparata al vedere apparire il proprio nome sulla pagina web di un osservatorio o addirittura la partecipazione a cene di gala o serate danzanti la rivoluzione non è un pranzo di gala diceva Mao Zedong io non so se la battaglia dell'unione sia rivoluzionaria so per certo che l'unione non è soltanto una cena di gala è qualcosa di diverso è ritrovarsi attorno a quelle battaglie liberali democratiche di civiltà che hanno segnato la nostra storia ognuno di noi ha il diritto ma anche il dovere come ha scritto giustamente Renato Bordone si accomodi il collega Roberto Brancaleoni della Camera Penale di Rimini e si prepari la collega Maria Rosaria Carisano della Camera Penale di Pavia grazie presidente carissimi colleghi che siete qui tutti indipendentemente dalle intenzioni di voto perché avete nel cuore i valori comuni dell'unione Camere Penali che io condivido con voi sono Roberto Brancaleoni Camera Penale di Rimini e in passato presidente Camera Penale di Rimini voglio dirvi che quattro anni fa noi decidemmo di condividere la candidatura di Beniamino Migliucci e poi di sostenerla anche nelle elezioni chiamiamole di medio termine ed oggi a posteriori siamo felici di averlo fatto e ti diciamo grazie Beniamino per il grande impegno che hai messo tu e la tua giunta in questi quattro anni certamente quattro anni difficili un momento difficile all'esterno perché l'avvocatura è stata continuamente sotto attacco esattamente nello stesso modo in cui i diritti che l'avvocatura difende sono stati sotto attacco noi normalmente siamo attaccati quando sono attaccati i diritti all'interno purtroppo con gli attacchi che sappiamo ti hanno fatto soffrire ma che hai retto con grandissima forza ed intensità di pochi è vero ma che hanno continuato a proseguire una contrapposizione rancorosa dopo i congressi che io spero invece questa volta realmente venga definitivamente abbandonata perché non giova l'Unione in particolare io vorrei anche a nome di altri presidenti che so hanno rinunciato a parlare per lasciare il tempo chiarire una cosa ho sentito ripetere più volte in quei pochi attacchi che in questi quattro anni il consiglio dei presidenti è stato un vuoto simulacro consiglio delle camere penali detto anche consiglio dei presidenti un vuoto simulacro piegato ed asservito ai voleri della giunta bene io quel consiglio dei presidenti l'ho frequentato per 12 anni prima come vicepresidente poi sei anni come presidente e dico chi ha sostenuto questo ha offeso innanzitutto Armando Veneto che lo ha preseduto mirabilmente per due anni in maniera eccezionale ha offeso Eriberto Rosso che per due anni ha fatto un lavoro e ha offeso noi presidenti delle camere penali e le camere penali che hanno lavorato in quel consiglio tutti indipendentemente dalle idee in maniera assolutamente partecipata e democratica io non ho mai visto in quei 12 anni una partecipazione numerica e democratica in cui ciascuno effettivamente diceva e veniva ascoltato per quello che diceva come negli ultimi quattro anni ho detto Beniamino grazie per l'indefessa attività hai avuto a fianco persone straordinarie Francesco Petrelli tutte le persone straordinarie della tua giunta vorrei citarne uno perché in questi anni ci ho lavorato insieme ed è una persona che non ama mettersi molto in evidenza ed è Egidio Sarno che meriterebbe un monumento per il lavoro silenzioso costante e continuo che ha fatto per la formazione che deve essere una bandiera delle camere penali la formazione la specializzazione la qualificazione i tanto criticati osservatori avranno avuto i difetti hanno avuto un merito grandissimo creare una partecipazione appassionata non finta una partecipazione vera di tanti giovani che hanno portato idee non hanno portato semplicemente la loro presenza la raccolta delle firme una battaglia sacrosanta che ha portato un'immagine esterna ma soprattutto ha portato un'aggregazione una partecipazione che ha vivificato le singole camere penali l'open day scusatemi di Rimini se lo posso qualificare così per la sede un'iniziativa per noi meravigliosa con una partecipazione della base straordinaria oltre le migliori attese grazie Anna per l'impegno che insieme agli altri ci hai messo in cui ognuno anche il più piccolo degli iscritti ha portato con umiltà il suo piccolo seme e quel piccolo seme se trova l'humus se trova il terreno se trova la disponibilità da parte delle persone più esperte può portare grandi frutti i risultati si vedono i giovani partecipano al congresso ci sono mille persone vorrà dire che c'è stato un coinvolgimento creato da quello non viene più avvertita l'unione come un'elite distante non attenta ai valori dei giovani adesso è finalmente un tutt'uno oggi Rimini con i suoi quattro delegati sostiene in maniera altrettanto convinta ve lo dico la candidatura di Gian Domenico Cagliazza con tutto il rispetto che ci deve essere totale per la persona di Borzone e per le persone che stimo che lo affiancano perché Gian Domenico Cagliazza per noi rappresenta la continuità con questi valori con questa attività è la persona adatta alla comunicativa adatta l'equilibrio adatto il modo di rappresentare questi valori adatti per questo momento storico assolutamente sfavorevole in cui ci troviamo a vivere ha messo insieme una squadra di altissimo livello già per me citare Nicola Mazzacuva è citare tutto ma Fabio Frattini e Roberto Rosso che ancora ringrazio per il grandissimo lavoro che abbiamo condiviso con il Consiglio dei Presidenti siamo convinti che sarà nostro Presidente in maniera utile io vi chiedo per favore da domani lavoriamo tutti insieme per tagliare queste maledette siepi illuminare questo maledetto buio ma tutti insieme col nostro si accomodi la collega Maria Rosaria Carisano Camera Penale di Pavia si prepari l'Avvocato Cataldo Intrieri Camera Penale di Roma Buonasera a tutti Maria Rosa Carisano Camera Penale di Pavia vi leggerò un tema l'unione che vorrei svolgimento innanzitutto vorrei che i prossimi quattro anni fossero quelli di un'unione vera di un luogo dove non ci si limiti a consensi più o meno a critici ma un luogo di scontri anche accesi di dibattiti appassionati all'interno dei quali però tutti ascoltino tutti cercando di comprendere le ragioni dell'altro anziché voltare sdegnati e altezzosi le spalle al dissenso e parlo con cognizione di causa visto che la nostra Camera Penale ha provato sulla propria pelle quella sdegnata altezzosità di fronte al nostro motivato dissenso del quale nessuno ha ritenuto importante chiedere ragione ma soltanto criticare un'unione dove quegli amici con la A maiuscola non i miei amici i nostri amici gli amici di questa unione quelle persone che sono un patrimonio comune e irrinunciabile di tutti noi tornino a sentirsi a casa tornino a condividere sogni più o meno ragionevoli o irragionevoli tornino a condividere i traguardi della nostra unione quindi vorrei un'unione che più che alla continuità preferisca voltare pagina per lo meno rispetto agli errori che sono stati commessi e che non dovranno più essere commessi vorrei un'unione che non avesse remore a studiare i diritti più svariati dal diritto della navigazione qualunque altro diritto occorra per rivendicare anziché rincorrere il primato nella tutela e nella difesa dei diritti civili cioè di quei diritti che sono garantiti dalla Costituzione ma che troppo spesso sono violati dalle nostre istituzioni un'unione quindi che non si accontenti mai ma che miri ad alzare sempre più in alto l'asticella del non negoziabile vorrei vorrei poi un'unione che non si limitasse ad osservare l'Europa negli ultimi anni secondo me abbiamo dimenticato l'argomento Europa abbiamo accantonato quel progetto ambizioso nato a Livorno nel 2014 siamo anzi arrivati a congelare fino a data da destinarsi quel ventilato primo congresso dell'unione internazionale degli avvocati penalisti europei ecco ora quella data è ora che venga fissata al più presto che quel primo congresso venga convocato come un primo passo per una politica condivisa tra i colleghi dei paesi membri perché le istituzioni europee ben lungi dal congelare qualcosa marciano a ranghi serrati verso una sorta di globalizzazione del sistema penale europeo globalizzazione che è certamente a ribasso per quanto concerne i diritti e le garanzie della difesa allora come dicevo non possiamo limitarci ad osservare attendendo gli eventi non possiamo secondo me nemmeno limitarci ad essere presenti nella fase dell'adozione delle leggi di attuazione delle direttive europee perché quella fase è una fase già troppo avanzata in quella fase i giochi sono già quasi completamente fatti e la legislazione nazionale non può avere uno spazio di manovra particolarmente ampio quindi dobbiamo prima di tutto essere presenti intervenendo in maniera incisiva nella fase della creazione della norma europea per fare questo però dobbiamo rivificare un minuto ci sono ci sto il progetto di Livorno dobbiamo come diceva questa mattina Renato dobbiamo dare vita ad una effettiva ed efficace federazione tra i penalisti europei che può costituire unica torre di avvistamento e di guardia qualificata per le derive giustizialiste per i venti populisti che stanno attraversando l'Europa quindi dall'altro creando rapporti legami e concrete sinergie con tutte quelle associazioni che sono già estremamente attive in altri paesi membri e che proprio intervengono nel momento della creazione della norma concludo citando Domignoni Oreste Domignoni che ha sempre detto la nostra è una cultura di minoranza e dobbiamo vantarci di questa cultura di minoranza se quella di maggioranza è quella che ha il primato di basta? basta mi spiace Oreste dovevo chiedere ti chiedo scusa non ho capito cosa ha detto ma comunque sia chiaro che se l'ha zittita qualcuno l'ha zittita l'apparecchiano a noi chiudiamo con il discorso collega in Trieri poi si prepari l'avvocato Andrea Nicolai della Camera Penale di Pistoia Buonasera il libro Il buio oltre la siepe che ha suggerito il titolo di questo congresso è la storia di Atticus Pinch di un avvocato che combatte negli anni venti nel sud degli Stati Uniti una battaglia sfortunata e perdente su un doppio fronte il fronte esterno del pregiudizio razziale difende un uomo di colore accusato di uno stupro in una giuria composta esclusivamente da Bianchi riprendimi bene e c'è un fronte interno il fronte interno è l'incomprensione della sua famiglia Atticus Pinch non ha neanche l'appoggio dei suoi familiari che non gli perdonano a lui bianco e aristocratico di porsi in una posizione di dissenso con le tradizioni familiari con quello che è la segregazione razziale con quello che è un concetto aristocratico ne consegue ed è questo il principio su cui io vorrei soffermarmi che la tutela del dissenso non è una gentile concessione che deve essere fatta dall'alto e deve essere messa a tacere quando poi ci si mette a lavorare la giunta ci si mette a lavorare la tutela del dissenso e del parere diverso è una necessità di ogni associazione democratica e mi ha fatto piacere quattro anni dopo Venezia vedere un candidato un candidato che all'epoca che all'epoca stava e ha lealmente appoggiato la giunta con il suo lavoro di Beniamino Migliucci oggi avere l'onestà intellettuale di dire che forse qualche problema c'è e traspondere nel suo programma un profilo che a me sembra importante l'autonomia del consiglio delle camere penali fatemi finire perché il tempo è già è già corto con questo non voglio dire vedete che coloro che hanno preseduto quel consiglio sono stati parziali non hanno tutelato i diritti non è questo dico semplicemente che se noi pretendiamo dai nostri interlocutori magistrati la piena autonomia delle funzioni a nostra volta noi dobbiamo garantire dentro l'unione delle camere penali la piena autonomia delle singole camere territoriali che possano esplicarsi nel consiglio e io non credo che sia una dimostrazione perfettamente democratica un presidente del consiglio sia pure autorevole e che io ammiro come Armando Veneto eletto per acclamazione su indicazione del presidente io credo che sia giusta l'intuizione di Renato l'autonomia va tutelata consentendo la piena libertà anche di critica alle singole camere penali nel consiglio e adesso vado a concludere parlando a Gian Domenico Gian Domenico io ti ho votato quando tu con Marco Tararasci ti presentasti per il partito radicale ti ho votato quando ti sei presentato al consiglio dell'ordine dico che io stento a riconoscere in te nel tuo modo di ragionare quel giovane avvocato radicale pieno di slancio tollerante e democratico tu non puoi dire che pur avendo la capacità di fare una perfetta analisi politica dire che però all'interno dell'Unione tutto va bene così che non c'è niente o nulla da correggere e che chi critica una volta perso la battaglia si deve da citare perché noi a Roma e tu lo sai io e te viviamo a Roma qualche problema ce l'abbiamo ce l'abbiamo serio ti basti ricordare quello che è successo all'assemblea per l'elezione dei delegati non fu uno spettacolo straordinario ma voglio anche dire toccare un punto delicato sappiamo cos'è successo a Roma con una lettera aperta che un avvocato manda un minuto in trieri che un avvocato ha indirezzato chiedendo un dibattito su un tema importante in un processo quella lettera non ha avuto risposta ieri quell'avvocato ha subito un ammonimento da un comunicato dell'ANM la democrazia e la tutela del dissenso vuol dire che se quell'avvocato io per primo l'ho criticato duramente e violentemente e giustamente è stato criticato ma le idee di quell'avvocato che possono essere criticate non possono essere criminalizzate e se quell'avvocato verrà criminalizzato quell'avvocato non camminerà mai da solo perché avrà accanto gli avvocati che lui ha criticato che lo hanno criticato ma dipenderanno la sua libertà Renato mi auguro che a difendere la nostra libertà ci sia tu grazie il collega Andrea Nicolai della Camera Penale di Pistoia si prepara l'avvocato Gaetano Sassanella della Camera Penale di Bari cari amici sono qui per rappresentare le ragioni di una scelta la Camera Penale di Pistoia ha deciso di sostenere Renato Borsone oltre a siepe noi troveremo non solo buio ma anche solitudine dovremo confrontarci con un governo proteso nell'attuazione di un contratto che possiamo sui temi della giustizia definire senz'altro scelerato un governo che propone e attua una serie di provvedimenti che costituiscono un formidabile arretramento della civiltà giuridica di questo Paese si calpestano i diritti degli ultimi si prospetta un'inquietante riforma della legittima difesa si vorrebbe ampliare l'area dei reati esclusi a sensi del 4 bis e dalle misure alternative alla detenzione per i reati contro la PA si allarga l'operatività delle misure di prevenzione patrimoniale si affossa la riforma dell'ordinamento penitenziario si propone la cancellazione dell'istituto della prescrizione creando eterni imputati questa politica offre poche sponde ed insicure anche l'opposizione non offre di meglio perché è un'opposizione confusa ambigua che certo non ha dato in passato buona prova di sé rincorrendo un populismo giudiziario e rinunciando a sostenere le buone riforme come la riforma dell'ordinamento penitenziario i pochi che hanno difesso un'idea liberale della giustizia sono marginali nel quadro politico attuale e se questa è la sponda della politica anche la magistratura non offre approdi sicuri l'egito delle votazioni del CSM indica una magistratura vicina se non fiancheggiatrice di questa spinta securitaria populista dei nuovi governanti e le poche voci dissonanti che spesso associano ad aperture garantiste proposte di segno opposto come l'abolizione del divieto di reformazio impegno non mi lasciano tranquillo ma quel che è peggio è che infine c'è il popolo che sta con loro così scriveva Valerio Spiegarelli in un suo articolo un'opinione pubblica che vede l'avvocato difensore sodale dei suoi assistiti ostacolo al corso della giustizia popolare e che tifa contro di noi e allora cosa fare abbiamo bisogno di essere al centro di un'idea diversa di giustizia un riferimento fermo e coeso l'avvocatura deve resistere e difendere i limiti invalicabili e non negoziabili i diritti irrinunciabili scritti nella Costituzione nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo non possiamo dubitare che l'articolo 2 del nostro statuto ci imponga di difendere i diritti di tutti quando e dove vengono calpestati che siano diritti dei migranti degli zingari di Dell'Utri di Provenzano sempre non possiamo chiuderci nel recinto del diritto penale processuale che pure ci compete ma va confermata e rilanciata la nostra funzione di guardiani dei diritti e delle libertà civili per convegliare tutte le risorse dell'Accademia della politica della magistratura del mondo civile tutti coloro che vogliono tenere alta un'idea ancora democratica e progressiva delle garanzie e del processo e dei diritti e per questo la Camera Penale di Pistoia sposa la candidatura di Renato Borsone che nel suo programma pone convintamente al centro l'idea di un'associazione liberale che pone questi come scopi senza sconti senza alleanze e ribassi e senza studiare il diritto della navigazione dialogo con tutti ma senza derugare e per tutto questo serve un'unione coesa forte che non sia percorsa da tensioni divisive ma da un'armonia che non prescinde da opinioni dissezienti come scrive Renato Borsone nel suo programma un'unione che non perda la memoria di chi ha fatto grande l'unione che non perda alcuna delle risorse umane che sia sempre solo abitata da chi esercita passioni civili al servizio dei suoi ideali e Renato Borsone ha mostrato con la sua storia nell'unione di essere un uomo al servizio della causa ma è divisivo e potrà essere il leader di questa coesione e di questa unione quindi l'unione sia vicina ai giovani sia vicina alle scuole sia in mezzo alla gente per questo insieme dobbiamo combattere e visto che ho 28 secondi approfitto per ringraziare tutti quelli che sono qui per ringraziare la vecchia giunta per ringraziare Menaminio Villucci per il loro lavoro perché tutti quelli che lottano per i nostri diritti sono meritevoli ma vorrei ringraziare ho 13 secondi per farlo in particolare Nicola Canestrini Ezio Menzione e Federico Cappelletti perché i diritti umani i diritti civili le libertà civili sono al centro del nostro programma grazie per quello che fate Avvocato Gaetano Sassanelli Camera di Bari si prepara l'Avvocato Sarti Sì innanzitutto io voglio dire una cosa noi dovremmo essere orgogliosi di queste due candidature che sono due candidature di altissimo profilo non devo dire nulla sul valore sulla qualità e sulle capacità professionali di queste persone però naturalmente dobbiamo fare una scelta e la Camera Penale di Bari ha in maniera convinta scelto di appoggiare Gian Domenico Cagliazza per delle ragioni la prima è che Gian Domenico Cagliazza costituisce una sicura prova di continuità con la giunta uscente e questo per noi è una già una grossa garanzia perché la presenza di persone come Nicola Mazzacuva piuttosto che Giuseppe Guida ci garantiscono che si proseguirà nel solco tracciato così bene dalla giunta uscente e poi perché inevitabilmente l'immagine che offre Gian Domenico Cagliazza è un'immagine di sicuramente di maggiore modernità che ci dà tranquillità per affrontare quei mari agitati che dovremo affrontare con la Iena Riddens che abbiamo come Ministro della Giustizia vedete ancora oggi noi non ce ne rendiamo conto forse ma noi ancora oggi raccogliamo i frutti del lavoro ad esempio di quella fantastica intuizione di Gian Domenico Cagliazza che è stata quella dell'Eurispes perché noi solo attraverso quella intuizione siamo riusciti a togliere la maschera ai magistrati e chiarire che finalmente non è possibile sostenere che la colpa della lentezza dei processi piuttosto che della prescrizione è responsabilità degli avvocati l'indagine dell'Eurispes che abbiamo svolto grazie all'intuizione di Gian Domenico Cagliazza e ha certificato in maniera categorica che è responsabilità dei pubblici ministeri posto che il 65% secondo i dati del Ministero di prescrizioni si verificano nella fase delle indagini preliminari Renato Borzone ho detto prima è indiscutibile il profilo di Renato Borzone però proprio il fatto che si tratti di una persona che come Gian Domenico ha vissuto all'interno dell'Unione ha fatto un percorso dall'inizio dalle origini di questa associazione noi lo conosciamo e abbiamo avuto modo di verificarlo in concreto e purtroppo noi abbiamo avuto delle esperienze che non sono state molto positive con riferimento all'apprezzamento e al rispetto di quello che deve essere il territorio perché in più di una circostanza abbiamo avuto delle esperienze negative dico come Camera Penale in prima persona nelle quali l'Avvocato Borzone quando da responsabile dell'osservatorio che dirigeva è entrato a gamba tesa nel nostro territorio non concordando con noi perché non è questo che possiamo pretendere ma neanche ritenendo di avvisare il territorio dell'intervento che stava facendo quantomeno per consentirci di metterci in sintonia con lui ma non basta e ancora vivo il ricordo nei nostri giovani di quello che è avvenuto ed è stato detto pubblicamente da lui quando con grande sacrificio abbiamo trasformato il nostro problema locale in un problema nazionale del fatto che cioè non è possibile lavorare a Bari perché non c'è un tribunale riuscendo a far fare un'astenzione a livello nazionale non solo dei penalisti ma di tutti gli avvocati italiani civilisti amministrativisti di tutti gli specialisti e lui ci ha bollato dicendo pubblicamente che quella era una astenzione elettorale ferendo a morte i giovani che in quel momento non potevano lavorare non avevano la possibilità e stavano chiudendo gli studi questo non va bene Renato ti voglio bene e ti stimo ma questo non va bene questo significa non avere nella dovuta considerazione il territorio così come non hai avuto nella dovuta considerazione il sacrificio personale ed economico al quale si sono sottoposti tutti quei giovani che hanno collaborato con gli osservatori che non sono una manica di cialtoni raccomandati come sono stati fatti passare in questa circostanza sono giovani che si sono spesi rinunciando al proprio tempo libero alle proprie passioni e anche con sacrifici economici per il bene dell'Unione detto questo detto questo chiunque vinca oggi sarà il mio presidente e spero che finalmente sarà anche il presidente di tutti noi allora comunico che il termine per presentare le emozioni è alle ore 19 di questa sera chiamo se no gli occhiali non si vede Sarti Alessandro Sarti Camera Penale di Rimini si prepari Roberto Capra Camera Penale di Piemonte ho letto con molta attenzione entrambi i programmi dei due candidati presidenti e ho ascoltato con altrettanta attenzione le parole delle loro relazioni programmatiche di oggi non vi posso negare che ho avuto un certo sollievo quando ho sentito l'avvocato Renato Borzone dire che la città di Rimini non verrà rasa al suolo perché in qualche modo un pochettino ho chiamato subito a casa ho rassicurato la mia famiglia che era già lì con le valigie e ho detto state tranquilli domani comunque vada Rimini non verrà rasa al suolo ma a parte le battute che mi sono permesso di farle perché ho compreso anche che Renato è una persona di spirito devo dire che oggi e vedervi da qua fa anche una certa impressione siamo tutti in questo congresso avvocati siamo tutti avvocati penalisti aderiamo tutti all'unione delle camere penali i nostri valori sono gli stessi i nostri ideali sono gli stessi viviamo tutti una medesima identità culturale e politica quindi in questa contesa elettorale non sono in discussione gli obiettivi guardiamo tutti nella stessa direzione e semmai in discussione la strada che dobbiamo fare per raggiungere questi obiettivi in questo senso sono stato spoilerato dal mio chi mi ha preceduto dall'avvocato Roberto Brancaleoni devo dire che la nostra scelta è a vantaggio di Gian Domenico Cagliazza nell'ottica di Gian Domenico Cagliazza perché se io devo vedere una differenza programmatica la più evidente delle differenze è quella dello spirito di maggior continuità che ha l'avvocato Cagliazza con il precedente lavoro di giunta a differenza di quello che è il programma di Borzone rimane più aderente a quello che è il precedente programma di giunta sia in relazione all'open day del quale Borzone oggi ha parlato ma in modo un pochino più appannato se mi è consentito e anche in relazione agli osservatori dove allo stesso modo si percepisce un giudizio molto più critico devo dire che un'altra differenza che ho potuto riscontrare questa di carattere del tutto personale è quella relativa alla visione politica che mi pare personalmente più concreta e che interpreta meglio lo spirito del tempo quella di Cagliazza rispetto a quella di Borzone credo che si senta e spesso nel Consiglio dei Presidenti se ne parla c'è un problema di quello che è un vero e proprio arroccamento e isolamento culturale ed è necessario cercare di far qualcosa in concreto per cercare di aggregare intorno a noi altri soggetti in quest'ottica trovo che sia un'intuizione importante l'idea di farci promotori di un manifesto della giustizia penale libero che abbia la funzione di aggregare e mobilitare le forze intellettuali politiche accademiche e financo artistiche perché troppo spesso le nostre idee volando molto alti però rimangono quasi autoreferenziali e hanno evitato poi di arrivare dove devono arrivare ossia ad avere anche presa politica per riuscire a ribaltare quello che spesso è un nostro isolamento io concludo con quello che è un mio profondo convincimento che a prescindere di quello che sarà il voto di domani sono convinto che domani chi vincerà sarà l'Unione sarà l'Unione delle Camere Penali che ha dimostrato in queste giornate la forza del proprio spirito dei propri principi e della propria passione che ha portato oggi quasi mille avvocati ad essere qui e a condividere e a confrontarsi sulle idee grazie a tutti avvocato Roberto Capra camera penale del Piemonte occidentale buongiorno a tutti si prepari Aldo Casalinovo buonasera a ragione Giorgio buonasera a tutti io ho accettato l'invito di Renato Borzone di far parte della sua squadra faccio parte della possibile giunta di Renato perché ne condivido ovviamente la visione politica le idee la determinazione e anche il coraggio Torino come sapete Torino come sapete ha deciso di appoggiare compatta il progetto di Renato Borzone io quindi rappresento la mia camera penale con orgoglio oggi qui avevo preparato un intervento mi corre l'obbligo avendo fatto parte dell'osservatorio sull'informazione giudiziaria di dire due cose al collega Gaetano Sassanelli perché il suo intervento non ha a mio avviso colto nel segno due cose l'intervento sul Petruzzelli che il presidente Migliucci ricorderà è stato fatto di comune accordo con la giunta l'osservatorio ha e non può non avere mani libere a livello nazionale per poter fare gli interventi che ritiene opportuno a Bari si è cercato in qualche modo di trovare una sponda nella camera penale territoriale c'è qua Nicola Quaranta che forse meglio di me potrà spiegare la questione ma si è cercato di dare un aiuto e di intervenire per segnare il punto su una violazione nell'ambito dell'informazione giudiziaria questione estensione Gaetano tu non mi conosci personalmente io sono venuto da Torino a Bari per dare il sostegno alla tua camera penale al tuo tribunale agli avvocati di Bari e non è vero e sono venuto in rappresentanza di Renato Borzone che quel giorno non poteva intervenire e non è vero e non è vero che ha detto che l'astensione non fosse corretta ha solo detto così come deve essere consentito che non era stata spiegata nel modo dovuto solo questo e l'analisi critica deve essere consentita va bene poi parlerai tua di nuovo se ti daranno la parola l'analisi e ritorno al mio intervento l'analisi politica di Renato parte dalla verifica come avete sentito dell'attuale contesto politico sociale ancora prima di quello politico giudiziario perché a suo avviso e a nostro avviso non si può prescindere dal contesto politico sociale le letture separate non sono consentite oggi vi è una deriva chiara di natura autoritaria rifrattare al dialogo all'attenzione alla persona ai più deboli a coloro che sbagliano e tutto questo a risvolti sui diritti di tutti che non possiamo ignorare anche perché il populismo dilagante entra ogni giorno in contatto con i diritti con la giustizia e dunque con il nostro mondo il populismo ha dimostrato dimostra e dimostrerà la sua refrattarietà a tutto ciò che è contraddittorio che è complessità dei fenomeni e delle decisioni invece noi sappiamo e ci siamo battuti per questo che solo il confronto sulle idee il ritorno alla ragione che invocava l'avvocato Petrelli ieri solo percorsi complessi e compositi possono portare a decisioni giuste sempre sia nella formazione delle leggi sia nei processi e il dilagare di queste posizioni mette in pericolo il processo e da qua si traduce il discorso che fa Renato Borzone sui diritti lo traduciamo nel concreto del nostro mondo perché dicevo il dilagare di queste posizioni mette il processo in pericolo il processo come lo intendiamo noi di parti di garanzie di riti di gradi e poi anche l'esecuzione della pena fatta anch'essa come la intendiamo noi di gradualità di attenzione alle persone di misure alternative ed è su questi punti che si dovranno fare le prossime battaglie è soltanto un'associazione liberal come amiamo definirci attenta ai diritti sempre e comunque potrà continuare migliorare ad essere punto di riferimento nel contesto sociale non è il diritto della navigazione il problema ma sono i diritti dei naviganti il problema abbiamo detto tutti diremo tutti che vogliamo un'unione unita è vero vogliamo tutti un'unione unita ma come la raggiungiamo la raggiungiamo la nostra idea è il rispetto del dissenso il rispetto dell'opinione contraria il rispetto di chi esprime qualcosa di diverso ed è il rispetto e noi vogliamo un'unione dove le persone uomini e donne si impegnino in prima persona per l'unione e non per come dire ambizioni personali che portano a scivoloni come quello che abbiamo dovuto affrontare una settimana fa quando pensavamo di dover annullare il congresso qui a Sorrento perché le elezioni sembravano già fatte bisogna ho letto nel programma di Gian Domenico il tempo è scaduto avvocato Aldo Casalinuovo camera penale di Catanzaro si prepara l'avvocato Bisori camera penale di Firenze Gaetano Sassanelli ti voglio bene però tu hai pronunciato poco fa una parola che ripeto qui era stata detta una falsità però consentimi la falsità scusami te lo dico con tutta l'amicizia possibile l'hai detta tu quando hai detto che qui da questo podio Renato Borzone avrebbe detto che i colleghi che si sono impegnati negli osservatori sono dei cialtroni no scusami scusami stiamo attenti stiamo attenti a quello che diciamo questo non è un sostantivo che può albergare in questa sala io ti ho sentito bene e allora non stiamo attenti no stiamo attenti il mio carissimo amico Valerio un anno fa disse le parole sono pietre no lo ricordate a Bologna lo disse le parole sono pietre e bisogna saperle utilizzare noi lavoriamo con le parole io come avete ascoltato sono nella squadra di Renato Borzone quindi invito tutti i delegati nessuno escluso a votare per Renato Borzone e dico pochissime considerazioni veramente qui il tempo si restringe sempre di congresso in congresso sempre di più poi ci affideranno dei secondi per parlare che lo scenario che abbiamo di fronte a noi è estremamente chiaro ed è stato ben descritto dalla relazione di Benamino Migliucci che ringrazio per la dedizione per l'impegno che ha profuso in questi quattro anni ed è stato descritto dalle relazioni dei due candidati anche ieri nella tavola rotonda se ne è parlato molto bene ma l'orario era in pausto viviamo una fase di restaurazione autoritaria io così la voglio definire di oscurantismo a 360 gradi mi fa piacere l'ho riletta quella lettera inviata il 24 agosto dal presidente dell'Unione e dal segretario a Mattarella sulla questione 18 siamo perfettamente d'accordo perché se ci sono 100 persone aggiungo 100 disperati che sono privati della libertà personale senza titolo sul territorio italiano perché erano sulla nave italiana questa è una questione che ci riguarda non è una questione che riguarda altra materia che io forse allora nemmeno feci non voglio dire ma evidentemente c'è una sensibilità che ogni tanto che ogni tanto sfugge qui noi siamo secondo me in questo scenario che attiene all'attacco ai principi badate non ai diritti secondo me ai principi perché se noi parliamo di processo a distanza di legittima difesa di impugnazioni di prescrizione siamo sul piano dei principi c'è uno sradicamente un attacco ai principi più che ai diritti e quindi dobbiamo fare molta attenzione abbiamo davanti due grandi aggravanti cioè che c'è una politica che non fa mistero non c'è nemmeno quel velo di ipocrisia che ogni tanto abbiamo visto qui no qui si viene a dire una cosa qui davanti a noi poi nelle aule parlamentari si fa altro non fa mistero di perseguire questo disegno c'è un'opinione pubblica che è ipnotizzata da questo stato emergenziale finto che però viene propinato ad ogni piesto spinto che colposamente direi la sostiene il ministro è stato assente il ministro che ride è un ministro distratto come distratto di maio con il condono forse non ha capito che siamo la più grande rappresentativa l'associazione di avvocati in italia e forse non ha capito come direbbero i colleghi di roma che non ci occupiamo esattamente di parafanghi ma ci occupiamo di altro la magistratura ha responsabilità su questo però non ci non mettiamo una cosa virtuale la magistratura ha grandi responsabilità perché interpreta una spinta regressiva minisci quando è andato a parlare con il ministro ha parlato di abolizione del difietto della reforma di impegno e di blocco della prescrizione dopo il primo grado parliamone discutiamo ci confrontiamo ma questa è la posizione della magistratura oggi non è altra ci basta stiamo finendo un manifesto Gian Domenico ma siamo un'associazione politica o siamo l'associazione degli studiosi del diritto penale ma io ho bisogno di un manifesto sulla riserva di legge sul divieto di analogia ma che cosa facciamo ma te l'ha detto Renato riprendiamo l'Antolisei siamo un'associazione politica abbiamo bisogno di compattarci su altro nei tempi più ristretti il microfono si spegne no continua benissimo va davanti abbiamo allora l'avvocato eh i tempi sono uguali per tutti l'avvocato Visori camera penale di Firenze si prepara l'avvocato professor Giovanni Flora grazie a tutti buonasera appartengo ad una camera penale che ha deciso nella sua assemblea di esprimere il suo appoggio alla candidatura di Gian Domenico Cagliazza e alla sua proposta politica per questo non mi togliete tempo applaudendo il che peraltro mi piace anche un po' poco per questo vorrei rivolgere da subito qui oggi a Renato il mio ringraziamento personale per la passione che ha profuso in questo confronto congressuale perché dicevo non applauditemi che deve restare un esercizio di democrazia e mi spiace un po' che stia o rischi di degenerare in un test dell'applausometro è una degenerazione del confronto congressuale nella quale io non riesco a riconoscermi neppure nel contesto acceso di un confronto elettorale caratterizzato da tanta passione dicevo Renato sa che l'analisi che io ho fatto della sua proposta politica non sconta in alcuna misura nessuna pregiudiziale né di merito né di metodo e che ne ho apprezzato e ne continuo ad apprezzare l'impegno anche confrontandomi in modo molto aperto con gli amici che in Toscana appoggiano la sua candidatura e colgo l'occasione perché ne abbiamo parlato lungamente nella visita alla Gorgona che abbiamo fatto qualche tempo fa per l'iniziativa della Camera Penale di Livorno che è stata un'iniziativa straordinaria e di cui voglio ringraziare Nando Bartolomei e Aurora Matteucci ciò non di meno anche all'esito della discussione di questa mattina io non riesco a non esprimere la mia netta e con altrettanta franchezza preferenza per l'analisi politica di Gian Domenico e per la sua proposta che ha connotati di concretezza lo devo dire anche qui apertamente che sono assai più marcati della proposta di Renato l'idea del manifesto dei principi del diritto liberale uno strumento di cui si dice sarebbero piene le fosse ebbene a me pare invece una proposta assai concreta quella di riunire attorno ai principi del diritto penale liberale fisicamente concretamente le voci più autorevoli del nostro dibattito culturale e intellettuale è quello che è accaduto con la vicenda taricco perché al fianco degli avvocati stavano l'accademia autorevoli voci dell'accademia nel sostenere la nostra battaglia per la difesa del principio di legalità non precisamente una cosuccia da poco e stavano lì concretamente fisicamente e il risultato che abbiamo raggiunto è concreto non son parole è vero si dice ma è superfluo è l'abc di ogni manuale di ogni di ogni manuale mantovani di diritto penale ma guardate forse lo è qui dentro tra di noi fuori di questo teatro noi non possiamo dare più nulla per scontato non possiamo dare più nulla per scontato e non vi dico tra i pizzicagnoli come si dice a Firenze vi dico tra gli avvocati che non sono iscritti alle camere penali con i quali oggi facciamo fatica a riconoscerci su temi uguali su temi omogenei su terreni omogenei diciotti ma quanta fatica io personalmente ma so molti altri abbiamo fatto nello spiegare quell'abc di cui si diceva prima ad avvocati che in fondo ci diceva ma perché Salvini non ha fatto bene ma quelli sono un manipolo di neri che vengano dall'Africa e accattati per mare vogliono anche scendere sul terreno italiano e guardate che non sono uno o due e anche se fossero uno o due la stragrande maggioranza degli altri restano nella migliore delle ipotesi serenamente indifferenti il che è peggio perché non sono non hanno cognizione non sono con noi per dirla rapidamente anche perché ho 32 secondi questa proposta io la trovo molto concreta abbiamo un dovere morale di testimonianza ma di testimonianza efficace e questa del manifesto dei principi del diritto penale liberale la trovo se vogliamo una idea molto concreta di declinazione di quel dovere di sventolare le bandiere di cui diceva Renato termino con un auspicio spero che questo sia davvero un esercizio di democrazia non solo nelle forne ma anche nella sostanza un bocca al lupo a entrambi Avvocato Professor Giovanni Flora si prepari l'Avvocato Porreca della Lombardia Orientale credo che non mi capiterà più di avere l'occasione pubblica di salutare e ringraziare tutti gli Avvocati di tutte le Camere Penali Territoriali nelle cui sedi mi è capitato peregrinando di andare o per ragioni diciamo istituzionali o per ragioni professionali o come relatore a convegni o tenendo lezioni alle scuole territoriali come Avvocato più che come professore dove sono stato invitato e soprattutto in quelle zone più difficilmente raggiungibili quelle dove esercitare la professione l'essere Avvocato è battaglia quotidiana dove ci si impolvera tutti i giorni la toga e quando si ritorna a casa con la toga sporca di polvere che si sia vinto si sia perso il processo si è sempre vinto perché abbiamo onorato la toga mi riferisco in particolare alle sedi della Sardegna della Sicilia tutta e sottolineo di tutta la Sicilia della Puglia della Calabria e della Campania fino al profondo nord Milano tutte le volte che sono andato non ho mai mancato di fare visita alla sede milanese della Camera Penale Territoriale di Milano sono andato a trovare i ragazzi milanesi che raccoglievano le firme per la separazione delle carriere Lodi Brescia ed altre mi ha arricchito e devo ringraziare tutti questo peregrinare per le Camere Penali Territoriali l'ho cercato sempre di portare dentro alla mia giunta l'esperienza che ho fatto in quelle Camere Penali Territoriali e in quella giunta in questi quattro anni di giunta che io mi sono arricchito sono diventato un avvocato migliore forse un professore migliore sicuramente una persona migliore ci siamo dati da fare per cercare come si dice di fare qualche cosa in più di quello che avevano fatto i predecessori delle diverse giunte perché sia chiaro una volta per tutte tutte le conquiste sono conquiste che fanno parte del patrimonio indisponibile dell'Unione delle Camere Penali qualunque giunta le abbia conseguite abbiamo cercato di conseguire qualche cosa in più e mi permetto di consegnare a coloro che come dice la canzone a chi verrà dopo di me a chi verrà dopo di noi nota canzone di Gino Paoli sapete qual è il mio il mio vezzo e dico innanzitutto avere fatto in modo definitivamente di far assur definitivamente definitivamente di far assurgere l'Unione delle Camere Penali a soggetto politico a interlocutore politico privilegiato della discussione in materia di giustizia penale definitivamente l'opera continua ed efficace di diffusione nella comunità sociale della cultura del giusto processo e del diritto penale liberale democratico cosa che credo che debba proseguire attività che debba proseguire nella comunità sociale e soprattutto di avere attirato dentro le Camere Penali molti giovani con l'open day mi raccomando non disperdete il patrimonio fatelo dove vi pare ma chiunque verrà dopo non disperda questo patrimonio che è quello dell'open day e dei giovani e degli osservatori mi permetto soltanto di dire una cosa forse avremmo fatto degli errori sicuramente non abbiamo fatto marchette con gli osservatori quello proprio assolutamente no e infine e infine si è parlato di avvocato in costituzione consentitemi ancora un minuto un'ultima battuta vedo vedo 57 secondi al al cronometro non vorrei che fosse una trappola attenzione l'avvocato in costituzione se significa che deve essere riconosciuta all'avvocato la funzione di partecipazione alla giurisdizione in una situazione di parità con il pubblico ministero e con il giudice in posizione di terzietà allora non può andare disgiunta dalla cosiddetta separazione delle carriere di un avvocato in costituzione senza la separazione delle carriere non ce ne facciamo assolutamente nulla anzi anzi siccome è in discussione andrà in discussione spero vada in discussione la legge iniziativa popolare sulla separazione delle carriere è lì che si dovrà cercare di introdurre insieme a quella legge anche l'avvocato in costituzione in quella cornice ciao ragazzi ciao avvocato 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 Cesare Gai camera penale di Roma ha rinunciato chiedo scusa hai ragione avvocato Michele Passione camera penale di Firenze hai già chiamato porreca 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 l'ho saltato ah l'ho già chiamato grazie è quello che deve dire dopo intervengo come possibile futuro componente della giunta a Borzone oltre la siepe si vede benissimo e si vedeva bene anche quando qualche mese fa Francesco Petrelli ha scritto quel bellissimo articolo che ha dato il titolo al nostro congresso si vede benissimo che si va verso una stagione di regresso di tutti i diritti fondamentali non tanto e non solo delle garanzie ma sulla si va verso il regresso della enunciazione stessa dei diritti fondamentali e stamattina lo ha messo a fuoco con tutta la sua esperienza e capacità il presidente del consiglio delle camere penali Armando Veneto ha chiuso il suo intervento richiamando l'attenzione di tutti a questo grave immanente pericolo e se questa è la stagione che stiamo per vivere mi pare che anche dagli interventi di ieri l'analisi politica abbia poi trovato una convergenza su questo punto la figura professionale che deve ergersi a difesa dei diritti non può che essere quella dell'avvocato la difesa dei diritti fondamentali nel processo perché è nel processo che si confiscano i diritti ecco il processo distorto che si confiscano i diritti e quindi questo vorrà dire attuazione piena di quell'articolo 111 della Costituzione che è patrimonio di tutta l'Unione il tema della separazione delle carriere che dovrà essere sicuramente portato avanti l'insieme dei diritti fondamentali che dovranno essere difesi dagli avvocati ma quale tipo di avvocato certamente in prima linea l'avvocato penalista l'avvocato penalista dell'Unione delle Camere Penali perché solo noi possiamo essere la punta di diamante di questa missione vera e propria di costruire la barriera contro l'abbattimento il tentativo dell'abbattimento dei diritti fondamentali della persona questo nel processo ma anche nella società nella società è giunto il momento per cui la l'unione delle Camere Penali esca allo scoperto contro la demagogia e la violenza del linguaggio degli slogan politici subculturali da perenne campagna elettorale in tutte le manifestazioni della società civile il nostro compito sarà quello di tutelare i diritti fondamentali della persona nessun governo pur democraticamente eletto potrà confiscare comprimere sopprimere i diritti fondamentali con la complicità degli avvocati dell'unione alla luce di tutto questo due sono i punti che mi suscitano perplessità nel programma di Gian Domenico c'è davvero bisogno di riscrivere un manifesto della giustizia liberale e penale nel nostro paese gli avvocati non forse non sanno già quali sono i diritti fondamentali e irrinunciabili devono forse mettersi ad un tavolo e discuterne e inevitabilmente finire a chiudere compromessi su queste che sono premesse assolutamente irrinunciabili da parte nostra pena la nostra estinzione come associazione politicamente significativa secondo punto il dialogo con la magistratura certamente noi dialogheremmo mancano 29 secondi dobbiamo dialogare con tutti ma non dimentichiamoci mai che la magistratura anche nelle sue espressioni più aperte al momento di discutere di separazione delle carriere di prescrizione di abolizione del divieto di riformatio impeius si ricompatta sempre e comunque perché la loro funzione è quella dell'applicazione autoritativa della legge a noi spetta la difesa dei diritti avvocato avvocato michele passione camera penale di firenze si prepari l'avvocato ripamonti buongiorno a tutti parlo a titolo assolutamente personale non sono delegato e per quello che vale sostengo apertamente e convintamente renato borzone faccio parte della camera penale di firenze sono molto contento di poter appartenere a una camera che ha votato convintamente giandomenico caiazza e sono convinto che si possa fare qui come facciamo a firenze e luca bisori lo sa che è un mio amico che le cose si dicono apertamente fanno bene a tutti predicare o praticare unità guardare alle cause o guardare gli effetti delle cose che si determinano io sono abituato a parlare con parresia mi sforzo di farlo sono convinto che l'ascolto sia un atto di democrazia e di civiltà ed è la premessa di tutto allora se questo è vero io sostengo Renato Borzone perché ho trovato in quel programma la ragione di un impegno nella difesa dei diritti che vanno difesi sempre e da subito non dopo che qualcuno ha fatto notare che si è usata una parola impropria come quella dei diritti della navigazione credo nella inutilità di un manifesto liberale perché quando vedo che in quel manifesto liberale sta scritto a pagina 9 del programma di Gian Domenico c'è la certezza della pena storta nel suo significato profondo come riconosce a pagina 20 in un significato che è proprio diverso da quello che io lì trovo io non mi riconosco in quei principi che dovrebbero essere inseriti in un manifesto liberale allora non mi riconosco e non comprendo come si predichi la vicinanza al territorio e poi si dica che l'Unione sono le sue giunte questo ha detto Gian Domenico Cagliazza o io ho sentito male non capisco l'intergruppo parlamentare Gian Domenico è un radicale e dovrebbe ricordarsi che i radicali hanno promosso e che si è tentato di favorire la nascita di un intergruppo in materia di droga ebbene chiediamoci che cosa ha fatto l'intergruppo dei parlamentari delle aree più varie in materia di stupefacenti figuriamoci per i valori che noi vogliamo portare avanti io credo che i diritti i diritti di tutti vadano riconosciuti e tutelati nelle loro forme più varie e vadano riconosciuti e tutelati dall'inizio guardate il destino è nelle nostre mani io ho avuto il privilegio di far parte di una commissione ministeriale che ha provato a cambiare lo stato di cose esistenti come si diceva una volta non ci siamo riusciti le ragioni sono note sta a noi adesso eccitare i nostri giudici come si usa dire sta a noi misurarci con percorsi di legittimità costituzionale sta a noi misurarci con la convenzione sta a noi misurarci con i doveri che sono nostri e che non possono essere resi a pannaggio di qualcun altro che ci dice come fare io credo che unità predicata sia una bellissima linea di orizzonte ma per comprendere questo bisogna fare in modo di ascoltare davvero chi la pensa diversamente altrimenti la predica dell'unità da qui e fuori da qui sarà io credo una lettera morta io mi auguro che vinca Renato Borzone ma davvero se vincerà Gian Domenico Cagliazza e lo dico con assoluta convinzione e sono sicuro che lui pensa la stessa cosa sarà da domani un cammino comune vi ringrazio avvocato ripamonti camera penale di Milano si prepari l'avvocato Attilio Belloni cari colleghe cari colleghi nel proporci come gruppo di una eventuale futura giunta presieduta da Gian Domenico Cagliazza nel proporci la guida dell'unione abbiamo preso le mosse da una valutazione attenta del contesto politico generale io penso che prima ancora di registrare come tutti hanno registrato una deriva populista e soprattutto giustizialista noi dobbiamo verificare come sia la democrazia rappresentativa a essere in grave crisi nel nostro paese perché il Parlamento è esautorato di pressoché ogni funzione legislativa ormai in mano al governo che si è svincolato dal mandato elettorale ricevuto su un programma o su più programma si tratta però se ci badiamo bene solo di effetti perché a mio avviso l'origine di questa evoluzione o involuzione sta nel ribaltamento della regola fondamentale della democrazia non si ricerca più il consenso su di una linea politica ma si adatta la linea politica all'andamento della pubblica opinione questo riguarda anche il modo in cui viene elaborata la proposta politica in materia di giustizia giustizia la cui espressione viene usata solo per acquisire consenso facile noi però sappiamo che chi si riempie la bocca di giustizia finisce per ignorare il diritto che viene considerato ormai solo un ostacolo al soddisfacimento della pubblica opinione ecco noi dobbiamo partire da qui dal nostro compito di difendere il diritto e in una società dove i partiti politici abdicano al loro ruolo di coagulazione del consenso intorno a ideologie assumono ormai una funzione essenziale quei soggetti che come l'unione delle camere penali al contrario trovano la loro ragione della esistenza stessa e della loro azione politica proprio e solo in idee e valori indipendentemente dal consenso l'unione si è ormai imposta come portatrice di questa funzione e deve continuare a farlo ma farlo con rinnovata energia proprio ora che il diritto viene esplicitamente additato dalla politica come una inutile sovrastruttura e nell'attendere a questo compito si possono naturalmente delineare strategie e tattiche differenti noi proponiamo un progetto innovativo che muovendo su una linea di continuità storica con la politica dell'unione persegua un confronto con i nostri interlocutori istituzionali per cercare di allargare il consenso su questo proposito di difesa del diritto siamo dunque per questo troppo dialoganti come qualcuno ha polemicamente sostenuto mi verrebbe da rispondere dialoganti a chi recentemente sul Corriere della Sera la segretaria di magistratura democratica ha scritto che il nuovo scenario politico ci pone di fronte a difficili sfide per la tutela dei diritti e della garanzia e la magistratura deve reagire ponendosi al fianco dell'avvocatura come parte di un fronte più esteso bene per quanto non si possa non valutare con favore queste affermazioni dobbiamo però accogliere questa disponibilità al dialogo ricordando sempre la nostra posizione antagonista rispetto ad una funzione storica della magistratura sempre collocata più a fianco dell'autorità piuttosto che della libertà e siccome non siamo ingenui non sarà certo per l'attuale preoccupazione della magistratura che noi potremo deflettere dalle battaglie di sempre affinché la magistratura venga ricondotta nel suo alveo costituzionale rispetto alle ben note esondazioni anche politiche una magistratura che al di là delle pubbliche esternazioni nelle aule giudiziarie quotidianamente supera il diritto e comprime la difesa ritenendosi ancora investita della funzione etica di raddrizzare il legno storto della società è per questo che nel nostro programma è finito ok grazie arrivederci Belloni camera penale di Napoli si prepari Alagna camera penale di Trapani buonasera a tutti io devo dire che abbiamo accolto con molto favore l'appello di entrambi i candidati all'unità e all'armonia tra le camere penali tutte le camere penali Renato Borzone ha scritto a chiare lettere che l'unione è la casa di tutti i penalisti e di ciascuno di loro di noi è evidente e pacifico e questo vale anche per la camera penale di Napoli che chiunque vincerà l'elezione sarà il presidente di tutti noi e sarà il presidente della camera penale di Napoli ma l'assetto politico istituzionale che abbiamo di fronte se richiede come ho detto unità di intenti impone anche la capacità da parte di chi dirigerà l'unione di ascolto di sintesi delle opinioni di tutti anche delle opinioni di chi e di quelle camere penali che legittimamente non sui social dissentono dalla programma della giunta e mi riferisco al dissenso legittimamente espresso in particolare nel consiglio delle camere penali il passaggio di Domenico Cagliazza nella sua relazione non mi è piaciuto perché credo che l'amico Domenico sia caduto nella trappola nella quale sono caduti in tanti il dissenso politico e polemica personale non ha visto alcun dissenso politico ma solo polemica personale questa affermazione questa affermazione è gravissima perché ignora il dissenso politico che è stato espresso negli ultimi tempi contro una politica di apertura di credito verso il governo e verso la magistratura e devo dare atto dell'onestà politica dell'onestà intellettuale scusatemi del presidente Migliucci che tutti ringraziamo per quanto ha fatto ho l'onestà intellettuale di dire di aver capito che il ministro Orlando quando o era in malafede o non avuto il coraggio di affermare le sue idee questo questo semplice concetto è stato sempre espresso da alcune delle camere penali nel consiglio delle camere penali ecco la necessità dell'ascolto ecco la necessità della capacità di sintesi ecco la necessità della capacità di unire sul serio e davvero personalmente sono stato aggredito verbalmente ovviamente dal sottosegretario migliore solo per aver detto nel novembre del 2016 che avevamo qualche dubbio sulla effettiva effettiva volontà di approvare la riforma credo che Renato Borzone abbia questa capacità di sintesi abbia questa capacità di ascolto e per questo per corsia si accomodi l'avvocato salvatore alagna sono qua presidente ah sei già là non ti avevo visto grazie si prepari l'avvocato vincenzo comi della camera per alle di Roma buonasera e vi porto il saluto da Trapani dalla nostra camera penale e anche dal nostro ordine che è preseduto da un iscritto alla nostra camera penale un saluto anche alla presidenza e anche all'aggiunto oscente del presidente Migliucci il buio oltre la siete e il tema conduttore di questo congresso devo dire che meglio di ogni altro corrisponde ai tempi che stiamo vivendo e direi che forse è stato profetico nella mente di chi l'ha ideato l'avvocato Petrelli incertezza politica o forse certezza politica perché forse una certezza di questo tipo mai si è verificata nel corso della storia repubblicana perché nel nostro paese ciò che è precario è fortemente stabile un'alleanza di governo fra soggetti eterogeneri che si trovano sconcordi soltanto su alcuni punti che si pongono però in contrasto con gli ideali di giustizia nei quali crediamo e che discendono dalla Costituzione manette ed effettività della pena sono le parole d'ordine di questo governo e ci accreditano come coloro che attraverso trucchi e artifici consentono a chi delinque di non scontare le sanzioni mi direte è propaganda è campagna elettorale permanente ma sulla gente tutto questo fa presa noi non siamo contrari alla effettività della pena ma vogliamo che essa sia il risultato di un procedimento legittimo a seguito di un rispettoso iter dove siano garantiti non solo le facoltà accusatorie ma anche i diritti garantiti dall'articolo 111 della costituzione questa è la nostra idea di giustizia la costituzione è la nostra legge sacra è il nostro vangelo e ci insegna che non solo esiste la potestà punitiva dello stato ma anche una funzione rieducatrice della pena che è diretta a recuperare il condannato e rinserirlo nel contesto sociale ma dobbiamo spiegarlo alla gente che la pena deve essere effettiva che può essere scontata seriamente anche attraverso i benefici alternativi della detenzione dobbiamo spiegare alla gente che vogliamo servizi sociali efficienti che diano opportunità vere di lavoro ai condannati perché solo attraverso il lavoro si rientra nella società dobbiamo chiarire ai cittadini che quando chiediamo che l'imputato partecipi fisicamente al processo non è perché aspiriamo a dilungare i tempi del processo ma vogliamo soltanto che si estrinsechi che si attui il diritto il diritto di difesa e cioè la capacità dell'imputato di interloquire la capacità dell'imputato di interagire con il suo difensore senza alcuna mediazione fittizia quale può essere il monitor il telefono o un altro strumento informatico la gente deve comprendere che vogliamo che le intercettazioni siano uno strumento eccezionale che deve essere attuato solo quando realmente come dice il codice ogni altro strumento investigativo risulti vano e questo perché lo richiede la Costituzione perché abbiamo un diritto alla riservatezza che deve essere garantito dobbiamo spiegare alla gente che le misure di prevenzione sono uno strumento di inciviltà giuridica e processuale solo così possiamo recuperare credito presso l'opinione pubblica che ci vede arroccati su posizioni di rifiuto per lei incomprensibile posizioni dalle quali probabilmente non riusciamo a chiarire quello che è il nostro vero pensiero e quelle che sono le nostre vere ragioni dormiamo ritornare quindi allo spirito che animò l'unione ai tempi della battaglia del giusto processo gli onori e le cariche lasciamoli agli altri noi tiriamoci sulle maniche e lavoriamo tutti insieme affinché l'avvocatura penalista sia un soggetto propositivo e operativo senza soggezione alcuna del potere e senza essere cortigiano del potere qualunque esso sia noi non dobbiamo appoggiarci né a questa né a quell'altra forza politica io credo che debbano essere le forze politiche a recepire i nostri ideali e appoggiarci a noi perché non dobbiamo essere strumentalizzati da alcuno dobbiamo essere protagonisti e questo dico a voi Renato Borzone per il quale la mia camera penale ha scelto di votare e Gian Domenico Cagliazza al quale vanno e lui lo sa bene e lui conosce bene il mio pensiero vanno la nostra stima e il nostro apprezzamento in ogni caso l'avvocatura penale è nelle vostre mani chi di voi vincerà la guidi secondo lo spirito dei padri del giusto processo perseguite ad ogni costo sta scadendo il tempo grazie presidente no 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 sta scadendo sta scadendo il tempo va bene ricupere 30 secondi perseguite ad ogni costo il bene prezioso dell'unità dell'avvocatura fate dell'avvocatura un corpo sano dove ciascuno possa operare per l'affermazione della legalità uniti come ha detto già qualcuno come un solo uomo nonostante la diversità di opinioni perché gli ideali sono uguali dico parafrasando tucidite che ero un grande basta ho finito avvocato vincenzo comi camera penale di roma si prepari il collega marco bosio della camera penale di imperia sanremo il più sincero ringraziamento per l'enorme lavoro svolto in questi quattro anni al presidente beniamino migliucci a tutta la sua giunta e permettetemi al segretario francesco petrelli nostro orgoglio e modello per le capacità umane etiche e per le sue doti di grandissimo avvocato io sono uno dei dei sei delegati della mia camera penale votati all'assemblea a sostegno della candidatura di gian domenico caiazza e voglio dire per chiarezza che l'assemblea degli iscritti a roma si è svolta regolarmente e ha eletto sei delegati per caiazza e due per renato borzone penso che il quadro politico di oggi imponga una strategia di rafforzamento del ruolo della nostra associazione e della nostra identità di soggetto politico l'unione deve diventare il punto di riferimento per tutti i soggetti che credono nei valori liberali della giustizia penale è il momento di andare a diffondere la nostra cultura di minoranza con un impegno forte noi abbiamo la forza della presenza sul territorio e della quotidiana militanza di tanti con lei che io vedo quotidianamente impegnati nella mia camera penale e a tal proposito voglio rivendicare pubblicamente l'impegno di questi colleghi l'impegno di tanti colleghi che poi vengono chiamati e partecipano attivamente con sacrificio ai lavori degli osservatori dell'unione delle camere penali nei confronti di chi si è impegnato in questo modo non è decoroso sentire giudizi particolarmente pesanti e indecorosi questo momento politico è un'occasione irripetibile per far diventare l'unione delle camere penali un soggetto politico federatore delle idee liberali costituzionali e garantiste noi abbiamo già avuto l'esperienza con la proposta di legge sulla separazione delle carriere che ha visto tutti noi andare in mezzo alla gente per fare banchetti se vogliamo se vogliamo che ci sia un futuro delle camere penali dobbiamo rispettare tutti questi colleghi che si impegnano io ne ho visti tanti in quei giorni soprattutto i più giovani e dicevo per realizzare questo obiettivo questo progetto bisogna porre al centro le camere penali territoriali trovando un linguaggio comprensibile per tutti iniziando a parlare con i più giovani nelle scuole e nelle università e in questo senso è una grande sfida entusiasmante e innovativa il progetto del manifesto della giustizia penale proposto da Gian Domenico e il senso dell'iniziativa non è permettetemi riducibile ad una mera raccolta di giurisprudenza si tratta di promuovere una mobilitazione attraverso l'impegno delle camere penali siamo nel momento giusto e noi penalisti siamo i più titolati per promuovere e guidare un processo di riflessione che ci porti a definire i connotati identitari di una giustizia penale liberale e non ci dimentichiamo che il giusto processo lo abbiamo fatto noi è figlio dell'unione delle camere penali italiane e questo ci fornisce l'esperienza e la consapevolezza delle nostre potenzialità in chiusura volevo solo fare cenno alla difesa d'ufficio richiamata da Gian Domenico che è un altro tema in relazione in relazione al quale voglio ribadire la mia personale adesione al programma di Gian Domenico incentrato sul rafforzamento della preparazione della qualità professionale e della consapevolezza del ruolo nel solco dell'attività che orgogliosamente rivendico avere sperimentato nella nostra camera penale dalla commissione difesa d'ufficio intitolato a Paola Rebecchi grazie un ringraziamento un ringraziamento particolare al collega che ci ha fatto guadagnare un minuto l'avvocato Marco Bossio camera penale di Imperia si prepari l'avvocato Valentina Alberta grazie della camera penale di Milano sono il presidente della camera penale di Imperia Sanremo una camera penale di frontiera una camera penale che si confronta con il tema del limite un bel convegno sul concetto del limite un confine io abito a Ventimiglia la mia figlia più piccola studia a Mentone tutti i giorni attraverso quel confine lo attraverso liberamente altre persone non lo possono attraversare liberamente ad altre persone quel diritto è negato è negato un diritto attraverso questa formula tra virgolette medievale del respingimento per cui alla frontiera questi soggetti vengono respinti e allora penso ai diritti negati si è parlato tanto in questo congresso di diritti negati i miei componenti della camera penale tutti i giorni difendono nelle aure del tribunale queste persone ma non procediamo per slogan non cadiamo nel facile populismo vediamo effettivamente quelli che sono i passaggi peculiari che ci caratterizzano mi è piaciuto molto il passaggio di Beniamino sulla difesa degli ultimi che è una nostra caratteristica senza alcuna riserva è perché il prerequisito di cui si parla nel programma di Borsone è pacifico è ovvio che è la difesa dei diritti la difesa dello Stato di diritto allora noi dobbiamo osare dobbiamo superare questo limite e l'intervento del professor Manes che è per la sua che si è caratterizzato per pacatezza perché bisogna anche recuperare una pacatezza di linguaggio ciò che spesso invece ciò che invece spesso perdiamo e allora si dice che la porta sia il tratto più lungo di un viaggio quando si attraversa la porta e si esce già in lì si contiene tutto la prospettiva del viaggio io sono convinto e spero che quella porta venga attraversata da Gian Domenico Cagliazza perché la mia Camera Penale appoggia in modo incondizionato Gian Domenico Cagliazza perché l'inizio condizionerà il percorso e questo è un inizio è un inizio che si pone naturalmente in una rinnovata continuità io non parlerei solamente di continuità rispetto al lavoro forte importante di questa giunta ma una rinnovata continuità perché questa giunta ha lavorato molto bene ha lavorato arrivando direttamente nel cuore dei problemi ha ritrovato quel vecchio entusiasmo che avevamo anni fa io ricordo il congresso di San Nicola Arcella che è stato un bel momento quello dal cui poi abbiamo tratto tutto il nostro sapere che abbiamo siamo riusciti a sviluppare intorno all'articolo 111 della Costituzione questa giunta ha lavorato bene tutta la giunta ha lavorato bene mi consentite solamente un passaggio un ricordo all'avvocato non ricordo nel senso di un richiamo all'avvocato Rinaldo Romanelli che è un ligure è un genovese è un grande avvocato non solo nel presente ma lo sarà anche nel futuro per questa unione e io ne sono perfettamente convinto ed è stato molto vicino alla camera penale di Imperia Sanremo e anche alla sua camera penale di Genova anche se con qualche difficoltà il Consiglio dei Presidenti Eriberto Rosso ingiustamente attaccato quel meraviglioso uomo e avvocato che è l'avvocato Veneto che ha salvato l'Unione ha salvato l'Unione perché io ricordo in quel periodo c'era un momento forte era un momento di grande divisione e lui ha salvato l'Unione perché ha ricompattato intorno alla sua figura e alla sua grande carisma tutti quanti noi e allora perché siamo convinti della candidatura di Cagliazza per tanti motivi un programma concreto ma soprattutto quell'idea del manifesto della giustizia penale liberale è una cosa forte una cosa nuova è una cosa che ci deve caratterizzare ma non è come lo ha detto anche qualcuno prima di me non è un'operazione accademica è un intervento forte nella società noi dobbiamo andare nella società e questa idea di porsi come avanguardia è importantissimo e quindi la convenzione nazionale con il coinvolgimento di tutta la società in tutte le sue componenti è un elemento fondante e molto importante e credo di aver terminato il tempo e quindi Si accomodi la collega Valentina Alberta della Camera Penale di Milano si prepari l'avvocato Marco Siracusa della Camera Penale di Trapani Grazie Presidente buonasera a tutti io come credo tanti di tutti noi per tanto tempo ho avuto la sensazione di vivere allo stadio un luogo dove si entra e ci si siede in curva nord e in curva sud perché si Gian Domenico la curva nord e la curva sud ci sono state sono fisiologiche in un congresso elettorale ma non lo sono nella vita quotidiana della nostra associazione non si può sempre dover indossare una maglietta non si può sempre dover fare il tifo io sono stufa di sentirmi fuori posto perché non faccio il tifo da una parte abbiamo visto e queste cose ci sono state abbiamo visto gli occhi al cielo al Consiglio dei Presidenti perché io ho partecipato per mia fortuna a tre consigli dei Presidenti quando prendevano la parola taluni abbiamo saputo che certi convegni nazionali in certi sedi non si potevano fare abbiamo visto stigmatizzare camere penali l'anno scorso a Roma proprio Gian Domenico Cagliazza attaccò la mia camera penale sulla separazione delle carriere in modo ingiusto e immotivato dall'altra parte però va detto e va detto abbiamo visto la critica a prescindere abbiamo visto la critica sempre e comunque per la giunta che non interveniva mai tempestivamente abbiamo visto polemiche spesso ingiustificate abbiamo visto fastidio per chi secondo me giustamente ha dato il proprio contributo a questa giunta come a qualsiasi altra giunta negli osservatori o nella propria camera penale territoriale facendo il proprio dovere fino in fondo allora io credo che però questa questione non possa essere liquidata dicendo che bisogna accettare il vincitore del congresso che dobbiamo fare chi non è d'accordo si deve fare da parte io credo che questo sia sbagliato ed è con questo argomento che Renato Borzone ci ha coinvolti in questo progetto ed è stata la questione di metodo su cui volevo dire queste due parole parlo di esecuzione penale rapidamente perché questa è la materia a cui sono più affezionata rapidissimamente Renato ne ha parlato è stato fatto un ottimo lavoro dalle giunte prima negli anni del sovraffollamento con un osservatorio carcere che ha denunciato ha protestato e è andato nelle carceri poi in una fase diversa si è costruito tantissimo nelle commissioni negli stati generali dell'esecuzione penale c'è un momento particolare c'è una regressione sono d'accordo con quello che diceva Rita Bernardini questa mattina un circolo vizioso che con il sovraffollamento che giustifica strette di quello che noi diamo per acquisito cioè la sorveglianza dinamica un nuovo modo di intendere l'esecuzione penale porta a situazioni di tensione come quella di Imperia che a loro volta giustificano ulteriori strette non basta dire quindi che dobbiamo portare avanti i risultati dell'esecuzione penale in questo momento dobbiamo fare altro noi crediamo che sia di nuovo il momento di sporcarci le mani di mettere il naso nelle sezioni di alta sicurezza di mettere il naso nelle sezioni di 41 bis la camera penale di Roma è riuscita a entrare al 41 bis di Rebibbia dobbiamo andare a vedere che succede in queste sezioni l'ha detto Renato dobbiamo andare nei CPR oggi così si chiamano questo governo ha aumentato nuovamente a 18 mesi il tempo massimo di permanenza diventeranno luoghi di inferno e noi non possiamo sottrarci il cambiamento culturale è fondamentale ma l'informazione deve essere corretta non molliamo sui principi il 41 bis va abolito l'ergastolo stativo è tortura non andiamo dietro a chi parla di certezza della pena ma non ci andiamo proprio non è che la certezza della pena in fase di esecuzione è una parola che ha un significato nella fase di esecuzione il principio è quello della flessibilità della pena non perché lo dico io ma perché lo dice la Costituzione l'articolo 27 terzo comma perché lo dicono gli studiosi Sandro Margara prima di ogni altro perché l'ha detto la Corte Costituzionale nella sentenza 149 del professor Vigano bellissima quindi nessuna concessione perché in nome della sete di vendetta in questo momento imperante nell'opinione pubblica si fa strada un'affermazione che viene ripetuta anche dai magistrati illuminati anche il dottor Cascini ho sentito addirittura il dottor Nordio dire questo la pena si dice non viene mai eseguita la pena è platonica allora ci devono spiegare chi sono le 60.000 persone che occupano le carceri italiane in questo momento chiudo perché fa parte della testa forse di noi sognatori con una citazione della professoressa Cartabia la vicepresidente della Corte Costituzionale che a San Vittore ha incontrato i detenuti questa cosa è stata un momento molto bello la professoressa Cartabia ha detto che se gli ideali della Costituzione in carcere in particolare sembrano non coincidere con la realtà non sono gli ideali che devono essere cambiati ma dobbiamo cambiare la realtà forza Renato e forza Sognatori collega Marco Siracusa della Camera Penale di Trapani dopo interverrà il collega Francesco Calabrese della Camera Penale di Reggio Calabria grazie e buonasera ho delega da parte dei colleghi della Camera Penale di Trapani di sostenere e votare il ragionevole sogno di Renato Borzone detto questo siccome si è parlato all'inizio di questo dibattito di gruppi fatemi dire con franchezza che è un'espressione infelice Camera Penale di Trapani come tutte le Camere Penali è aderente all'unione delle Camere Penali italiane non appartiene a nessun gruppo cominciamo dall'ovvio l'unione è unione è un insieme di ideologie di uomini e di donne che fondano sull'articolo 2 dello Statuto i valori dell'avvocatura penale l'unione si occupa e si preoccupa ovunque nel mondo dello Stato di diritto dei diritti umani dei diritti inviolabili di difesa e di libertà l'unione è inclusione e non è esclusione è forte nelle sue divergenze interne e quando ci sono divergenze un'associazione ne esce più forte non sono mai questioni personali questo è secondo me secondo noi i Camera Penali di Trapani un momento difficile perché parafrasando Fraiano la situazione politica italiana è grave ed è anche seria ed è un momento importante perché noi siamo chiamati a decidere cosa sarà l'unione nel prossimo futuro e allora l'unione deve rimanere quella che è stata un'associazione politica come gli avvocati che la compongono indipendente trasversale non schierata ed è vero quel che ha detto a Roma Gian Domenico Cagliazza l'unione in questi anni è mutata geneticamente io condivido quest'analisi e con quest'analisi vorrei provare a ragionare e allora è possibile che siamo cambiati è possibile che dobbiamo cambiare passo è possibile che dobbiamo cogliere il momento e l'occasione politica del momento però prima di decidere cosa fare e come farlo noi dobbiamo ricordarci chi siamo siamo e non dimentichiamolo mai e utilizzo ancora una volta un'espressione di Gian Domenico una nicchia di pochi e guardo il tavolo della Presidenza una nicchia di pochi che ha avuto la forza con la Presidenza di Nuccio Frigo di ottenere nell'articolo 111 della Costituzione scritto in perituro finché ci sarà la Costituzione repubblicana il giusto processo e allora può darsi che noi in questi anni siamo cambiati e siamo cambiati all'interno nel senso che da Camere penali federate ciascuna autonoma nella sua politica è federata nell'Unione il rapporto si è rovesciato a 180 gradi con l'Unione che distribuisce politica se è questo e se è questo il cambiamento prima di discutere di qualcos'altro di un'Unione politica dei penalisti italiani prima di discutere di movimento politico noi dobbiamo discutere delle nostre regole interne dobbiamo discutere dei pesi e dei contrappesi della democrazia che è un bene prezioso e che va tutelato sempre il concetto di continuità che è stato più volte evocato io credo che vada in crisi su questa considerazione se l'Unione è cambiata come si dice e io condivido come dicevo l'analisi dobbiamo ricordarci che il nostro statuto è rimasto sempre lo stesso e dobbiamo porci un problema di regole di regole interne la continuità per come la vedo io per come la vediamo noi della Camera Penale di Trapani è recuperare il collante della nostra associazione prescindere dalle logiche di schieramento recuperare i penalisti che hanno fatto grande l'Unione e che sono stati o si sono allontanati questa chiunque vincerà è la prima responsabilità del prossimo Presidente dell'Unione in 30 secondi ordinamento giudiziario e disegno di legge appartengo a una Camera Penale che ha raccolto avendo 40 iscritti e un foro di 650 iscritti 1.060 firme se tutti avessimo avuto queste percentuali noi oggi non avremmo 72.000 firme da spendere sul tavolo della politica ma 400.000 firme è un dato oggettivo del quale non possiamo non tenere conto buon congresso avvocato Francesco Calabrese Camera Penale di Reggio Calabria successivamente avvocato Rodolfo Miloni Camera Penale di Cagliari buonasera a tutti il tempo è poco cercherò di fare qualche riflessione insieme a voi se possibile vi devo una testimonianza e una dichiarazione di voto io mi sono avvicinato al mondo dell'unione da poco per quanto si è iscritto alla mia Camera Penale ormai da tempo immemorabile sono diventato Presidente della Camera Penale di Reggio Calabria nel 2016 e ho partecipato al primo congresso a Bologna la mia Camera Penale a Venezia non ha sostenuto la giunta Migliucci quindi ero un oppositore ho partecipato a tutte le attività della Camera Penale che mi erano consentite a tutte le riunioni del Consiglio delle Camere Penali quelle 13 riunioni dal 2016 al 2018 non ho mai assistito ad alcuna forma di boicottaggio o di ostracismo legato ad idee o a principi espressi ho spesso assunto pubblicamente in Consiglio opinioni dissenzienti rispetto all'attività della giunta non ho mai trovato alcuna forma di ritorsione da parte di nessuno ho chiesto più volte di confrontarmi con i colleghi sulle ragioni perché ritengo che il Consiglio delle Camere Penali sia il punto di elaborazione politica e questo grazie al lavoro fatto da Armando Veneto che ha trasformato quel consesso in una semplice attività notarile o se volete burocratica in un momento di elaborazione politica qualcuno lo ha fatto lo stiamo facendo lo stiamo facendo sempre di più chiunque di noi viene ad esprimere le proprie idee su ciò che la giunta ha fatto su ciò che dovrebbe fare su quello che vediamo sarà la nostra prospettiva non ho mai assistito a forme ripeto di ostracismo spesso però ho assistito in tutta sincerità a una serie di atteggiamenti di ostruzionismo o se volete di atteggiamenti di non esplicitazione di ragioni politiche per le quali si assumevano del senso per la giunta su questo dobbiamo essere chiari io dopo due anni non conosco ancora le ragioni politiche per cui la Camera Penale di Pavia ha deciso di non raccogliere le firme non le conosco perché in consiglio il presidente è venuto a dire lo ricordo ancora Pavia non raccoglierà le firme punto allora possiamo trovare un accordo c'è il verbale lo attesta possiamo trovare un accordo non è necessario modificare gli statuti e non è prerogativa questa né della giunta Cagliazza né della giunta Borzone dobbiamo semplicemente assumere una posizione tutti i presidenti di effettiva collaborazione politica di espressione di ragioni e di idee politiche che fungano da critica costruttiva verso la giunta ma che non siano pregiudiziali che non siano legate cioè da una posizione assunta di contrasto verso la giunta che porta a dire che qualunque cosa si sia fatto sia negativo la dichiarazione la camera penale di Reggio Calabria modificando quindi un overruling la posizione assunta a Venezia sosterrà in linea di continuità con la giunta Migliucci la candidatura di Gian Domenico Cagliazia e lo fa e lo fa in maniera ponderata sofferta e convinta io vi ripeto in questi due anni manca un minuto ho assistito ho giudicato il lavoro di Migliucci e quello che ha fatto la giunta Migliucci in questi due anni cioè la scelta di aprirsi alla collettività di aprirsi alla gente di rompere l'esclusività del colloquio con la sola politica che era sorda o non voleva sentire e aprirsi alla gente e parlare alla gente è un patrimonio che probabilmente forse non ci rendiamo conto ancora oggi di quanto sia importante ed è un patrimonio che dobbiamo conservare e dobbiamo valorizzare per il futuro nei termini per come prospettati da Gian Domenico Cagliazza quel manifesto non è l'antolisee che dobbiamo ricordarci è un aprirsi alla società civile e far ricordare alla società civile i valori che sono stati dimenticati grazie l'avvocato Rodolfo Meloni della Camera Penale di Cagliari chiedo scusa ma sono un po' senza voce successivamente l'avvocato Enzo Gennaro Camera Penale di Vivo Valencia non sono delegato come presidente della Camera Penale di Cagliari e coordinatore delle Camere Penali della Sardegna dichiaro che a maggioranza il coordinamento voterà per Gian Domenico Cagliazza io ho partecipato a tanti congressi e a quasi tutti i consigli delle Camere Penali io ho l'impressione che qualcuno parli di cose che non sa perché quando taluno afferma che i consigli delle Camere Penali sono una forma di piageria verso la Giunta evidentemente non ha mai partecipato d'altra parte basterebbe sentire quello che ha detto il collega Belloni della discussione che si è sviluppata all'interno del Consiglio su argomenti che portavano una Camera Penale a porsi contro la posizione della Giunta per capire che si tratta di posizioni strumentali ma cosa vogliono dire i programmi quando noi siamo un'associazione politica culturale un'associazione di idee noi non andiamo a consuntivi non andiamo a risultati noi sosteniamo delle idee e le sosteniamo contro tutti e contro tutto il manifesto ma di che cosa stiamo parlando? Allora qualcuno ha detto che la situazione in Italia è grave e ha richiamato la rivoluzione francese no io richiamo il 1943 eravamo occupati dai tedeschi con l'aiuto di una parte degli italiani ecco i 5 stelle sono i tedeschi la Lega e quella parte di Giuda che ha rinnegato le sue posizioni politiche ricordiamo Salvini che firma il manifesto sulla separazione delle carriere che oggi chiaramente si pone contro e vorrei dire che quel posto di Gian Domenico è stato stravolto il posto di Gian Domenico diceva pubblichiamo il manifesto in modo che Salvini si ricordi di quella che è la sua posizione e allora cosa rappresenta questo manifesto? nel 1943 fu creato il CLN il Comitato di Liberazione Nazionale all'interno c'erano tutti liberali comunisti democristiani noi oggi siamo nella stessa posizione come sarebbe a dire non dobbiamo discutere vogliamo continuare a richiuderci come è stato fino ad ora in una torre d'avorio a parlarci addosso noi dobbiamo riprendere a parlare con la gente il programma di Gian Domenico è questo creiamo una sinergia con la società civile l'accademia iniziamo dall'accademia ma richiamiamo la cultura l'arte chiunque condivida i nostri principi noi abbiamo bisogno di lottare da soli non andiamo da nessuna parte insieme facciamo tanto e possiamo fare tanto i nostri avversari sono forti ma noi possiamo essere forti quando poi la situazione sarà ristabilita ognuno riprenderà le sue posizioni certo non pensiamo che la magistratura di Davigo verrà con noi però possiamo sdoganare quella parte della magistratura che ha dimostrato di condividere i nostri principi e c'è e abbiamo l'obbligo di indurla a venire allo scoperto ecco questi programmi come tutti i programmi si dovrebbero basare su ciò che si dovrà realizzare non ho mai sentito un programma che si basa su un sogno un sogno è un'utopia Borgione ha detto che l'utopia è di chi propone la realizzazione ma l'utopia è di chi sogna si è dimenticato poi tra le altre cose quando ha parlato degli osservatori perché veramente la cosa è diventata curiosa osservatori cosa sono covodi raccomandati strumenti elettorali ma l'avvocato Borgione se non ricordo male ho finito veniva da un osservatorio un po' particolare e mi pare di ricordare che la maggior parte dei componenti di quell'osservatorio oggi fanno parte della sua giunta ma signori ma non scherziamo io quindi chiedo credo che la candidatura di Gian Domenico sia quella che ci darà la possibilità di continuare la epopea la via tracciata dalla giunta Migliucci e questo non vorrà dire accettare pedisseguamente ciò che la giunta Migliucci ha fatto si rivedranno le posizioni si adatterà alla realtà ma lo schema è quello Borzoni ha tracciato un sol connetto e voi dovete capire che chi vota Cagliasa vota la continuazione di quella linea politica ideologica grazie avvocato Enzo Gennaro della Camera Penale di Vibo Valencia per cortesia se chiudete quella porta perché il brusillo dei fumatori disturba i lavori no sono un A fumatore segue pardon segue l'avvocato Enzo Gennaro di Vibo Valencia segue l'avvocato Placanica di Roma Signori buonasera a tutti grazie ai colleghi io penso che il terreno su cui muoverci è innanzitutto quello della lealtà ma in concreto non di quella che noi diciamo a parole e poi magari nei fatti vediamo che è diversa permettetemi di ringraziare l'organizzazione è un ringraziamento penso che vada in modo particolare fatto alla giunta in tutti i suoi componenti con tutte le organizzazioni che hanno ben lavorato e un altro grande ringraziamento anche al Consiglio dei Presidenti che abbiano ben lavorato lo dimostra il fatto che noi oggi abbiamo un gran numero di partecipanti sia ai congressi sia a quelli che sono i consigli delle Camere Penali quindi un significato dovrà pure avere poi ognuno potrà dire quello che vuole quello che ritiene noi rispettiamo le opinioni di tutti però non possiamo non considerare quelli che sono i fatti concreti ringraziamo noi Camere Penali della Calabria sia Gian Domenico Cagliazza che Renato Borzone due persone squisite che ci hanno fatto visita ci hanno esposto quelle che erano le loro linee programmatiche e che ci hanno ascoltato è proprio dopo questa riunione che le Camere Penali della Calabria hanno preso una posizione delle nove che hanno diritto al voto sette hanno deciso di sostenere la candidatura di Gian Domenico Cagliazza non ce ne vorrà Renato persona squisita ma si tratta di effettuare delle scelte io non amo andare a censurare quello che scrivono gli altri nei programmi mi piace rilevare magari anche per una questione di quello che ritengo debba essere l'avvocato le parti positive e mi piace annotare come nel programma di Gian Domenico Cagliazza al capitolo 1 paragrafo 3 ci sia un titolo che penso possa racchiudere tutto quello che Gian Domenico ci vuole dire che fare come fare con chi farlo è un programma di spessore politico pregnante fa un'analisi intelligente con realismo e il suo spirito propositivo io lo vedo molto molto concreto permettetemi di spendere però due parole su quella che è stata forse qualche illazione che io non condivido sugli osservatori gli osservatori hanno avvicinato l'Unione Camere Penali sicuramente al territorio e la dimostrazione io ve la do subito quando io ero presidente della Camera Penale di Vibo Valencia non arrivavano le chiamate ad personam ma proveniva e questo accadeva sotto la giunta Migliucci una mail dalla segreteria che ci proponeva di indicare i nominativi di coloro i quali avessero voluto far parte dell'osservatorio e se permettete questa non ha niente a che fare né con sedia né con poltrone forse è stata male interpretata forse qualcuno avrà da ridire qualcosa ora due parole sul populismo il problema io penso che ponga le radici nel tempo abbiamo avuto la sfortuna sempre di avere dei ministri di grazia e giustizia poco attenti sia al dialogo che a quello che era il baratro che si avvicinava e che loro non hanno mai saputo o voluto vedere però questo ha portato ed è il frutto di quel progressivo ridimensionamento della sensibilità per le garanzie che fin tanto riguarderà gli altri allora tutto va bene deve passare sulla propria pelle per rendersi conto di quello che è il difficile ed allora la ricetta è che la politica si riappropri del suo ruolo che il legislatore faccia le leggi e che il giudice le appichi ma non che il giudice faccia le nuove leggi tutti ne avrete memoria della creazione del concorso esterno nella 416 bis in quale parte del nostro codice sta scritto e allora che il giudice non blocchi le leggi che non gli piacciono ma che tanto meno non ne propugni quelle che invece gradisce una sola parola sul tema del manifesto guardate che il manifesto ci serve per proporci a tutta quella parte della popolazione che non ha capito ancora di che cosa parliamo e che prima di capirlo deve provarlo sulla sua pelle e chi parla della prescrizione di abbreviarlo di tutto guardate questa è la peggior forma di garantismo e di venirci qua ad ammanire con discorsi che non ne vale la pena grazie si accomoda il collega la canica dopo interviene la collega Paola Savio della Camera Penale di Piemonte Occidentale buonasera a tutti diciamo che io sono uno di quelli che comunque vada domani andrà bene nel senso che come sapete io sono il presidente della Camera Penale di Roma e i due candidati sono due iscritti alla Camera Penale di Roma però prima di dare degli stimoli ai miei iscritti e dare alcuni passaggi che mi sembrano doverosi in estrema franchezza ve lo dico subito rispetto a quello che succede anche dentro questa sala di convegno devo come presidente della Camera Penale di Roma dare un affettuoso abbraccio a Francesco Petrelli devo dare un affettoso abbraccio a Francesco Petrelli che è un signore un galantuomo un bene prezioso un fiore all'occhiello dell'avvocatura pelanistica italiana e in particolar modo romano e questo certo non significa mettere all'indice Bruno Naso che è un altro persona per benissimo che è un altro grande avvocato perché devo rigettare quell'ennesima mistificazione di chi evidentemente è oppresso da un cono d'ombra che neanche Facebook riesce a lenire oggi ci viene a dire che dare la solidarietà a Francesco Petrelli significa mettere all'indice Bruno Naso è un'ennesima mistificazione di cui non ce la facciamo più e non sopportiamo più perché è un fatto doloroso nei confronti di Bruno Naso ma se c'è un errore non vedo perché non si debba dire col massimo rispetto e il massimo aspetto rispetto a chi tu pensi che abbia sbagliato e che d'altronde ha preso un'iniziativa di divulgare urbe e torbi quella che era la sua visione che soprattutto al netto di evidenti furberie chiamiamole così della procura della Repubblica di Roma al netto di quelle certo una divisione che non è stata nella nostra scelta divulgare urbe e torbi vado a noi guardate io vedo una grande ipocrisia scusate l'ho detto sarò urticante in quello che succede e in quello che ci diciamo ha parlato per 50 minuti Gian Domenico Cagliazza e sapete cos'è successo qua dentro c'è stata un certo numero di persone da cui c'ero io che ha fatto molti applausi c'è stato uno che non ha fatto neanche un applauso Beniamino Migliucci c'è stata tutta un'altra sede di persone che non ha fatto neanche un applausi ha parlato per 50 minuti Renato Borsone io ho fatto un po' meno ma ho fatto degli applausi in alcuni passaggi che mi sono piaciuti e mi sono convinti Migliucci non ha fatto nessun applauso tutti quelli che non avevano fatto neanche un applauso a Cagliazza hanno sistematicamente applaudito ogni passaggio di Borsone allora quando mi venite a parlare di onestà intellettuale quando mi venite a parlare di gente messa all'indice noi l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle a Roma come ha detto Vincenzo Comi dopo abbiamo fatto un'assemblea regolarissima quando mi venite a parlare di questo forse è opportuno prima chiedersi se si esprime un consenso di bandiera di parte di partigianeria o si discute veramente sui fatti noi abbiamo appena fatto un'assemblea su dei bambini morti a Re Bibbia a Roma facendo una stensione e c'è chi ha ritenuto per esempio di non venirci perché era fatta da soggetti che non gli piacevano ecco lo stimolo per l'unione è questo se quella frase di Renato Borsone che mi è molto piaciuta io me la sono appena troviamo quello che ci unisce mettiamo da parte queste ipotesi che cosa succede ha pensato due minuti due secondi non due minuti si vede di là e si vede di qua ci sono dei ritardi ma esatto quindi sanno perfettamente perché quelli che stanno da questa parte registrano perfettamente la cosa che in automatico dopo i cinque minuti spegne signori avvocato Paola Sabio camera penale di Piemonte Occidentale successivamente l'avvocato Giuseppe Lo Sapio camera penale di Trani Buonasera a tutti ringrazio Gian Domenico per avermi coinvolta nel suo progetto mi ha chiesto di far parte della sua squadra qualora verrà nominato presidente dell'Unione ciò che mi ha colpito del suo programma ed è il motivo per cui con entusiasmo gli ho detto quasi subito sì sono state la concretezza e la vivacità intellettuale che lo caratterizzano e quindi proprio perché bisogna essere coerenti io questa concretezza e questa vivacità intellettuale la concentro sui punti che mi hanno colpito di più se non altro per la mia esperienza personale e professionale il primo è quello del coinvolgimento delle Camere Penali Territoriali nella realizzazione del suo programma questo come senso della continuità che si vuole dare a quel messaggio che ci ha lanciato Beniamino e che ha portato secondo me molti di noi che prima non prendevano così parte attiva all'attività dell'Unione hanno poi cambiato idea ebbene io sono credo di essere proprio l'esempio che quello di Gian Domenico non è un proclama demagogico ma un'importante realtà e conferma di uno cioè di questo punto che ritengo assolutamente nevralgico del suo programma e gli infatti nonostante le elezioni di tutti i delegati della Camera Penale cui appartengo ebbene elezione che è stata favorevole alla candidatura di Renato Borzone alla guida dell'Unione ha scelto comunque di non escludere la nostra città e quindi non escludere la Camera Penale del Piemonte Occidentale della Valle d'Aosta così dando un segno di coerenza a quella che è appunto la sua volontà di mantenere un'unione territoriale che è di fondamentale importanza da qualunque parte si stia non capisco quindi l'affermazione secondo cui si sarebbe data priorità si sarebbe dato troppo spazio ad ambizioni personali questa è una critica inveritiera ripeto io ne sono l'esempio secondo passaggio difese d'ufficio Gian Domenico questo tema mi vede particolarmente sensibile sono pronta a combattere la mia storia ve ne ha fornito un esempio ma questa lotta non deve significare solo concentrarsi sulle liquidazioni mortificanti e pacificamente volgari dei magistrati del nostro operato servirà invece fare molta più autocritica costruttiva nel nostro interno e da noi che devono partire come dire lei le idee come dire i programmi proprio per fare in modo che venga rafforzata la figura del difensore d'ufficio quindi come dire abbiano seguito le riforme del 2001 del 2015 ma soprattutto si dia molta importanza alla specializzazione una specializzazione che possa essere ritenuta tale e così evitare il proliferare di avvocati a vongole come ci ha ricordato questa mattina Francesca solo così riconquisteremo il rispetto che l'avvocatura merita io ci sono sono onorata di essere qui insieme a voi qualora il consenso appoggi la squadra che Gian Domenico ha creato e lo ringrazio per questa opportunità che come dire come si erano messe le cose a Torino non era assolutamente scontata sono pronta ad un confronto costruttivo per percorrere quella attraversata nel deserto che secondo me sarà importante percorrere tutti insieme grazie l'avvocato Giuseppe Lo Sapio Camera Penale di Trani successivamente avvocato Giacomo Frazzitta Camera Penale di Marsala buonasera a tutti sono delegato della Camera Penale di Trani che sostiene la candidatura di Gian Domenico Cagliazza innanzitutto sento di dover esprimere un ringraziamento non di circostanza a Beniamino Migliucci alle sue giunte perché si sono alternate e tutte hanno fatto benissimo per una tra i tanti meriti che potremmo ascriverle un processo che è stato è stato attivato nell'Unione delle Camere Penali che vorrei descrivere prendendo a prestito una bella espressione di Vittorio Manes in un significativo contributo sul diritto penale europeo vascolarizzazione gli osservatori l'open day e io credo che in qualche modo a questo si saldi anche l'idea che condivido del manifesto per un diritto penale liberale sono state tutte sono state e saranno mi auguro operazioni che hanno vascolarizzato l'Unione delle Camere Penali non sono arrivate ovunque qualcuno rimasto escluso può darsi ma credo che l'efficacia di questo processo sia forse semplicisticamente ma efficacemente dimostrata dal fatto che i numeri dei congressi anche quelli non elettivi dove non bisogna dare a priori torto a ragione o a qualcuno sono sempre cresciuti e questo vuol dire che la vascolarizzazione ha funzionato mi è piaciuto nell'intervento di Gian Domenico Cagliazza un riferimento tra gli altri quello alla difesa di ufficio nel quale ha detto che il difensore di ufficio dovrebbe tornare ad essere il top e questo è un tema sul quale io credo che si debba lavorare lavorare tanto si è lavorato tanto consentitemi perché l'ho fatto insieme con lui prima nel comitato direttivo poi nel consiglio nel comitato scientifico di ringraziare Gidio Sarno che ha fatto un lavoro straordinario con grande umiltà con il suo stile ha fatto un lavoro straordinario ma io non credo che basti basti il piano della formazione possiamo fare abbiamo fatto tanto possiamo continuare possiamo fare di più perché è vero che sono vili le liquidazioni di alcuni difensori di ufficio ma è anche vero che ci sono alcuni difensori di ufficio che non meritano nemmeno quelle liquidazioni vili e io temo che le torsioni dell'articolo 97 alle quali quotidianamente assistiamo dimostrino soprattutto che quelle vili liquidazioni nemmeno quelle sono meritate e questo è un problema molto grave sul quale io credo che si debba continuare sul piano della formazione con maggiore vigore con maggiore insistenza purtroppo perdiamo il treno della formazione dopo che diventino difensori di ufficio ma bisogna forse anche intervenire a livello legislativo concludo sulla questione del manifesto non so Antolisei Mantovani sono un po' diversi però mi corretto che adesso manca un minuto sì sì sto seguendo il display involontariamente ti avevo tolto un minuto va bene ieri il professore in solera ha tracciato con molta precisione il significato del diritto penale liberale e io non credo forse ho inteso male non voglio fare questa osservazione per parte di gianeria magari ho inteso male però io l'ho intesa così io non credo che ci sia nulla di scontato nel diritto penale liberale non c'è nulla di scontato forse nemmeno tra di noi e non lo dico io lo dice lo dice e l'ha detto e credo che sia ancora valido un grande un grande studioso che ci ha lasciato da tempo e cioè Alessandro Baratta quando diceva che un diritto un passato liberale del sistema punitivo forse esiste solo nella prospettiva di un futuro tanto nobile quanto quello sognato dagli illuministi grazie avvocato giacomo frazzitta camera penale di marsala segue l'avvocato giuseppe belcastro camera penale di roma grazie grazie presidente salve illustri colleghi intanto dichiaro che la maggioranza delle camere penali siciliane voterà giandomenico caiazza otto camere penali voteranno per giandomenico caiazza le parole le parole sarà il tema conduttore veloce di questo mio intervento perché hanno un peso specifico le parole bisogna saperle calibrare sia se intendiamo colpire qualcuno sia se intendiamo evitare di colpire qualcuno le parole a volte nel parlare possono essere istintive ma quelle scritte rimangono lì perfette e adesso parleremo di queste le parole sulle parole Renato Borzone ha fatto veramente una grande attività con il suo osservatorio dell'informazione giudiziaria perché ha gridato che non si mette alla berlina nessuno però attenzione Renato Borzone non bisogna mettere alla berlina neppure nei social network i colleghi soprattutto sotto il profilo professionale perché altrimenti si cade nello stesso errore che si è voluto indicare facendo quel percorso all'interno del tuo osservatorio attenzione a questo aspetto attenzione alle parole che sono indicate nel programma si parla di si parla di cerchio magico mi chiedo e vi chiedo l'osservatorio informazione giudiziaria guidato da da Renato Borzone vuol dire che Renato Borzone faceva parte del cerchio magico cioè fatemi capire cosa vuol dire cerchio magico negli osservatori fatemelo capire perché io davvero non lo comprendo allora forse se lui ha fatto parte di un cerchio magico forse non bisognerebbe votarlo a questo punto della situazione cosa vuol dire spol system cosa vogliono dire queste parole quando quando l'osservatorio dell'informazione giudiziaria ha avuto il massimo la massima diffusione io faccio parte di un osservatorio misure patrimoniali guidato da Michele Cerabona ebbene i nostri risultati cioè la cipelago delle confische non ha avuto la stessa diffusione che ha avuto invece il lavoro prezioso fatto dall'osservatorio informazione giudiziaria guidato da Renato Borzone questo è pluralismo questo è pluralismo lui ne è il risultato del pluralismo dell'attività svolta dalla giunta di Beniamino Migliucci e questa è la verità non può dire che non ci sia stato pluralismo sarebbe ingiusto disonesto intellettualmente parlare di cerchio magico non ce n'è stato semmai ci sono stati alcuni che non hanno voluto riconoscere testardamente caparbiamente e in maniera petulante la presidenza di Beniamino Migliucci e si sono tirati fuori io e faccio adesso outing mi spiace dare un colpo al cuore a Beniamino Migliucci io ho votato scuto a Venezia però poi Beniamino è stato il mio presidente è chiaro funziona così l'unione funziona così l'unione e questa l'unione non è l'unione ampollosa degli statuti cos'è cos'è questa cosa dello statuto che il presidente deve venire se invitato certo se il presidente monopolizza quella è una norma di garanzia ma il confronto deve essere continuo e costante all'interno del consiglio dei presidenti dell'unione camere penali insieme al presidente della giunta cos'è questa ampollosa e bacchettona richiesta di intervento qualora viene invitato non voglio questa camera penale voglio una camera penale fluida con cui si possa parlare come quella di Beniamino Migliucci attenzione attenzione a dire che sarà il proseguimento di Beniamino Migliucci Gian Domenico non sarà il proseguimento no nel metodo sarà il proseguimento ma non nel merito perché sarà un altro capitano che guiderà questa giunta un altro capitano attenzione alla differenza tra metodo e merito questa è la differenza un minuto grazie a Beniamino grazie ad Egidio grazie a loro al loro esempio Beniamino è stato la catechesi dell'unione camere penali lui è stato il missionario è stato ovunque è stato presente sempre leggerezza bisogna prendere tutti con leggerezza anche le parole con leggerezza leggerezza non è superficialità ma planare sulle cose dall'alto senza avere macigni nel cuore e nella lingua attenzione alla leggerezza Gian Domenico Renato mi dispiace che sia uscito quando ha parlato Sassanelli perché Sassanelli bisogna stare vicini a Sassanelli che sta vivendo un'esperienza terribile e tu ti sei alzato e te ne sei andato e dici che vuoi ascoltare il territorio dove sei? dove sei Renato? ascolta il territorio scusa collega Belcastro tu sei segnato al posto del collega Giustozzi al numero 63 quindi parli più tardi mi avete convocato voi ti ho chiamato per errore eri stata spostata avvocato Marco Figliani Camera Penale di Vallualucania poi avvocato Salvatore Liotta Camera Penale di Catania grazie Presidente buonasera a tutti io come Camera Penale di Vallualucania facciamo subito chiarezza noi abbiamo dato il nostro appoggio convinto deciso a Gian Domenico Cagliazza però anche se questo è un congresso elettorale io credo che questa platea noi tutti non per quanto possiamo dire quando possiamo trasmettere non riusciremo a dare tutto il nostro infinito grazie al Presidente Migliucci a quello che ha fatto alla sua giunta al Segretario Petrelli e vorrei ringraziare in maniera particolare per motivi di vicinanza territoriale e anche personale l'Avvocato Peppe Guida che è stato sempre un punto di riferimento per le Camere Penali piccoline come la nostra di frontiera io capisco che il momento elettorale come dicevo prima alza un po' i toni ed è giusto che sia così però una precisazione vorrei farla io ho fatto parte dall'inizio dell'esservatorio MIUR con Cinzia Gautieri spronato da da Beniamino è stata un'esperienza meravigliosa all'inizio eravamo quattro persone io ero il responsabile di tutto il sud Italia nel primo mese di lavoro io credo di aver contattato e di essere stato contattato da almeno 700 istituti scolastici è stata un'esperienza meravigliosa che ci ha costato a tanta fatica poi purtroppo ho avuto un brutto incidente e per questo diciamo il mio impegno si è un pochettino ridotto ma il ringraziamento io credo che vada fatto anche a tutti i colleghi che hanno dato questo contributo negli osservatori perché ascoltate non siamo tutti di Roma gente che veniva si alzava presto la mattina o magari arrivava dal giorno prima prenotando un albergo sopportando spese sopportando grandissimi sacrifici è il riferimento alle ambizioni personali di qualcuno sinceramente fatto in maniera generica è un riferimento che non fa onore questo lo devo dire perché è quasi uno squarcio verso coloro i quali ci hanno creduto e continuano a crederci ma veniamo un attimo al momento attuale colleghi io penso che siamo tutti coscienti che voglio seguire l'indicazione del professore Flora che il peggio deve ancora venire ed è un peggio che ha i connotati abbiamo detto di un populismo giustizialista ma anche soprattutto di una deriva culturale della figura e delle funzioni dell'avvocato non ho facoltà divinatorie ma io sono convinto che questo governo se durerà ovviamente una volta messi a posto e ridotti gli interventi dove bisogna metterci i soldini flactas reddito di cittadinanza passerà gli interventi di costo zero e purtroppo le cose che ci preoccupano a noi sono a costo zero la riforma della prescrizione la riforma della sono a costo zero l'attacco ai diritti dei cittadini in questo paese è a costo zero e attenzione lo faranno lo faranno perché perché vanno a parlare alla pancia di un popolo in questo momento che riceve questi messaggi negativi e anche il consenso lo dimostra e allora qual è il nostro ruolo futuro il nostro ruolo futuro non è un ruolo manca un minuto sì grazie presidente di autoreferenzialismo bisogna parlare alla gente io sono davvero convinto che l'iniziativa di Gian Domenico sul manifesto che io capisco che in questo momento qualcuno può anche sbeffeggiare ma è un'iniziativa politica importante dobbiamo andare a parlare alla gente nelle università dappertutto perché la nostra voce in questo momento è flebile rispetto a un momento politico negativo e allora se il peggio deve ancora avvenire e avverrà tra non molto io non riesco davvero a capire chi mi ha preceduto qualcuno mi ha preceduto ma perché dobbiamo accettare l'esito elettorale di questo congresso mi viene davvero difficile in base alla mia cultura l'opposto non riesco a capire quale sarebbe l'opposto di non accettarlo ma c'è un dato molto più importante ci aspetta un tempo davvero buio non ho la possibilità di riaccendere il microfono avvocato salvatore buonasera camera penale serafino fama di catania camera penale di catania che presiedo succedendo l'avvocato ludovica giorgi camera penale di lucca che presiedo orgogliosamente succedendo erico trantino che ha avuto la menzione citazione nel ringraziamento finale del presidente migliucci ieri sera e Renato noi catania vota Renato Borzone e abbiamo assoldato tra di noi i sognatori Giacomo Frazzitta che ci ha detto che la maggioranza dei referenti dei delegati delle camere penali di catania voterà soltanto Gian Domenico Cagliazza sogniamo insieme quindi io vengo da una camera penale che mi ha insegnato l'unione a Sirmione a Sirmione la camera penale di catania votò chiusano non votò Ettore Randazzo eppure Ettore Randazzo fu uno splendido difensore delle ragioni degli avvocati di catania parte civile nel processo contro gli assassini di Serafino Famà esperimento parole che sono a onore e orgoglio di ogni e ciascun avvocato siciliano e non questa è la nostra camera penale catania è la città della nave Diciotti quest'estate nella tempesta del caso Diciotti la nostra camera penale ha emesso un comunicato e abbiamo avuto subito abbiamo sentito subito vicina l'unione centrale delle camere penali con il suo successivo documento ebbene in quel momento è venuta fuori che molti avvocati difensori iscritti hanno criticato hanno sollevato critiche a questi nostri documenti perché perché unione perché le camere penali territoriali non debbono occuparsi di quelle cose lì e noi abbiamo difeso fondamentalmente i diritti fondamentali perché badate se non parliamo se non tuteliamo i diritti fondamentali di ciascun soggetto individuo uomo donna migrante che sia non saremo legittimati nemmeno a parlare di doppio binario di 41 bis perché lì corriamo il rischio di essere messi vicini soltanto a chi in quei processi veste il ruolo di imputati ne abbiamo bisogno ontologicamente questa è la nostra storia di unione e qui ci siamo ritrovati e abbiamo visto e abbiamo sentito la passione e il temperamento del progetto di Renato Borzone perché vedete potremo essere noi comunità politica nuova antropologicamente modificata sulle nostre ultime vicissitudini ma se non mettiamo in chiaro chi siamo e che cosa dobbiamo avere in comune non potremo essere soltanto che una comunità chiusa autoreferenziale che si compiace di essere presidente e sostenitore di chissà chi altro Giacomo Frazzitta ha reso omaggio al lavoro di Renato Borzone col suo osservatorio è significativo del fatto che Renato e gli altri colleghi hanno comunque svolto un lavoro di elaborazione con il proprio osservatorio ma io vi chiedo è successo sempre questo possiamo semplicemente distinguere tra chi è a favore o contro gli osservatori possiamo in quella nostra comunità politica no in quel nostro movimento politico perché comunità sta troppo di statico di autoreferenziale di chiuso di comodo accogliente sorridente possiamo non porci il problema di volere un consiglio forte che sia realmente capace di elaborare le istanze delle camere penali territoriali possiamo noi manco un minuto lo so infatti mi sono fermato aspettando il suo intervento ma possiamo noi possiamo noi possiamo noi accettare supinamente in nome di una continuità affrontare tutto come se niente fosse ho sentito dire da tutti che si arrivano tempi bui dobbiamo attrezzarci e allora io mi chiedo ma la continuità se questi tempi bui arriveranno se questi tempi bui abbiamo affrontato ci aiuterà ci darà gli strumenti necessari per avere questo o avremo bisogno del ragionevole sogno dell'utopia di Renato Borzone e di chi gli sta accanto di poter essere forti nella nostra identità e capaci quindi di imporre imporre sì hai visto che avevo ragione io non te ne eri accorto eh avevo ragione io Ludovica Giorgi prego Camera Penale di Lucca poi l'Avvocato Michele Sarno Camera Penale di Salerno Grazie Presidente sono senza voce e quindi non potrei essere molto tonitruante ma d'altro canto non è perché si urla che necessariamente si ha ragione e d'altro canto poi d'altro canto poi Renato Borzone mi ha rubato praticamente l'intero mio intervento volevo intervenire su una roba e ovviamente lui me l'ha rubata d'altro canto io dovrei essere il suo segretario e quindi ovviamente faccio squadra con lui bene vorrei innanzitutto competere con l'Avvocato Frazzitta competere in trasversalità perché eh ciò che dice l'Avvocato Frazzitta sul sostenevo quello e poi sono stato fedele a quello non mi dice niente di particolare niente di nuovo è la regola dell'unione delle camere penali italiane io ho sostenuto Beniamino lo sapete tutti ma avete fatto sentire un intervento tonitruante a favore di Beniamino metà di questa sala mi ha accusato ovviamente di essere prona alla squadra di Beniamino Beniamino mi ha fatto l'onore non perché avevo fatto un intervento a suo favore ma perché mi occupavo di specializzazione da sempre di rendermi responsabile di quell'osservatorio e io gliene sono grata e mi ha scelto per le mie capacità oggi sto con Renato Borzone sono una traditrice no penso penso rivendico la mia libertà di pensiero ed è la libertà di pensiero che ci rende forti e ci rende unione allora diciamo subito che io mi so scocciata di sentir parlare negli interventi qui della giunta di Beniamino Migliucci basta non se ne può più siamo qui a progettare il futuro allora Gian Domenico io però di questo attribuisco la colpa a te attribuisco la colpa a te dell'aver costretto Beniamino ieri a fare un intervento sulla difensiva e purtroppo gliel'hanno detto attribuisco la colpa a te di tutti gli interventi che qui ci sono stati non per promuovere il tuo programma ma per difendere Beniamino ma Beniamino non ha bisogno di essere difeso non ha bisogno non ne possiamo più di questa storia basta perdonatemi sono senza voce ma devo dire che questo tipo di interventi mi ha veramente stuccato allora il futuro il futuro è diverso non abbiamo programmi sovrapponibili il nostro non è quello di Gian Domenico allora evitiamo di cadere in questo equivoco voi siete qui a scegliere una prospettiva politica diversa e la giunta di Beniamino non c'entra nulla e non c'entra agli osservatori un inciso Gian Domenico ricordi vero chi fu che colse quella tua magnifica idea dell'osservatorio banca dati lo ricordi non voglio andare oltre chi fu che costitui il tuo osservatorio banca dati e oltre al tuo molti altri chi fu che credette negli osservatori come strumento della politica della giunta io me lo ricordo bene quindi non vogliamo non intendiamo prendere lezioni sul valore degli osservatori perché qui chi si candida contro di te è la prova vivente di chi ha creduto negli osservatori e nel tuo noi diciamo tutti le stesse cose no diciamo che la situazione è una situazione terribilmente pericolosa e lo sappiamo tutti e diciamo che il 60% degli italiani sembra oramai imbarbarito a fronte di questo entrambi Renato e Gian Domenico dicono dobbiamo ricercare e riaffermare la nostra identità bene le ricette non c'entrano nulla l'una con l'altra Gian Domenico si chiude nel recinto della giustizia penale noi usciamo sono già finito che tristezza l'avvocato Michele Sarno successivamente l'avvocato un avviso all'assemblea per rendere possibile l'accesso alla chiusura dei lavori l'inizio della cena si è stato spostato dalle 21 alle 21 e 30 prego grazie presidente ma io ho ascoltato con grande attenzione questo momento di grande passione ha parlato il segretario non vorrei che adesso per il tenore dell'intervento pensasse il segretario che sta parlando il cameriere del candidato che sostengo devo dire però che di politico no no perdonatemi ragazzi vedete che di politico vedete che il tifo non serve a niente a nessuno e anzi la dimostrazione di quanto abbiamo già precostituito un consenso e non siamo disponibili a rimetterlo in gioco sulla base di una giusta considerazione io vi anticipo onde evitare che in coda del ragionamento non possiamo recuperare questo argomento che come camere penali di Torre Annunziata Napoli Nord Vallo della Lucania Santa Maria Capoavetere Nola e Salerno appoggiamo convintamente e ora cercherò di spiegare perché Gian Domenico Cagliazza no no ma non c'è bisogno evitiamola evitiamo questa contrapposizione che sta determinando secondo me il fallimento di questo momento congressuale qui non sono tesi che si scontrano qui sono tesi che si confrontano e dobbiamo avere la capacità di rispettare anche ciò che diventa orticante perché non ci piace ascoltarlo e poiché ritengo di essere una persona che ha un minimo di capacità intellettuale non voglio operare una critica asettica rispetto a quello che ho letto attraverso una speculazione di comodo rispetto a quello che è il programma del candidato che voglio sostenere ma poiché ritengo che quello che conta non siano le parole che vengono declamate rispetto alle quali tutti siamo bravissimi ritengo che i comportamenti determinino le condizioni di un posizionamento e di una scelta e allora visto che io stasera ho avuto una grande gioia stavo per chiedere al congresso di sospendere e di rinviare perché io umile presidente di una camera penale la seconda in campagna il piacere di conoscere il candidato Borzone che avesse l'umiltà di alzare il telefono e di dire voglio incontrare la tua camera penale non l'ho avuto questo significa non avere rispetto del territorio e allora è inutile venire qui e ammantare le proprie tesi semplicemente con argomentazioni che non trovano il fulcro nella realtà dei comportamenti è questo il dato ed è su questo e poiché non voglio difendere Beniamino Migliucci perché come si è detto si è difeso da solo in questi anni io voglio dire che quando si parla di continuità non si esprime un concetto negativo continuità non significa necessariamente fare un errore essere iconoclasti e voler distruggere tutto ciò che è stato è il fallimento più grave e gratuito a cui ci condanniamo la nostra vera incapacità signori miei al di là di intonare il peana a favore dell'uno o dell'altro candidato in questi ultimi anni e forse di questo avremmo dovuto parlare anche io non mi dovevo trarre dalla vista polemica e non parlarne manca un minuto presidente così non lo dice lei e le sottraggo un argomento forse avremmo voluto parlare d'altro avremmo dovuto parlare di quello che è il problema centrale nel paese rispetto all'avvocatura e che è l'abbandono di quello che era un principio di diritto ai lì sì a leggere Antolisei e Mantovani che è il principio di tassatività che è stato stravolto dal principio dell'interpretazione giurisprudenziale con la quale ci hanno sottratto e hanno sottratto anche ai nostri governanti il potere legislativo questa è la verità fondante ed è su questo che dovremmo applaudire non chi sta parlando dovremmo applaudire le nostre storie perché per troppi anni stiamo assistendo silenti a dei colpi di mano rispetto ai quali non c'è avvocatura che tenga fino a quando questa avvocatura come ha fatto bene Migliucci non si tolga di dosso soltanto lo spirito associativo ma abbia la capacità di fondersi in un concetto che la faccia diventare soprattutto comunità e poi che avvocato lo rammento a me stesso significa advocatus chiamato e chiamato dal popolo oggi siamo chiamati a rispondere al popolo perché essere populisti non è una cattiva parola se nell'essere populisti sappiamo offrire risposte reali ai bisogni della gente vi ho regalato 15 secondi poi successivamente l'avvocato Giuseppe Guida della Camera Penale di Nola cos'è che ci aspetta nei prossimi due anni io sono pessimista su questo saranno messe in pericolo le nostre libertà personali abbiamo un governo di incapaci di ignoranti nel senso stretto della parola ignorano non sanno ma sono degli ignoranti pericolosi perché sono degli ignoranti furbi e sono degli ignoranti che non si fanno scrupolo alcuno di spingere sui più biechi istinti del popolo e di aizzarlo per qualche voto in più guardate che in realtà ci siamo già ci sono dei bambini che non vengono fatti entrare nelle menze scolastiche inventandosi dei problemi burocratici di documenti che dovrebbero provenire dall'Uganda si vogliono deportare sostanzialmente in massa delle persone da Riace ad un'altra zona dell'Italia non meglio identificata si mette in discussione l'aborto si ipotizzano chiusure dei negozi ad un orario piuttosto che ad un altro a seconda del colore della pelle della persona che ha quel negozio quindi ci siamo allora l'avvocatura oggi più che mai deve difendere tutte le libertà civili io voglio un'avvocatura che difenda gli omosessuali le prostitute i zingari i più deboli tutti i più deboli dobbiamo dare voce a chi voce non ha indipendentemente indipendentemente dall'aver studiato o no il diritto della demigrazione è qualcosa che ci deve venire dal profondo dallo stomaco dalla pancia e allora io da questo io vedo la necessità di un'unione che sia questo in futuro nei prossimi anni più che mai e mi sento garantito dall'avvocato Borzone in questo senso io io non vi nascondo io sono stato a studio vent'anni con Renato vent'anni bellissimi e l'ho visto lavorare a studio c'è un'attività professionale diciamo da avvocati l'ho visto impegnarsi nella Camera Penale di Roma l'ho visto impegnarsi nell'Unione Camere Penali Italiane l'ho visto ogni giorno mi ci sono confrontato ogni giorno ne ho sentito i ragionamenti tutti i giorni per vent'anni io non gli ho mai sentito fare dei ragionamenti settari non gli ho mai sentito dire bisogna scegliere questa strada piuttosto che quell'altra perché questa strada è comoda a qualcuno piuttosto che a qualcun altro ci sarà spazio per tutti quelli che si vogliono impegnare gliel'ho sempre visto fare e questa è la sua cifra quindi nessun irragionevole spoil system poi se le cose devono necessariamente rimanere identiche a quello che sono questo è un altro discorso in ogni caso lo dico a Gian Domenico e lo dico a Renato so che Renato diciamo è uno degli obiettivi uno dei suoi obiettivi sarebbe quello di rasserenare il clima dell'Unione Camere Penale italiane vi dico la verità io ne sento l'esigenza io ne sento l'esigenza perché oggi ho sentito argomenti per carità però forse un po' troppa veemenza forse un po' troppo qualche indice puntato contro a me questo non piace Gian Domenico non mi piace Renato non mi piace ritorniamo a essere uniti perché così non si può andare avanti almeno per come la vedo io signori forza ragionevoli sognatori forza Unione Camere Penali italiane De Cataldo accanto all'avvocatura che difende i deboli io vorrei anche un'avvocatura che non è criminalizzata per chi difende anche giuseppe guida della Camera Penale di Nola poi l'avvocato Eugenio Spirelli della Camera Penale grazie a tutti voi devo dire che Lodovica mi ha spiazzato perché per certi versi sembrava io mi aspettavo un intervento dei suoi fragorosi a spada tratta devo dire che invece è stata molto più attenta cauta calda come sempre fornendo delle osservazioni forse ragionevoli eh ma a questo tempo me lo recuperate cioè sia chiaro grazie e vi dicevo Lodo che è sempre appassionata e ci colpisce sempre con i suoi interventi e ci piace perché ci fa sangue dovrebbe però fare attenzione a quello che dice perché è vero lei è stata scelta per meriti Renato è stato scelto per meriti a capo degli osservatori gli altri cioè fatemi capire spoil system per gli altri e per pochi esisterebbe un riconoscimento di merito io non penso sia condivisibile un'affermazione del genere a meno che non si abbia quella visione periferica perché è vero i programmi sono diversi sono nettamente diametralmente opposti uno quello di Gian Domenico vedete io mettendo da parte quella che poteva essere l'etichetta che avrebbe voluto che forse un eletto uscente e candidato prossimo si astenesse dall'intervenire io non sono fatto per l'etichetta è vero diceva Marco Siracusa siamo pochi siamo pochi ma non siamo le ex combattenti siamo pochi ma siamo forti abbiamo la forza delle idee quotidiane ogni giorno noi abbiamo la forza nelle aule dei tribunali non una volta ogni due anni amici cari è quella la nostra forza è di quella dobbiamo parlare ed allora aderisco a un programma non perché taluno mi abbia tirato per la giacchetta perché io non accetto da nessuno che mi si tiri dalla giacchetta aderisco a un programma moderno che persegue quello che Beniamino Migliucci ha fortemente voluto attribuire soggettività politica all'unione camere penali ed avere una sua definizione interlocutoria basta con i recinti per gli animali dal massacro noi siamo soggetto politico e consapevolmente lo siamo Beniamino Migliucci non si è difeso da nessuno Lodovica hai sentito solo tu l'intervento difensivo di Beniamino Migliucci Beniamino Migliucci ha attaccato e ha rivendicato con forza tutto ciò che ha realizzato in questi quattro anni e signori miei la separazione delle carriere siamo tutti bravi a parlarne bravissimi anche in passato tante giunte hanno posto la questione della separazione della carriera chi ha assunto il rischio perché era un rischio raccogliere le firme nelle strade sulle piazze sulle spiagge giovani anziani meno giovani con il rischio di essere appesi come piazzale Loreto se non avessimo raggiunto il risultato un risultato che è lì e che Gian Domenico vi porta su un piatto d'argento per far sì che la soggettività politica che noi rivendichiamo e la rivendichiamo con forza trovi una traccia non interlocutoria non mediatoria ma petitoria all'interno di una situazione parlamentare che è devastata e devastante ed allora sì i programmi sono diversi il programma di Gian Domenico Renato è un amico carissimo l'odo ancor più ti tranquillizza il fatto Renato che se tu sei un orso quando balli io a quest'ora sembro Winnie the Pooh dopo aver mangiato e aver atteso tanto tempo per parlare però sono diversi programmi c'è poco da fare c'è una modernità al confronto con un ritorno a battaglie di retroguardia che non serviranno a portare l'unione dove merita al centro del contesto politico e al centro sociale parlare con la gente non significa parlare come i viandanti pellegrini noi dobbiamo parlare alla gente per far comprendere che giustizialismo non è una parola ho quasi finito ho dieci secondi otto secondi faccio subito il giustizialismo sarà tale quando lo subiranno loro e chi ci sarà dalla parte loro saremo solo noi pochi ma forti viva l'unione delle camere penali l'avvocato Eugenio Spirelli segue l'avvocato Anillo Natale della camera penale di Vallo della Lucania amici io siamo qui per dare la testimonianza di quella parte della camera penale di Roma che non ha dubbi che crede fortemente in Renato Borsone perché questo? perché devo raccontarvi una storia io sono iscritto da tanto tempo per quelle cose che succedono spesso nelle camere penali avevo un papà presidente della camera penale e guardò Anna a conferma e mio padre fu defenestrato usiamo questo termine da un gruppetto di ragazzotti che erano quelli che erano quelli che in questo gruppetto c'era Francesco Petrelli Valerio Spigarelli Renato Borsone Gian Domenico Cagliazza Giuliano Dominici voglio ricordare Rino Nigro e Alberto Pisani che non ci sono più Francesco Tagliaferri e tanti altri che stavano lì e io ero un giovane praticante alle prime esperienze mi ero impegnato dietro a papà per quello che stava facendo erano gli albori noi addirittura la camera penale di Roma era fuori dall'unione delle camere penali pensa di che storia vi sto raccontando e allora andai lì e gli dissi ma perché il giovedì tu che sei stato defenestrato tutti questi qui che ti hanno fatto le scarpe vengono a studio nostro li compri pure i poppacorn anzi andavo a comprare io i poppacorn e vengono tutti i santi giovedì e lui mi disse una frase sono bravi e ricordati che nelle camere penali le persone non contano conta la bandiera conta l'idea dell'unione delle camere penali è stato un insegnamento che mi ha marchiato non l'ho capito subito come non avevo forse nemmeno capito l'impegno politico e la figura politica dell'unione delle camere penali perché mi sono scordato di dire che lì c'era anche un'altra persona c'era oresse Flamini Minuto che era un coetaneo di mio padre che aveva l'idea dell'individualità politica dell'unione delle camere penali non la capivo perché non erano tempi pensavamo che tutto era scontato io pensavo che bastava essere avvocati per essere creduti per essere riconosciuti ma i tempi cambiavano arrivava a Tangentopoli le situazioni cambiavano e forse quel gruppo mio padre aveva ragione la storia dell'unione della camera penale di Roma e dell'unione delle camere penali e la storia di quei ragazzi di quelli che Valerio non è mancata oggi questo congresso ne è la dimostrazione ma quel messaggio era fondamentale perché era il messaggio del modo di fare la camera penale raccontato da chi aveva perso da chi era stato defenestrato e che aveva capito dalla sconfitta un significato era il significato della bandiera del vessillo io oggi mi sono riemozionato quando ho sentito le parole di Renato perché Renato mi ha rialzato il vessillo mi ha rialzato il vessillo e non ha mai fatto riferimenti a modalità di politica che purtroppo noi non possiamo adottare perché noi rimaniamo avvocati noi non possiamo essere Gian Domenico Caro usare gli stessi metodi della politica che usano gli altri il populismo è frutto della ricerca del consenso è la riprova che quando a Salvini gli arriva l'avviso di garanzia lo straccia quindi lui non crede nella giustizia lui crede solamente nei voti che dà il populismo ora noi non possiamo utilizzare gli stessi metodi noi dobbiamo rimanere puri nel nostro essere avvocati e in questa ricerca di purezza mentre è scomparso il tempo una parola la devo dire al mio amico fratello Cesare Plaganica Cesare tu appoggi con il tuo gruppo la candidatura di Gian Domenico però io ho dei dubbi che il tuo accordo non sia un accordo di tipo politico e basta perché se no non avresti anticipato di un mese le elezioni del Consiglio dell'Ordine di Roma per poi per consentire che rimaneva quel gruppo io questo l'ho visto io questo me ne accorgo forse la mia esperienza me lo consente ma vi prego e vi chiedo di essere uniti e di credere fortemente in quel vessillo che è la nostra base e la nostra forza grazie no non parlo prendo il telefono avvocato Antonello Natale detto Aniello cosa si sta scritto qui su dopo l'avvocato Eriberto noi abbiamo Aniello Buonasera a tutti Antonello Natale Presidente della Camera Penale di Vallo della Lucania lo dico ai giovani partecipate all'unione l'unione è confronto non è scontro elogiare non vuol dire difendere nessuno per questo io dico essendo attualmente il più giovane Presidente delle Camere Penali italiane volevo dire grazie grazie a Beniamino grazie alla sua giunta grazie a Francesco Petrelli grazie ad Anna Chiusano perché oggi è bello salire su quel treno dell'open day di Rimini con i successi che ha avuto ma l'intuizione di Anna Chiusano sposata inizialmente da pochi poi dopo è stato un grande successo successo perché ho sentito parlare tranne stamattina a Gian Domenico Cagliazza nel suo programma poco di giovani dei giovani dobbiamo parlare perché dobbiamo parlare perché molti giovani pensano che avvicinarsi all'unione delle Camere Penali fa sì che bisogna avere una grande esperienza esattamente il contrario l'unione forma i giovani l'unione protegge i giovani per quattro anni l'aggiunta di Beniamino ha tutelato i giovani in qualsiasi momento in tutte le Camere Penali dove venivano chiamati i componenti andavano con piacere con competenza con il gusto di poter trasferire i valori che loro avevano voglio dire anche parlare del Consiglio delle Camere Penali Consiglio delle Camere Penali io ho partecipato a tutti i consigli delle Camere Penali tutti hanno già detto che sono diciamo spese personali ma è giusto che sia così perché altrimenti uno partecipa all'unione per un compenso economico assolutamente no perché prima noi non siamo noi siamo avvocati non facciamo gli avvocati questo cosa vuol dire vuol dire che partecipare ai consigli significa confrontarsi non scontrarsi e quindi parlando io da persona che ha partecipato ai consigli delle Camere Penali mi risulta veramente mi suona male il fatto che all'interno del Consiglio non vi sia stato un confronto assolutamente no andate a leggere i verbali l'81% delle persone presenti ai consigli delle Camere Penali e volevo dire anche altro cosa Valentina Alberta bene siamo giovani entrambi a scanso di equivoci con serenità voglio dire e non voglio ritornare sugli osservatori però ho sentito dire qui quasi che fine faranno le persone che non condividono l'idea dell'uno dell'altro beh quella è la prova lampante perché la Camera Penale di Milano appoggiò Toto Scuto allora e Valentina Alberta fa parte di un osservatorio quindi non faranno nessuna fine né noi né negli altri parteciperemo per un comune interesse che è quello della tutela delle libertà e volevo ancora dire un'altra cosa a proposito del manifesto non dobbiamo noi siamo dei portatori di opinioni sociali non dobbiamo estrapolare o manipolare le parole perché dico questo l'idea del manifesto di Gian Domenico è un'idea bellissima che va condivisa da tutti e va in un certo senso spiegata in questo modo io ho partecipato alla raccolta delle firme per quanto riguarda il referendum uscire fuori da noi l'auto celebrarsi non serve più l'unione deve essere in un senso di continuità deve diciamo riammodernarsi con la comunicazione esterna cosa che la giunta ha fatto e inizia a fare benissimo e il manifesto sarà il modo per portare le nostre idee sentivo dire prima ad una collega sentivo dire il concetto di dire il manifesto a cosa serve noi già lo sappiamo e serve esattamente a quello cioè portare all'esterno diciamocelo che tutti gli avvocati civilisti quando si è parlato della separazione delle carriere o di altri concetti non ne avevano conoscenza e se non ne hanno conoscenza gli avvocati che non fanno penali immaginiamo l'opinione sociale e a proposito della raccolta delle firme anche qui è stato un rischio enorme della giunta che la giunta sia assunto perché nessuno credeva che si raggiungessero quelle firme ricordo l'incontro di Milano rispetto a questo con il consiglio delle camere penali perché Roberto Rosso prima ed Armando Veneto poi hanno partecipato ai consigli delle camere penali con grande maestria con grande equilibrio quell'equilibrio che dovrebbe essere tipico dei magistrati ma in realtà è tipico degli avvocati allora io dico non solo viva l'unione ma noi siamo una minoranza siamo una minoranza a livello numerico ma siamo una maggioranza culturale allora uniamoci per vincere le nostre battaglie viva l'unione l'avvocato Eriberto Rosso subito dopo l'avvocato Eriberto Rosso prenderà la parola la presidente della commissione verifica poteri per dare atto del verbale conclusivo della commissione grazie presidente io non ho il piglio del tribuno e non so parlare molto alla pancia delle persone quindi vi chiedo scusa ma vedrò cosa posso fare in cinque minuti proponendo alcuni ragionamenti due cose voglio dire subito a Renato due cose importanti due meno importanti ma voi veramente pensate che vi sia un tentennamento di chi oggi si confronta con voi per la direzione dell'unione sui diritti civili o sulle libertà fondamentali voi veramente pensate che ci sia che noi pensiamo che la certezza della pena voglia dire certezza del carcere e non e non significhi certezza del contratto sociale allora mettiamola subito così no scusate così non ne parliamo più io su questo piatto metto la storia personale del mio presidente futuro se sarà eletto che è Gian Domenico Cagliazza metto anche la mia storia personale che è di di trent'anni di unione delle camere venticinque anni di unione delle camere penali che di trent'anni di toga che anche se non gridata non urlata ma è una storia di coerenza di impegno è certamente è certamente una storia che a pieno titolo sta sta qui dentro su questo veramente non c'è l'artifizio retorico che tenga e chiudiamola davvero qui le due cose meno importanti riguardano gli osservatori perché anche di questo ci dobbiamo occupare in una polemica elettorale per come avete impostato il tema io condivido con Fabio Alonzi la direzione dell'osservatorio Cassazione è stata un'esperienza utile Fabio è un professor universitario ci siamo dati compiti diversi nell'articolazione dei ragionamenti e dei ruoli è nata da qui l'idea che forse potevamo articolare meglio il funzionamento degli osservatori altro che prebende o prezzi o pagamento di prezzi elettorali gli osservatori e chi vince ma insomma forse davvero le parole a volte non riescono ad arrivare al cuore noi abbiamo inteso dire che chi vince vince e lo decidiamo qui dopodiché dal giorno dopo sotto la direzione politica di quella proposta insieme lavoreremo anche che altro che il post system voglio dire qui il tema non è di dire dopo il dissenso non c'è dopo non si può lavorare per due anni ad organizzare un dissenso magari partendo dagli osservatori ma insieme dobbiamo sia pure declinandolo nelle forme che ognuno riterrà più opportuno a quel progetto politico che sarà evidentemente stato scelto dalle camere penali perché il congresso è un percorso miei cari amici noi di questo non dobbiamo avere paura o reticenza noi abbiamo affrontato questo lungo percorso con le camere penali proponendo delle tesi ed era questa l'idea di andarci a confrontare nelle singole camere penali nei territori e poi all'esito di quel percorso di quella discussione proporre il progetto definitivo ed è vero che è un progetto diverso e che cos'è il manifesto il manifesto non è certo un sogno i sogni non si realizzano consentite anche a me la battuta ma è una grande suggestione è un qualche cosa che punta la sessione notturna se mi consentite di ieri sera era la rappresentazione plastica di che cosa abbiamo in testa il professor Donini non voglio citare i nostri non voglio citare Manes o Insolera ma il professor Donini a nome dell'associazione degli studiosi del diritto penale ci ha detto di che cosa si tratta ci ha parlato di maggiore presenza pubblica di impegno sociale di partecipazione di rivisitazione dei linguaggi e che cos'è questo se non un modo per affrontare populismo e reagire a questa realtà e qui si costruisce un nuovo ruolo sociale dell'avvocato penalista noi dobbiamo averlo presente stiamo vivendo una situazione di crisi di difficoltà la vivono gli avvocati e questo dobbiamo reagire dobbiamo costruire anche sul piano culturale il senso di un'identità che sia vincente non che sia solo interna sono diversi i programmi questo è vero vogliamo avere una proposta politica culturale da portare nel confronto e io spero che vinciamo noi io spero che questa articolazione giunga e dia continuità a un lavoro ma nella nostra prospettiva nella nostra declinazione che credo e spero sarà originale e forte soprattutto che con noi ci siate tutti voi lunga vita all'unione delle camere penali centro la discussione è sospesa do la parola alla presidente della commissione verifica poteri per la sua relazione grazie prima di dare lettura del verbale della riunione della commissione verifica poteri desidero ringraziare i componenti della commissione perché i lavori si sono svolti in un clima di assoluta serenità e di condivisione i risultati che andrò quindi a leggere sono stati tutti le decisioni sono state tutte prese all'unanimità ci tengo a dirlo perché in un clima un po' così surriscaldato i nostri lavori invece sono stati molto sereni oggi 19 ottobre 2018 alle 16.30 si sono riuniti i signori avvocati Giulia Boccassi Bartolo Iacono Alessandra Palma Francesco Sbisà Vincenzo Zummo designati quali componenti della commissione verifica poteri del settesimo congresso ordinale dell'unione delle camere penali di Sorrento la commissione designa l'unanimità quale presidente l'avvocato Giulia Boccassi la commissione dopo ampia discussione individua all'unanimità i seguenti criteri per l'ammissione dei delegati delle camere penali per la votazione 1 il termine previsto dall'articolo 5 comma 3 dello statuto dell'unione del 31 gennaio di ogni anno per l'invio degli elenchi e dei pagamenti non è derogabile nel caso in cui ci sia un ritardo nell'invio dell'elenco o nel pagamento delle quote per l'anno 2017 verranno utilizzati come anno di riferimento il 2016 e il 2015 e il numero degli iscritti risultante verrà ridotto della metà come previsto dall'ultimo comma del citato articolo 5 dello statuto dell'unione se c'è invece una irregolarità nell'invio degli elenchi o dei pagamenti per l'anno 2016 verranno conteggiati soltanto gli iscritti del 2017 ridotti alla metà 3 le camere penali che non hanno in precedenza saldato le morosità relative all'annualità 2017 2016 e 2015 necessarie per il calcolo dei delegati non hanno diritto di voto in relazione ai soci onorari la camera penale di appartenenza deve aver proceduto entro i predetti termini a inserirli negli elenchi e a versare la relativa quota all'unione affinché gli stessi possano essere conteggiati ai sensi dell'articolo 5 dello statuto la subdelega deve essere necessariamente conferita dal delegato designato dalla camera penale ad altro delegato facente parte del medesimo distretto alla luce di questi principi sono state assunte all'unanimità le seguenti decisioni 1. Camera penale di Sciacca invio tardivo degli elenchi del 2016 invio 29.3.2017 pertanto si deve conteggiare per l'anno 2016 un numero di scritti pari a 0 e per l'anno 2017 un numero di scritti pari a 23 ridotto della metà per un numero complessivo di 11,5 ne consegue che la camera penale di Sciacca ha diritto a un delegato e non a due come indicati Camera penale Molisana hanno nominato tre delegati avendo invece diritto a due soli delegati in quanto la media dei loro iscritti per gli anni 2016 e 2017 è 33,5 e arrotondato per difetto a 33 Camera penale di Ascoli Piceno hanno nominato due delegati avendo invece diritto a un solo delegato in quanto la media dei loro iscritti per gli anni 2016 e 2017 è 17,5 arrotondato per difetto a 17 Camera penale di Rovigo per l'anno 2017 ha inviato l'elenco il 4 10 2018 e ha effettuato il pagamento il 3 7 2018 per l'anno 2016 ha inviato l'elenco il 22 2017 e non ha effettuato il pagamento delle quote che è stato saldato nel 2018 stante le irregolarità per entrambe le annualità non si possono riconoscere delegati Camera penale Irpina ha inviato l'elenco in ritardo per l'anno 2017 invio 6 2 2018 pertanto occorre conteggiare gli iscritti degli anni 2016 e 2015 ridotti della metà la media risulta 52 ridotta la metà 26 rimangono quindi due delegati Camera penale di Enna ha inviato l'elenco del 2017 regolarmente ha effettuato entro i termini anche il pagamento con riguardo invece al 2016 ha inviato tardivamente l'elenco invio 8 2 2018 si considera quindi un numero di iscritti pari a 0 per il 2016 e un numero di 29 iscritti ridotti dalla metà a 14,5 quindi arrotondato per difetto a 14 per il 2017 ne consegue quindi che hanno diritto a un delegato e non a due Camera penale di Urbino ha inviato tardivamente l'elenco del 2017 invio 12 2 2018 quindi la media degli iscritti è quella del 2015 e 2016 pari a 22 e 33 per un numero totale di 55 ridotti alla metà a 27,5 hanno quindi diritto a due delegati Camera penale della Basilicata per l'anno 2016 ha pagato in tempo solo per 29 iscritti che vengono riconosciuti per il 2017 ha pagato regolarmente saldando anche l'amorosità pregressa del 2016 per 102 iscritti la media totale degli iscritti è 65,5 arrotondata per difetto e 65 hanno quindi diritto a due delegati la Basilicata inoltre Camera penale intercircondariale ha quindi diritto a un delegato ogni ulteriore senzione per un totale di quattro delegati Camera penale di Torreannunziata ha pagato tardivamente le quote del 2016 avendo pagato l'1-2 2017 quindi gli iscritti per il 2016 devono essere conteggiati come zero mentre per il 2017 il numero pari 100 ridotto alla metà 50 hanno quindi diritto a due delegati anziché tre come indicati Camera penale di Cassino ha pagato tardivamente l'anno 2016 bonifico 7-2 2017 quindi per il 2016 si conteggiano numero zero iscritti mentre per il 2017 numero 31 iscritti ridotti alla metà a 15,5 arrodondato per difetto a 15 hanno quindi diritto a un delegato anziché due Camera penale di Napoli si è riscontrata la presenza negli elenchi di soci onorari nel numero di 28 per il 2017 e di numero 29 per il 2016 rispetto a tali soci si rileva che è stato disposto bonifico bancario in data 19-10-2018 con valuta 22-10-2018 e quindi tardivamente per entrambi gli anni ne deriva che per l'anno 17 i soci conteggiati sono 235 mentre per l'anno 2016 sono 171 per una media di 203 soci per i quali è stata pagata entro i termini la quota d'UCP corrispondente a 5 delegati e non a 6 come invece indicato dalla Camera penale di Napoli Camera penale di Oristano ha un ritardato pagamento e invio elenchi per il 2016 entrambi inviati il 25-5 2017 quindi per l'anno 2016 i soci devono essere conteggiati come pari a 0 mentre per il 2017 hanno un numero di soci pari a 27 che ridotto alla metà danno un risultato di 13,5 soci approssimati per difetto a 13 ne consegue che hanno diritto a un delegato e non a 2 Camera penale di Salerno ha pagato tardivamente il 2016 28-3 2017 per tali ragioni gli iscritti devono essere considerati per tale annualità pari a 0 per il 2017 invece gli iscritti indicati nell'elenco spedito tempestivamente all'Unione sono pari a 45 che tuttavia devono essere ridotti a 42 in quanto le quote regolarmente pagate al 31 1 2018 sono pari a euro 2100 quindi il numero di 42 iscritti deve essere ridotto alla metà alla luce dell'ultimo comma dell'articolo 5 dello statuto per un totale di 21 e quindi di numero delegati 2 Camera penale della Romagna hanno pagato tardivamente l'anno 2016 bonifico 2 2 2017 per tale anno gli iscritti vengono conteggiati pari a 0 per l'anno 2017 gli iscritti sono numero 149 che ridotti alla metà ammontano a numero 74,5 arrotondate 74 quindi a numero 3 delegati trattandosi di Camera Penale intercircondariale con due sezioni vengono riconosciuti due ulteriori delegati per un totale di 5 delegati e non 6 come indicati Camera Penale di Matera si evidenzia che nel presente nel fascicolo relativo all'accreditamento un verbale dell'Assemblea della Camera Penale di Matera del 27 2018 nel quale si riporta all'unanimità viene nominata quale delegata con diritto di voto l'avvocato Angela Indolfi successivamente oggi 20 10 2018 è stato presentato alle ore 14 e 55 altro verbale di Assemblea sempre del 27 2018 nel quale si legge all'unanimità vengono nominati quali delegati con diritto di voto il Presidente Avvocato Riccardo Laviola e il Segretario Angela Indolfi quest'ultima documentazione è pervenuta tardivamente essendo il termine fissato per gli accreditamenti scaduto alle ore 13.30 quindi viene emesso un solo delegato e non due individuato nella persona dell'Avvocato Angela Indolfi così come nominata dall'Assemblea nell'unico verbale ritenuto utilizzabile le camere penali alle quali è stato ridotto il numero dei delegati devono provvedere a indicare presso la segreteria dell'UCP il nominativo dei delegati che eserciteranno il diritto di voto nel numero indicato dalla Commissione Verifica Poteri entro le ore 9.30 di domenica 21.10 2018 forma parte integrante del presente verbale l'allegato elenco delle camere penali composte di 13 pagine e siglato dal Presidente nel letto elenco sono altresì indicati i casi nei quali è stata conferita ad oggi subdelega e agli atti della Commissione risulta il nominativo del delegato al voto si precisa che ulteriori subdeleghe potranno essere conferite entro le ore 9.30 di domenica 21.10 2018 alla segreteria UCP il presente verbale costituito da 15 pagine viene chiuso alle ore 18.23 del 20 10 2018 segnalando che la Commissione aveva interrotto i propri lavori alle ore 20 del 19 10 2018 per riprenderli alle ore 10 del 20 10 2018 sono state accreditate 119 camere penali per un totale di 327 delegati vi ringrazio a nome di tutta l'assemblea sento il dovere di ringraziare per il prezioso lavoro fatto la Commissione per i pericolosi e soprattutto la sua Presidente è un momento può fare avvocato Camillo Irasce camera penale di Santa Maria Capavecca Paola Rubini camera penale di Padova successivamente l'avvocato Roberto Del Rico della camera penale di Polonia grazie grazie Presidente buonasera a tutti quanti siete inizio così Renato non è vero che i responsabili degli osservatori non siano stati convocati dalla giunta di Beniamino siamo stati tutti convocati io me lo ricordo nella sala della loggia eravamo tutti insieme sul tavolone sia dopo Venezia e sia dopo Bologna e io venivo come responsabile dell'osservatore Europa dalla giunta di Valerio e la mia camera penale non aveva sostenuto Beniamino quindi io non sto difendendo Beniamino questo è dovere di verità che compete a noi avvocati a maggior ragione siamo penalisti sono candidata nella squadra di Gian Domenico io a Gian Domenico avevo detto fin da quando ci siamo sentiti a dicembre dell'anno scorso accetto io lavoro con te facciamo il programma insieme mi sono occupata di Europa ma io voglio che la mia camera penale ti appoggi e quindi appoggi anche me io oggi sono qui e ho accettato perché la mia camera penale mi sostiene sostiene Gian Domenico e quindi me lo ritenevo imprescindibile il programma è stato elaborato con grande attenzione con entusiasmo perché volevamo fare qualcosa di diverso e di nuovo ma in continuità con quello che ha fatto questa giunta e sono stati tutti bravissimi Beniamino mi ha detto Paola nel 2015 vai a Barcellona me lo ricordo ancora l'International Criminal Bar è un'associazione Renato che assomma decine di migliaia di avvocati penalisti del mondo quando tu scrivi nel programma che dobbiamo implementare la partecipazione e l'associazione beh noi lo stiamo già facendo l'abbiamo già fatto continueremo a farlo se Gian Domenico verrà nominato presidente e lì in l'International Criminal Bar quando sono andata mi hanno detto e voi sono anni che pagate la quota associativa non vi abbiamo mai visto e però e però io ho parlato con avvocati messicani del Costa Rica di New York e tutti parlavamo la stessa lingua le stesse idee noi ce l'abbiamo nel DNA ce l'abbiamo nel DNA il manifesto politico delle idee liberali e lo dobbiamo portare all'esterno ci stanno aspettando e noi questo dobbiamo fare e quando parliamo di rapporti con la politica il gruppo interparlamentare è perché significa che noi con i politici di adesso dobbiamo confrontarci dobbiamo dire quelle che sono le nostre idee perché sono impreparati io non posso farmi dire dal presidente della commissione giustizia al senato eh ma voi penalisti rompete e allora bisogna accettare di rapportarsi con avvocati che invece non rompono no noi continueremo a rompere noi continueremo a gridare non urlare il grido ha un contenuto il nostro grido ha un'anima è l'anima dell'unione delle camere penali italiane quello che vale quello che dobbiamo continuare a sostenere manca un minuto grazie presidente e allora nave diciotti sapete mi occupo di Europa io ho portato una delegazione di avvocati all'udienza della grande camera nel 2016 si discuteva di claifia contro Italia era un fatto del 2011 due navi Audacia e Vincent nel porto di Palermo il jeep di Palermo ha detto va tutto bene sono rimasti chiusi nelle navi otto giorni tutti sono stati zitti questa giunta ha parlato non dobbiamo più stare zitti l'affermazione dei diritti fondamentali questo è il nostro compito come quello di formare un avvocato penalista anche europeo non possiamo rimanere indietro grazie avvocato Carlo Petitto Petitto Camera Penale di Catanzaro sì buonasera a tutti sono Carlo Petitto Camera Penale di Catanzaro preciso che non sono un delegato quindi le mie sono alcune riflessioni così i programmi dei candidati colgono entrambi la preoccupazione dell'esistenza di una deriva autoritaria nel nostro paese di una progressione populista panpenalista assolutamente vero ma cosa aspettarsi del resto se negli ultimi 40 anni in questo paese si è assistito ad una corsa irrefrenabile verso un diritto penale straordinario e speciale sempre eccezionale sempre più eccezionale volto verso binari presentati come salvifiche eccezioni verso la necessità nel nome della salvaguardia delle istituzioni di indicare di volta in volta un nemico necessario per il quale sospendere le ordinarie guarentigie democratiche e costituzionali e soprattutto con la creazione di un sostegno collettivo diffuso frutto della martellante narrazione tossica dell'ossessione securitaria e poco importa se tutto ciò poi è diventato come vediamo l'ordinario quotidiano della cosiddetta espressione democratica della giustizia e del processo penale ogni giorno ci facciamo i conti e noi gli avvocati penalisti che risiedono stabilmente in questa casa la nostra casa che si chiama unione delle camere penali certo ci siamo scagliati contro le tentazioni le realizzazioni dovremmo meglio dire autoritarie ma è sufficiente questo? è stato sufficiente? evidentemente no e non solo ovviamente perché esiste una disparità tra le forze in campo forse non ci siamo accorti per tempo che in questa articolazione di dispositivi della repressione più esasperata ci siamo caduti anche noi finendo inconsapevolmente per puntellare il sistema verso il quale ci scagliamo per conferire paradossalmente credibilità politica proprio a quelli che preparavano l'ennesima svolta carcerocentrica non siamo stati sufficientemente vigili nel comprendere che la critica la critica accettazione dialettica del confronto con l'antagonista di turno il suo riconoscimento era destinato a trasformarsi in un sostegno pensiamo ad esempio alla nostra partecipazione agli incontri sovente con magistrate addirittura spesso rivolte agli studenti sul tema della legalità diventano quasi sempre un'occasione per inneggiare che si è autoproclamato e si presenta come custode ultimo della verità e la sua verità coincide con la legalità e certamente questo soggetto non è mai un avvocato ecco forse non ci riflettiamo abbastanza ma anche queste occasioni su questo tema sono diventate parte di un dispositivo semantico per corroborare e legittimare questo stato di cose presenti che diciamo di contrastare andiamo ad insegnare la legalità il rispetto della legalità ma la legalità di chi in fondo legali sono state 80 anni fa le leggi razziali è legale ci si dice oggi respingere i migranti magari facendoli colare a picco è legale il processo a distanza o in videoconferenza è il 41b se allora possiamo davvero pensare di confrontarci su questi temi senza in realtà ipotizzare di scardinare i dispositivi semantici meglio sarebbe dire meglio dobbiamo dire i dispositivi ideologici che rafforzano e rinforzano ogni torsione autoritaria dovremmo iniziare a dire che legalità e giustizia non sono sullo stesso piano e non tutto ciò che viene presentato come legale è anche giusto e che la legalità proprio come tutte le ideologie è falsamente universale e in realtà è espressione del più forte e che oggi per la più parte dei casi l'egalità è diventata espressione della ignobile volontà politica di realizzare la carcerazione della povertà e la limitazione e soppressione dei diritti di libertà non tutela chi forte non è chi non ha voce e arresta chi pratica la solidarietà verso gli ultimi perché è stato istituito il delitto di solidarietà ecco la nostra idea di giustizia non corrisponde alla legalità alla necessità di questa legalità alla ideologia della legalità che ci viene quotidianamente somministrata attraverso le agenzie di informazione e di riproduzione del consenso ma per fare questo per riaffermare la nostra idea di giustizia è necessario decidere davvero da quale parte stare è assolutamente necessario recuperare la volontà di essere egemonici di costruire sul tema giustizia un'egemonia sociale e politica in fondo come si leggeva sui muri del maggio francese basterebbe ripetersi Siamo realisti Sì, il collega Enrico Camera penale di Bologna Grazie Presidente Cercherò nei pochi minuti di cui dispongo di affermare il punto di vista della mia Camera penale che presiedo da due anni sono a scadenza di mandato e come i più sapranno abbiamo deciso di sostenere Gian Domenico Cagliazza Lo abbiamo fatto per un ragionamento molto semplice la cui ragione più intima è legata direttamente ad una ragione politica una scelta di programma di visione di punto di vista Io credo noi crediamo che il percorso politico della giunta che esce guidata da Beniamino Migliucci abbia tracciato un dato di assoluta novità La novità sta nel fatto che abbiamo in via definitiva consacrato il dato di essere noi soggetto politico Lo abbiamo fatto in modo diretto saltando i tempi delle mediazioni e misurandoci con le comunità con i territori con la gente che vive popola il nostro paese abbiamo raccolto le firme ci siamo impegnati in questa raccolta abbiamo costituito un presupposto importante siamo direttamente a contatto con chi vive i temi del paese e cioè chi patisce le conseguenze della giustizia di chi patisce la mancata separazione delle carriere lo abbiamo fatto in modo intelligente e la novità è stata che la giunta ha seguito questo percorso ed allora dobbiamo fare una riflessione su questo questo dato di novità è un fatto che va coltivato è un nuovo modo di essere dentro il contesto sociale organizzato di un paese democratico seppure in crisi o invece dobbiamo tornare a vivere il tema del rapporto con la politica secondo un sistema tradizionale peraltro vinto e sconfitto anche recentemente noi dobbiamo fare questa riflessione perché dentro questa riflessione sta un pezzo del nostro futuro l'altro dato fondamentale si misura sulla crescita dell'unione che è una crescita qualitativa e quantitativa la vicinanza dei giovani avvocati il numero dei partecipanti agli osservatori non è soltanto un dato numerico e non è e non è e non sarà spartizione di posti e vantaggio è semplicemente una scelta di avvicinamento e di capacità di capire che oggi bisogna misurarsi con un percorso nuovo bisogna portare le camere territoriali dentro la vita dell'unione si partecipava ai congressi si viveva il congresso in modo separato oggi si è partecipi a tutto tondo in prima persona è l'altro dato di novità gli osservatori come l'open day e allora qual è il problema e il problema sta dentro questo passaggio storico fondamentale esercitare la tattica correttamente chi capisce di politica sa che la tattica è importantissima come esercitiamo oggi questa fase utilizzando il tema della tattica il che fare che è il testo un testo di straordinario valore per certi versi fortunatamente in disuso insegna un pochino come si deve fare e allora dobbiamo in questo contesto continuare in questa direzione e il manifesto è un manifesto politico del processo in senso liberale e cioè la condizione che consente a noi di metterci alla guida di un movimento culturale politico capace di fare del manifesto il futuro del punto di vista politico corretto sul tema della giustizia penale ed è questo il passaggio e lo si fa attraverso il rapporto privilegiato con l'accademia che oggi ci è molto vicina ed è un pezzo d'accademia importante che è una grande storia e mi è vicina perché l'accademia che noi abbiamo ascoltato in tutti questi anni Gaetano Insolera Vittorio Manes e tanti altri in parte sono parte della mia storia della mia vita personale ed allora è questa la direzione è questo il percorso ed è un percorso intelligente e straordinariamente nuovo ed è questo che dobbiamo fare e allora se questo dobbiamo fare dobbiamo in un qualche modo capire che sono due percorsi politici diversi e che la continuità non è un argomento come dire di piageria nei confronti di Beniamino Migliucci che non si è difeso ieri ma ha raccontato pezzi di verità di questi anni ed io rivendico il diritto di dire che è stato perseguitato personalmente per quattro anni ed allora diciamole le cose per quello che sono mi assumo la responsabilità di quello che dico come ho sempre fatto nella mia vita bene questo è successo ed allora se questo è successo la continuità sta dove va Nicola Mazzacuva e Beppe Guida che vengono da quell'esperienza che intendono continuarla tempo è finito tempo è scaduto allora l'avvocato Silvio Verri l'avvocato Silvio Verri che dichiara di non essere a favore di nessuno dei candidati era tra quelli che ci risultavano rinunciati e quindi lo facciamo parlare perché giustamente pretende di diciamo mostrare la sua opinione ci eravamo messi d'accordo ma evidentemente non del tutto il problema è questo scusate se intervengo anch'io che noi abbiamo calcolato i tempi sulla base di coloro che ci è stato detto sarebbero intervenuti no ho capito no non abbiamo sbagliato perché questo era l'accordo a questo punto se i tempi non sono più quelli non so che ora andremo per votare domani dopodiché sapete irregolare va bene se l'equivoco è stato chiarito inizio il mio intervento io partecipo devo confessarlo alla vita dell'unione solo da quattro anni dunque conosco solo un presidente Beniamino Migliucci e conosco solo una unione quella che lui e la sua giunta hanno contribuito in maniera decisiva a creare un'unione delle camere penali che è capace di raccogliere qui a Sorrento centinaia di avvocati in gran parte giovani a proprie spese in un momento difficile per la vita professionale di tanti colleghi che si riuniscono attorno all'unione e alle idee che essa rappresenta questo ritengo che sia uno dei patrimoni più importanti dell'unione di oggi il senso di appartenenza che mai deve venire meno da questo punto di vista ritengo che la camera penale di Lecce abbia fatto la sua parte siamo cresciuti come iscritti abbiamo dato grande risalto anche mediatico alla raccolta delle firme abbiamo fondato una sede decentrata della scuola e quest'anno abbiamo portato nella nostra città il presidente dell'unione il presidente di ANM insieme a discutere di politica giudiziaria come non avveniva da decenni indubbiamente la nostra crescita è stata favorita dal rapporto proficuo con l'unione e da un clima di grande coinvolgimento complessivo che si è respirato in questi quattro anni noi abbiamo una posizione e nota abbiamo il nostro vicepresidente Ubaldo Macri in giunta eventuale con Gian Domenico Cagliazza e noi siamo sicuri che quella candidatura continuerà a proporre sia pur guardando al futuro la linea politica della giunta uscente continuerà ad essere l'unione di tutti e non autoreferenziale un'unione che coinvolge ed appassiona che è vicina a camere penali come quella di Bari che sta vivendo un momento terribile io a Bari c'ero e ho visto Gaetano Sassanelli piangere certe cose non si possono dimenticare allo stesso modo in un contesto drammatico dal punto di vista politico come quello attuale e dico drammatico perché sarebbe ridicolo se non fosse drammatico perché consentitemi una parentesi io adesso lo sto aspettando Di Maio che va in procura e denuncia a mano della famiglia Adams che gli cambia di notte i decreti legge abbiamo in questo contesto politico drammatico crediamo che sia necessario rafforzare il ruolo politico dell'Unione e riempire quel vuoto totale che si è creato nell'attuale scena noi abbiamo il dovere di occupare quello spazio di proporci quali interlocutori privilegiati con tutte le cautele del caso di quella parte di magistratura che condivide il nostro malessere della politica e della società civile niente arroccamenti niente splendido isolamento niente meno siamo meglio stiamo consapevoli della nostra autorevolezza e di essere un punto di riferimento l'Unione che verrà deve continuare ad aprirsi all'azione politica anche sul territorio con lo scopo di andare oltre la cultura di minoranza e di trasformare quella cultura di minoranza in cultura diffusa questo deve essere il nostro obiettivo che è un obiettivo realistico difficilissimo ma realistico noi saremo accanto al nuovo presidente che ci auguriamo che sia Gian Domenico Cagliazza e faremo sentire la nostra voce anche critica se necessario certi commesiamo che non bisogna interrompere questo percorso di crescita e anzi dobbiamo continuare a guardare avanti con fiducia e determinazione perché solo così riusciremo a realizzare i sogni che ci accomunano Allora quando si fanno no chiedo scusa quando si fanno degli accordi si rispettano noi abbiamo fatto un accordo cioè voi avete fatto un accordo che era nel senso che non sarebbero intervenuti al di là di quelli indicati a favore dell'una o dell'altra parte c'è stato anche detto adesso che vorrei parlare di altro allora se il gioco diventa che sono stati lasciati da parte quelli che poi dicono ma io voglio parlare di altro e poi invece intervengono a favore dell'uno o dell'altro candidato questo mi pare un comportamento estremamente scorretto collega con tutta franchezza gliel'abbiamo chiesto ma e lui ha detto Gesù è Gesù in croce grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti La Camera Penale di Messina La Camera Penale di Messina che avrebbe parlato a favore di Gian Domenico Cagliazza per compensare rinunzi al proprio intervento. La Camera Penale di Messina 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 Buonasera La Camera Penale di Messina 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 Borzone ha che è quello dell'unità e un'unità nella cultura del pluralismo e questo per noi è davvero fondamentale, è davvero fondamentale perché riteniamo che la nostra associazione debba comunque sempre avere un confronto dialettico, avere un confronto dialettico nella critica senza mai dimenticare gli scopi e gli obiettivi comuni. Io non posso in questa sede dimenticare alcune posizioni che sono state prese anche nei confronti della Camera Penale di Milano, ma soprattutto non posso dimenticare che il ruolo sempre propositivo della Camera Penale di Milano in questi quattro anni e voi sapete tutti perché lo sapete non abbiamo mai votato Beniamino Migliucci, però il nostro ruolo propositivo non è mai venuto meno, pur nella diversità e questo è secondo me il punto che ci deve tenere uniti, ci deve tenere uniti perché dobbiamo riconoscere la dialettica al nostro interno. Faccio brevemente alcuni esempi sul Consiglio dei Presidenti. Non è vero che nei Consigli dei Presidenti non si discute. Nei Consigli dei Presidenti si discute. Vengo anche ascoltata per quelle proposte, sono stata anche ascoltata per quelle proposte che alcune volte ho fatto. Vengo da una Camera Penale attiva, vengo da una Camera Penale sicuramente particolare anche rispetto alle esigenze. Ho fatto nel novembre, se non erro, del 2016 una proposta relativa ai consigli giudiziari, una proposta che ritenevo fondamentale per tutti noi per evitare che in consigli giudiziari ci vadano gli amministrativisti o i civilisti e non ci sia la rappresentanza dei penalisti. Bene, questa proposta è stata poi anche convogliata in una mozione che è stata accolta, è stata accolta dalla Giunta e dal suo Presidente. E prima ancora però è stata istituita una commissione della Camera Penale di Cosenza, una Camera Penale di Cosenza che di fatto si è occupata nei rapporti nella relazione con la Giunta di un monitoraggio. Prescindiamo pure dal fatto che non sono stata interpellata come tutte le altre Camere Penali e forse avevo qualcosa di più da dire visto che conoscevo e affrontavo il problema. Ma al di là di questo, poi la proposta, la mozione, è tutto rimasto senza una concretezza effettiva. Ne abbiamo parlato in Consiglio e ne abbiamo parlato al Congresso lo scorso anno. Ed è questo che io voglio combattere. Io voglio che tutte le Camere Penali vengano ascoltate e ascoltate nelle loro diversità e anche nelle loro critiche. Non mi sento assolutamente, ho sentito parlare di contrapposizione rancorosa. Ora, ditemi voi se contrapposizione rancorosa è partecipare al progetto MIUR, come ci partecipa la Camera Penale, se è contrapposizione rancorosa certificare le firme raccolte a Pavia, perché questo lo ha fatto la Camera Penale di Milano, oppure se ancora è contrapposizione rancorosa essere sempre disponibili rispetto alla scuola e rispetto alle esigenze della scuola, oppure ancora se è contrapposizione rancorosa essere sempre propositiva e di aiuto all'Unione con i documenti, con tutto quello che è l'attività che la Camera Penale di Milano fa. Il mio primo congresso elettivo da Presidente della Camera Penale di Nola, accompagnato da un sentimento di responsabilità di dover, di poter contribuire ad una riflessione insieme a questa splendida realtà di Camere Penali sul futuro della nostra associazione. Ho letto con attenzione i programmi dei due candidati, ho ascoltato con grande interesse il loro progetto di governo dell'Unione. Devo dire che come organismo abbiamo una fortuna di non essere divisi sui contenuti. C'è un nucleo fondante di principi comuni, di punti di criticità di istituti di diritto penale, di diritto processuale, di preoccupazioni condivise. Ma oggi siamo chiamati a decidere quella che sarà la politica della nostra associazione per i prossimi due anni. E ci sono dei distinguo. Si dice che la nostra non dovrà essere una battaglia di contenimento. Non credo lo sia mai stata. Bisognerà aprire alla parte più illuminata della società civile. Lo si è sempre fatto. La politica resta un interlocutore necessario. Lo è sempre stato. E lo dico soprattutto a Renato Borzone. Si dà per scontato di avere un interlocutore sensibile, quando invece dalla nascita della nostra Repubblica non abbiamo mai avuto un interlocutore politico così lontano dalle stanze liberali, così chiuso sulla giustizia penale, così liberticida. Ha ragione Gian Domenico Cagliazza quando, in un'analisi straordinariamente lucida, dice che ci rendiamo conto di quella che è la realtà politica e di governo con la quale dovremo confrontarci nei prossimi due anni. La soluzione non può prescindere dall'analisi del contesto politico. CSM, consigli giudiziari, doppio binario, misure di prevenzione, è patrimonio di tutti. Occorre capacità di intercettare la storicità del momento politico. Ed è quello che fa Gian Domenico Cagliazza nel progettare, nel immaginare un posizionamento dimostrando continuità con il lavoro straordinario di qualità dell'aggiunta del presidente Migliucci, marcando ancora più forte la soggettività politica della nostra associazione. E' come? Sono due le intuizioni, direi, geniali che danno la cifra politica del progetto di Gian Domenico Cagliazza. Il manifesto, vedete, non è un mucchio di parole, un mucchio di chiacchiere. E' il valore simbolico del manifesto, è la riconoscibilità esterna del manifesto. Scusa, scusa, se parlate un po' di meno, sennò l'oratore parla al vento perché c'è un brusio che non si sente più. Grazie. E' la riconoscibilità esterna, non è la rivendicazione di una sola persona di quelle che sono le istanze liberali. Ecco il significato del manifesto. E poi c'è un'altra intuizione del progetto di Gian Domenico Cagliazza. E cioè costituirsi innanzi alla Corte Costituzionale e alle Corte Sovranazionali per stimolare e orientare l'applicazione e l'interpretazione della legge verso lo spirito liberale e garantista della nostra Costituzione. E quindi in un momento in cui assistiamo ad una crisi delle garanzie, ad un ritrarsi del livello di maturità della democrazia, l'Unione ha una doppia voce, una voce dal doppio binario, questa volta nell'accezione positiva, una politica ideologica e un'azione innanzi a quelle che sono le Corte Sovranazionali e la Corte Costituzionale. C'è bisogno di un soggetto politico-culturale? Grazie. Con l'Avvocatessa Stefani Amato, Camera Penale Lombardia. No, sto parlando Felice Belluomo, segretario Camera Penale di Napoli. Sì, dopo. Sì, Belluomo. Innanzitutto grazie, perché stavo guardando l'orologio, sono le 8 meno 10, siamo dalle 14 e 30. Grazie per chiunque è rimasto qui oppure nel corridoio ad ascoltare. È la passione che ci accomuna. È quello il senso per il quale stiamo qui, è quello il senso della dogo. Grazie davvero per essere stati qui. Ve lo dico prendendo la parola per la prima volta, in rappresentanza di una Camera che forse è la più giovane, perché siamo nati con Beniamino Migliucci qualche mese prima. Il grazie a Beniamino Migliucci, ad Anna Chiusano, a Peppe Guida, a tutta la squadra che ci ha sostenuto, con il quale abbiamo dialogato, con il quale ci siamo confrontati e nessuno ci ha cooptato. Perché poi ho sentito qui parlare che negli osservatori venivano cooptati delle persone e negli osservatori, in qualche modo c'erano negli osservatori di serie A, dove c'era una meritocrazia conclamata, personale, e negli osservatori dove ci si sceglieva di volta in volta l'elettore di turno. Non è così, sono arrivate le mail, ci siamo riuniti, abbiamo fatto quelle che sono le nostre esperienze e le abbiamo portate sul tavolo degli osservatori. Si parla di manifesto come voler scimmiottare un qualche cosa. Io mi sono appuntato, è uno strumento di retroguardia, lo abbiamo ascoltato qui dal candidato Renato Berzone. Il manifesto è la voce, è il verbo dell'Unione Camere Penale. Fuori il manifesto c'è quello che c'è scritto qui, c'è il buio, perché senza il manifesto non si costruisce un'idea, non si costruisce un'unione intera. Chi ha firmato il manifesto per la separazione delle carriere? L'ha firmato e poi si è dimenticato magari di lavorare. Il gruppo con orgoglio che rappresento ha avuto anche un'ustione. Io ho avuto un iscritto che si è ustionato. La raccolta delle separazioni col FOIL l'abbiamo curata, perché questo si è ustionato, rimanendo lì poi si è addormentato. Ma è un dato curioso questo, per dire la passione che ci ha animato. Si è parlato del Consiglio come un'entità che debba essere autonoma completamente rispetto alla Giunta. Io ci sono andato soltanto qualche volta, quando il Presidente Trofino me lo permetteva o mi delegava e mi dava questo onore. Si è parlato di pecca di democrazia. Io ho assistito ad un'ultima scena e non è una pecca di democrazia quella di escludere per dei cavilli una Camera Penale che aveva chiesto di essere qui presente oggi, innanzi a noi, insieme a noi, senza votare, senza votare. Non c'è la Camera Penale di Nocera Inferiore oggi qui. Poteva esserci la Camera Penale di Nocera Inferiore. Si è fatto un blitz, si è cercato in effetti il momento adatto in cui qualcuno si era allontanato per mettere ai voti. In omaggio a che cosa? In omaggio ad una, come dire, patente in qualche modo di credibilità o di attendibilità sul fatto del numero degli iscritti. Non è così. anche la Camera Penale con dieci iscritti. Noi siamo una Camera Penale in crescita, Presidente. Siamo una Camera Penale che oggi già poteva avere quattro delegati. Ne avremo tanti, perché chi ha disegnato il circondario di Napoli Nord forse col goniometro non ci riusciva. Noi vi porteremo un bagaglio di idee. Gian Domenico, chiamaci, cooptaci, facci venire, ti porteremo le idee. Io te lo dicevo prima informalmente. Ho una foto di Beniamino. Non me ne volere, di Beniamino. Quattro anni fa ho una foto con te a Venezia. Ho fatto la stessa foto prima. Sei un po' ingrassato, non me ne volere. Te lo dico perché oltre... Sai perché? Io questo tuo aumentare di peso, però porta con te un bagaglio. Me lo consentirai. È il bagaglio delle nostre idee. È il bagaglio di tutte le Camere Penali che si è andato a visitare. È il bagaglio, in effetti, di tutte le esperienze, le doglianze, il sostegno che hai dato alla più piccola e alla più grande Camera Penale. C'è una frase con la quale poi vi lascio. Manca un minuto. Il successo non è mai definitivo. Il fallimento non è mai fatale. È il coraggio di continuare che conta. Winston Churchill. È questo coraggio che la Camera Penale di Napoli Nord ha con il progetto di Gian Domenico Grazia. Lunga vita all'Unione delle Camere Penali. Poi l'Avvocato Stefani Amato, poi l'Avvocato Franco Oliva, Camera Penale di Bologna. Sono stata felice di sentire stamattina da Renato Borzone che la mia Camera Penale, la Camera Penale della Lombardia orientale, sostiene con convinzione, con decisione, con i suoi tredici delegati qui al Congresso. Sono stata felice di sentire chiaro e forte che il cuore del suo programma, uno dei punti chiave, geograficamente sta in quel paragrafetto breve ma centrale che qualifica lo Statuto dell'Unione come crinale della politica giudiziaria dell'Unione delle Camere Penali italiane. Io leggo e condivido che la interpretazione degli scopi indicati nell'articolo 2 dello Statuto rende evidente che l'ambito di azione della nostra associazione politica sia anche la difesa dei diritti fondamentali dell'individuo, dei diritti civili, dei valori costituzionali che abbiano connessione con la tutela della libertà e della dignità personale degli individui. Questo significa che il nostro impegno non può ritenersi strettamente limitato alle questioni tecniche relative al processo penale o a visioni strettamente collegate con l'attività forense. Perché questo significherebbe, aggiungo io, quello era il programma, perdere il senso delle priorità. Quando si smarrisce il senso delle priorità era il titolo del bel documento della Camera Penale di Catania che ha citato prima Turi Leotta sulla vicenda di Ciotti. Le priorità sono la vita, l'incolumità, l'integrità fisica e la dignità dell'uomo. E io francamente fatico a pensare che questo sia contestabile da chi che sia. E allora forse, su quel molo di Catania, penso io, sotto il sole di agosto ci si doveva proprio andare fisicamente a gridare fateli scendere. Perché va bene il documento di solidarietà alla Camera Penale di Catania. Dodici righe, dico fra parentesi. Va bene la lettera al Presidente Mattarella che forse non ha avuto il riscontro mediatico che avrebbe meritato. Ma di fronte a situazioni straordinariamente aberranti servono gesti eclatanti. In generale di fronte alle derive razziste, perché di questo stiamo parlando in questi tempi bui, anche se non direttamente coinvolgenti norme di procedura penale, noi non possiamo tacere. Se andiamo a leggere bene, oltretutto, tra questi decreti che stanno piovendo in queste settimane, troviamo anche amenità come le intercettazioni per il reato di occupazione di edifici o di terreni. Quindi non siamo poi così lontani. Penso agli sgomberi dei ROM dal codice di procedura penale. Ma il problema è che prima del codice di procedura penale viene la Costituzione. Se insieme ai decreti piovono circolari prefettizie, atti amministrativi che invitano gli operatori dei CAS, i centri per i richiedenti asilo, a indagare se vedono un ospite con una bicicletta non fornita dal centro, quindi presunto ladro, noi, a mio avviso, non possiamo tacere. Così come non possiamo tacere davanti al coprifuoco, all'obbligo di non uscire di notte in posto con una circolare prefettizia. Noi avvocati dobbiamo essere argine, barriera, prima di tutto culturale, contro ogni deriva razzista oltre che ovviamente giustizialista. Questo lo diciamo sempre. Noi non aspiriamo al premio Nobel. Il premio Nobel ha già preso altri avvocati, sono i nostri colleghi tunisini, il famoso quartetto tunisino, sono quelli dell'ordine degli avvocati della Tunisia, che hanno condotto, erano avvocati, sono avvocati, la Tunisia avverso una incruenta transizione democratica, evitando gli spargimenti di sangue che si sono visti in altri paesi toccati dalle primavere cosiddette arabe. Quindi non si occupavano questi colleghi evidentemente solo di norme di procedura penale. Io capisco dal programma di Renato Borzone che c'è la volontà di essere soggetto politico e riferimento culturale nell'adempimento della funzione sociale che il codice deontologico ci impone. Comprendo che c'è la volontà, finalmente, dico io, di attuare la mozione che la mia Camera Penale propose a Cagliari tre anni fa, la mozione che impegnava l'Unione a promuovere la centralità dei diritti fondamentali della persona e del valore della dignità umana, rivendicando l'applicazione rigorosa delle norme, anche internazionali, poste a garanzia dei profughi richiedenti asilo ai migranti, soprattutto se minorenni. Il Congresso, tre anni fa, aveva visto giusto, aveva colto lo spirito del tempo a venire, a prescindere da ogni colore. Per l'UCP non c'è colore, non c'è giallo, verde, rosso o blu. C'è un simbolo tondo con beccaria che ci ricorda da dove viene lo Stato di diritto, da dove veniamo noi, dove vogliamo andare. Io spero con la guida di Renato Borzone. L'Avvocato Franco Oliva, Camera Penale di Bologna, poi il collega Belcastro. Preciso per correttezza che parlo a titolo naturalmente personale. È preciso anzitutto che la mia opinione è per il sostegno al programma di Renato Borzone. E vi confesso subito un qualche disagio. Perché salendo su questo palco io mi sono chiesto, ma posso io, come voglio e come farò, ringraziare affettuosamente Beniamino Migliucci per l'opera che ha svolto e tutta la sua giunta. Io Beniamino Migliucci l'ho sostenuto, non mi sono pentito di averlo sostenuto e tuttavia non stiamo votando per Beniamino Migliucci. È cosa ovvia, guardate, ma qui dentro non è sembrato fosse così ovvio. Io davvero rifiuto, rifiuto questa logica. Noi se vogliamo restare l'unione delle Camere Penali con la nostra unità dobbiamo rifiutare questa logica. Guardate, non mi convincono nemmeno le cose che ha detto al riguardo Gian Domenico Cagliazza che dice no, ma questa continuità sarebbe una continuità sul metodo soprattutto e cita due esempi. L'aver coinvolto maggiormente le Camere Penali territoriali e la raccolta delle firme. Ma perché? Quale giunta precedente non ha tentato? Per carità, forse Beniamino ci è riuscito, anche meglio di altri. Ma quale giunta non ci ha provato a coinvolgere il più possibile le Camere Penali territoriali? E chi mai ha raccolto queste firme se non tutte le Camere Penali? Forse solo le Camere Penali che oggi dichiarano di votare per Gian Domenico Cagliazza. Di che cosa stiamo parlando? Guardate, è una polemica che rischia di farci male. Per questo, lo dico senza mezzi termini, per me questa questione della continuità è un espediente elettorale brutto. È un brutto espediente elettorale. Non è nient'altro che questo. Il punto è che invece l'analisi politica è davvero in alcuni punti diversa. È diversa l'idea di che cosa significhi unità dell'Unione Camere Penali, per esempio. Perché quello che ho sentito da Gian Domenico non mi convince. Ci mancherebbe altro. Certo che il Presidente che verrà eletto sarà il Presidente di tutti. E c'è bisogno di dirlo. È certo che sarà riconosciuto come tale da tutti. È scontato. Ma il problema è un altro. Se vogliamo l'unità dell'Unione delle Camere Penali, chi viene eletto dovrà impegnarsi anzitutto con comportamenti, azioni concrete, a comportamenti inclusivi. Cioè a scegliere i migliori di qualunque campo siano, colore che possano dare il maggior contributo all'Unione. Questo è il comportamento che potrà superare le divisioni dell'Unione delle Camere Penali. E l'ho trovato. L'ho trovato in ciò che ha detto Renato nel suo programma e nelle sue parole. È un momento pessimo dal punto di vista politico. Non c'è dubbio. Siamo tutti d'accordo su questo. Eppure anche qui, ed è il punto fondamentale secondo me, non siamo in accordo sull'analisi. Perché dice Gian Domenico, il momento è pessimo. Navigliamo in acque assai mosse. La politica è, non mi fate dire cose inadatte al luogo, ma sappiamo tutti che cos'è. Bene, se la politica è questo, noi dobbiamo costituire un nucleo di difesa dall'aggressione che sicuramente avremo. E questo nucleo di difesa vede le alleanze con una parte della magistratura, la migliore, altre forze e così via. Questa analisi postula una cosa che non è vera. Ce l'ha detto Armando Veneto, che su questo, voglio dire, ha avuto parole di grande pregio, quando ci ha raccontato che cosa è successo a proposito della questione delle intercettazioni e delle procure. Quando ci ha detto, guardate, che i magistrati che lì sembravano con noi, con noi hanno detto una cosa che era a salvaguardia del loro potere di decidere che cosa cancellare e che cosa no. Credete che sarà una cosa diversa se domani questo governo parlerà, per esempio, di prescrizione, e di abolizione della prescrizione? Credete che quei magistrati... Castro, Camera Penale di Roma. Buonasera. Proverò a stare più basso dei cinque minuti perché siamo tutti stremati e anche perché non saprei che altro dire dopo tutti quelli che mi hanno preceduto. È stato detto tutto e il contrario di tutto. Voglio precisare, ho l'obbligo di precisare necessariamente all'amico Cataldo Intrieri, che l'assemblea nella quale siamo stati eletti, io come parte dei sei che votano Cagliazza e tu come parte dei due, o meglio, gli altri come parte dei due che non lo votano, è stata un'assemblea perfettamente regolare. Tu forse in quei quindici minuti in cui sei venuto non te ne sei accorto, te l'hanno raccontata male. Parto nella maniera classica perché gli argomenti sono veramente stati trattati tutti e credo che entrambi i programmi contengano dei punti che sono ovviamente condivisi da tutti noi. Ciascuno dei programmi parla di argomenti che stanno a noi a cuore e rispetto ai quali argomenti abbiamo delle visioni comuni. Nessuno tra di noi immagina che il 41 bis debba restare una norma di questo ordinamento o che l'ergastolo stativo sia qualcosa contro la quale non battersi. Ci dobbiamo battere tutti contro quello. Il problema qui è sul metodo. Consentitemi prima però di affrontare questo tema, di fare tre ringraziamenti velocissimi. Il primo è a Beniamino Migliucci per tutto quello che ha fatto fin qui e per tutto quello che avete detto che lui ha fatto, senza che lo stia a ripetere. Un debito di riconoscenza ce l'ho con Anna Chiusano, che dato che tutti abbiamo parlato della separazione delle carriere e dato che il tema è nei programmi, ma in particolare nel programma del candidato Cagliazza, Anna ha aperto un credito nei miei confronti, mi ha dato una fiducia che non nasceva dalla conoscenza, quindi la devo ringraziare. Ma più che tutti gli altri, tutti quelli di Giunta ringrazio, ma più che tutti gli altri devo un ringraziamento particolare a una persona che ci ispira, che ci ha sempre ispirato, che è un immenso uomo, un immenso professionista, un immenso segretario di questa giunta, che è Francesco Petrelli, rispetto alla cui attività credo che nessuno dovrebbe smettere di battere le mani ogni volta che il suo nome viene menzionato. Vedete, siccome è difficile a quest'ora trovare degli argomenti che non siano già stati affrontati, sicuramente in maniera più brillante da chi mi ha preceduto, dai molti colleghi che mi hanno preceduto, allora ho cercato di trovare ispirazione proprio in Francesco Petrelli, che ieri ha dato una indicazione rispetto all'attività, rispetto a quello che dovrebbe fare l'Unione delle Camere Penali, dicendo attenzione, noi non dobbiamo contrapporre al populismo penale un altro populismo, che è il populismo della ragione, il che mi ha stupito, perché immaginare che possa esistere un populismo della ragione di per sé stupisce, è una idea che spiazza, però se ci pensiamo per un attimo, se noi prevalessimo, e sarebbe tutto da dimostrare, attraverso il populismo della ragione, troveremmo forse dopo un minuto un altro populismo in grado di scalzarci. Ed ecco allora che l'intuizione felice che Francesco Petrelli mi ha dato, che io cerco di condividere con voi, non so se in maniera chiara o no, è quella del linguaggio della ragione che va recuperato. Ecco, questo linguaggio della ragione rappresenta una eredità di questa giunta. E se l'eredità di questa giunta sul linguaggio della ragione viene raccolta da uno dei candidati, e io credo che l'abbia raccolta nel programma Giandomenico Cagliazza, beh, possiamo anche parlare di continuità, che non è un tabù. Non è che si vota sulla base della continuità o della discontinuità a seconda di quelli che... Guardate, qui sono d'accordo con una persona che voterà per Borzone, che è Diego Sola. Il problema della continuità è un finto problema. Noi abbiamo un problema di capire continuità rispetto a cosa, e io credo che rispetto al linguaggio della ragione questa continuità la offra sicuramente il programma di Giandomenico Cagliazza. Quando dice fedele ai principi è aperto al dialogo, non sta dicendo nessuna eresia, sta dicendo che la situazione politica nella quale noi ci troviamo ci impone di assumere una posizione di dialogo nel rispetto di quello che già al Congresso di Bologna qualcuno ha chiamato il solco del non negoziabile. Siamo tutti d'accordo che bisogna tutelare e rispettare e difendere ad ogni costo i nostri principi costituzionali. Non ho molto altro da dire, se non che le parole di questo Congresso, cheppure io non avevo necessità, avrei votato comunque per Giandomenico Cagliazza, ma le parole di questo Congresso mi hanno convinto una volta di più che il voto per Giandomenico Cagliazza è quello che garantirà o che potrà garantire all'Unione che non si perdano quelle parole, che non si perda quel percorso rispetto ad esempio al tema del manifesto. Cosa c'è di strano tra voi che siete dei ragionevoli sognatori in un manifesto? Non vedo nessuna discordanza tra l'essere un ragionevole sognatore e lo stilare un manifesto che diffonda all'esterno, perché non dobbiamo pensare che noi o solo noi si sia i destinatari di quelle norme che noi vogliamo tutelare. E quando si va fuori da questo consesso, nessuno o pochi capiscono l'importanza di ciò di cui discutiamo. Il manifesto è dunque qualcosa che va tutelato. Voterò per Gioedomenico Cagliazza. Avvocato Alberto De Sandis, Camera Penale Piemonte. Poi Avvocato Gaetano Scalise, Camera Penale Roma. Gli otto delegati nominati dall'Assemblea della Camera Penale Vittorio Chiusano voteranno per Renato Borzone. Si dice spesso che i torinesi siano falsi e cortesi. Devo dire la verità che invece nell'Assemblea siamo stati cortesi tra noi, corretti tra noi, ma non falsi. Ci siamo detti le cose che pensiamo, ci siamo confrontati. È stata un'Assemblea anche rivitalizzante per certi aspetti della nostra Camera Penale. Abbiamo preso una posizione chiara, precisa e fatemi dire particolarmente forte sotto un profilo politico interno e per l'Unione, perché avevamo come candidato della possibile giunta a Cagliazza il nostro apprezzatissimo Presidente, Roberto Trinchero. Roberto Trinchero, che è stato uno dei Presidenti che più si è speso in questi anni per la nostra Camera Penale, con cui abbiamo condiviso molte battaglie, tra le quali quella fondamentale della raccolta firme per la legge sulla separazione dei carriere. E fatemi dire che nessuno dei due candidati deve provare ad appropriarsi di questa battaglia, che è stata lanciata benissimo dalla Giunta Migliucci e non appartiene né all'uno né all'altro candidato, ma all'Unione tutta. Perché la Camera Penale Vittorio Chiusano ha scelto in questa Assemblea Renato Borzone come candidato alla Presidenza? Io individuo tre profili che poi sono un po' tipici del nostro modo, un po' torinese, di intendere la politica giudiziaria. Il primo aspetto è la sua capacità di mantenere un'indipendenza dal mondo politico pur dialogando, interloquendo con quel mondo politico, evitando possibili osmosi con uno o un altro partito. La trasversalità è un valore irrinunciabile per la nostra associazione. Un secondo aspetto è il suo rigore nei valori, che sono quelli sì della continuità, ma nello stesso tempo la capacità di dialogare senza cercare compromessi un po' forzati. Terzo aspetto è la capacità che noi riteniamo di individuare Renato Borzone di ricostituire se necessario l'unità all'interno dell'Unione delle Camere Penali e gestire il dissenso, che va gestito. Va gestito sia quando il dissenso è espresso in modo un po' scomposto, certamente richiamando i colleghi a un certo modo di intendere l'associazionismo, ma va gestito. Chiudo su un loop, un po' da musica minimalista, un po' noiosa talvolta, con tutto il rispetto per i colleghi che mi hanno preceduto, che è quello della continuità. Ma la giunta Spigarelli non è stata una discontinuità rispetto alla giunta Dominioni e la giunta Migliucci non è stata correttamente, è giusto che sia stata così, una discontinuità dalla giunta precedente. La continuità è nei valori, è solo un arricchimento, la discontinuità nei modi, nei metodi, nelle priorità e nella scelta anche delle persone. Quindi sotto questo profilo ribadisco l'adesione al progetto di Renato Borzone e saluto tutti. Buonasera. Grazie. Grazie. Posso andare? Sì. Ah, grazie. No, dicevo che mai avrei pensato di intervenire in un'assemblea dell'Unione, soprattutto in una di quella che è un'assemblea elettorale, parlare in favore di Gian Domenico Cagliazza. Nel senso che con Gian Domenico Cagliazza, oltre ad aver condiviso un periodo di giunta nella Camera Penale di Roma, abbiamo avuto sempre posizioni politiche poi abbastanza distanti. Non abbiamo condiviso molti programmi politici. Però io credo che in questo momento Gian Domenico Cagliazza sia una scelta necessitata. Perché l'Unione ha bisogno di una guida politica. Perché io quando sento partire nell'incipit della relazione dell'altro candidato che bisogna svincolarsi dai tatticismi politici, io tremo. Perché significa far regredire questa Unione a almeno quindici anni fa? Almeno quindici anni fa. Che significa svincolarsi dai tatticismi politici? Come pensate si debba fare la politica? Si debbano fare le barricate? Dobbiamo andare lì con la spada? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dialogare con la politica, anche quella che non ci piace. Ce l'ha detto stamattina il Presidente del Consiglio dei Presidenti delle Camere Penali. Se non organizziamo degli incontri a livello locale saremo destinati ad avere sempre la politica contro. Questo è il problema. E poi devo dire a Cataldo Interi, è vero Cataldo, quell'Assemblea di Roma non è stata regolare. Non è stata regolare perché dopo quell'Assemblea chi parla di unità nel pluralismo non mi saluta più. Perché io mi sono candidato in quell'Assemblea dopo anni che non facevo più politica forense e chi è stato eletto dall'altra parte e chi ha candidato gli altri non mi salutano più. Il giorno prima facevamo i processi insieme, vero Renato? Mi incontri e non mi saluti. Forse un giorno mi spiegherai perché. E quando mi hai apostrofato che noi eravamo un gruppo di nani e ballerine ti ho detto che non mi ci riconoscevo perché non sono una ballerina e si vede e non sono nemmeno un nano. Allora questa è la politica che io non vorrei prendesse piede all'interno dell'Unione delle Camere Penali. Perché questa non è politica, è la divisione fatta a persona. Questo è il problema. E allora, signori colleghi, amici, io credo veramente che i programmi sono sovrapponibili. Però non posso non chiedere all'amico Casalinuovo, all'amico Casalinuovo col quale ci conosciamo da sempre e che stima e a cui voglio bene. Ma davvero, davvero Aldo, tu pensi che fino adesso il Consiglio sia stato presidiato? Tu che sei stato il Vice Presidente del Consiglio, tu che hai fatto parte sempre di Giunte, pensi che il Consiglio dei Presidenti sia stato presidiato e che quindi occorre non presidiarlo più? Io francamente, quelle poche volte che c'è scritto nel programma, non puoi, non puoi assolutamente condividere, non intendiamo presidiare il Consiglio, ma cosa significa? Quelle poche volte che io ci sono andato e ci sono andato con Gian Domenico Cagliazza, Presidente della Camera Penale di Roma, perché ero nella Giunta insieme con lui, io non ho visto un Consiglio presidiato. Oggi ho sentito chi ne faceva parte che mai quel Consiglio è stato presidiato. E allora come si fa a scrivere una cosa del genere in un programma, nell'incipit di un programma che si vuole sostenere sia un programma pluralista? Io credo veramente che l'Avvocato Veneto ci abbia dato stamattina una indicazione di carattere politico fortissima, un'indicazione di carattere politico che occorre seguire se noi vogliamo perseguire il bene dei penalisti italiani. Poi sulle petizioni di principio siamo tutti d'accordo, come facciamo a non essere d'accordo su molte delle cose che sono state dette? Ecco perché io voterò per Gian Domenico Cagliazza. Grazie. L'Avvocato Gianluca Totani, poi l'Avvocato Professor Nicola Mazzacua, Camera Penale di Bologna. Totani e dell'Aquila. Siete tantissimi. Sì, il mio intervento sarà come Presidente della Camera Penale di L'Aquila, ma sento il dovere di fare un piccolo prologo nel mio ruolo di segretario del Consiglio delle Camere Penali, il ruolo che ho avuto l'onore e l'onere di svolgere negli ultimi quattro anni e sento la necessità di ringraziare due maestri che sono stati per me, Riberto Rosso ed Armando Veneto, ed un fratello come Fabio Frattini. Faccio questo intervento da segretario del Consiglio delle Camere Penali anche per respingere delle critiche che io ritengo inaccettabili al nostro operato come ufficio di Presidenza. Queste critiche sono state svolte da persone che non hanno neanche mai avuto accesso una sola volta al Consiglio delle Camere Penali. I verbali, il loro contenuto puntuale, io direi anche maniacale, secondo l'insegnamento di Riberto, stanno lì a dimostrare come tutti abbiano avuto sempre diritto di parola e diritto di critica. I numeri poi stanno a confermare e a certificare che nel 2005 ai Consigli andavano 46 Presidenti, di cui 23 per delega. Oggi abbiamo raggiunto le 76 presenze di media e le deleghe non sono mai più di 10. Detto questo, passerei alla parte del mio intervento. Cercando un argomento, io ho deciso di focalizzare la mia attenzione su quello che mi ha sempre affascinato, e cioè la comunicazione. Noi dobbiamo porci delle domande rispetto alla comunicazione. Queste domande sono due fondamentalmente. Cosa vogliamo comunicare e come lo vogliamo fare? A mio parere l'Unione è cambiata tantissimo nel corso di questi quattro anni ed ha acquisito una consapevolezza ed una capacità di divulgazione delle proprie idee che a mia memoria le era sconosciuta. Io ricordo che prima del congresso di Venezia avevo un sogno che era quello di poter ascoltare tutti i giorni la voce dell'Unione sui giornali e sui telegiornali, quando si parlava di argomenti di giustizia penale. Fino ad allora erano sparuti gli interventi dell'Unione. Oggi abbiamo una presenza enorme sui media grazie al lavoro e alle fatiche incredibili di Giorgio Varano, Simone Santucci e Valentina Marcella. Ma io dico anche e soprattutto per merito del lavoro che hanno svolto le Camere Penali Territoriali nel corso della campagna per la raccolta delle firme per la separazione delle carriere ed in occasione di ogni astenzione. Le Camere Penali a livello territoriale devono essere orgogliose della riconoscibilità che hanno assunto nel corso di questi quattro anni. Questo patrimonio di riconoscibilità non va disperso, ma va implementato. Io non voglio un'Unione che si rinchiuda in sé, magari che sia capace di scrivere i documenti politici più belli del mondo, ma che poi siano destinati a non essere ascoltati da nessuno. Noi dobbiamo essere capaci di avere un linguaggio chiaro, pulito, semplice, ma forte ed autorevole e in questo modo saremo capaci di poterci misurare con quelle argomentazioni da strada, quegli argomenti come la certezza della pena che chi non è giurista crede di diventare giurista, riempendosi la bocca di queste parole. Se non capiamo questo, a mio giudizio saremo destinati a fare la fine e ad avere la reazione di quelli che scrivono quei post lunghissimi su Facebook che nessuno legge e che alla fine ottengono solo il like di chi l'ha scritto. Grazie. Alcune brevi osservazioni, ormai l'ora è tarda, come stiamo dicendo già da qualche intervento a questa parte. E considero anzitutto il programma di Renato Borzone, molto ampio, e a pagina 55, per quanto di mia competenza, perché sapete, ero responsabile della Commissione per gli Avvocati Internazionali, che ha lavorato in sinergia con l'Osservatorio Europa, di cui ha parlato bene Paola Rubini. Ebbene, a pagina 55 si dice che l'Osservatorio Europa e la Commissione per i rapporti con l'Avvocatura e le istituzioni internazionali hanno svolto in questi anni un lavoro di eccellenza. Non voglio sottolineare questo elemento positivo, però, appunto, all'interno dell'Unione fa piacere riscontrare che l'Unione, non il singolo Osservatorio, abbia lavorato in termini di eccellenza. Bisogna spiegarlo, però, ad una Presidente di Camera Penale che ha detto che l'Osservatorio si è limitato ad osservare, non bisogna limitarsi ad osservare. Ebbene, non ci siamo proprio limitati ad osservare. Si è citata la vicenda Taricco, si è citato il ruolo svolto dall'Unione, tutto sommato da noi militanti dell'Unione, perché io considero Vittorio Manes e Gaetano Insolera, come il sottoscritto, militanti dell'Unione. E c'era anche Andrea Soliani, ottimo avvocato, amico e che ringrazio e saluto sempre con affetto con cui abbiamo condiviso questa bellissima esperienza. E c'è un dato che va sottolineato. La prima volta della saga Taricco alla Corte di Giustizia non c'era nessun avvocato per i soggetti denunciati alla Corte di Giustizia. Lì l'avvocato è mancato ed abbiamo rimediato, assieme alle Camere Penali, come militanti delle Camere Penali a quella stortura proveniente da una Corte europea. C'è un paragrafo in difesa dell'Europa e in difesa dall'Europa, nel programma di Gian Domenico. Ma aggiungo una cosa di più che mi fa piacere sul piano personale. Chi abbia avuto l'avventura di sentire la discussione avanti alla Corte di Giustizia avrà notato, ma non lo dico perché ero io a sostenere e a svolgere quella riflessione, davanti alla richiesta dei giudici, perché è una bellissima udienza, quella che si svolge in sede sovranazionale, che ti interrogano su alcuni punti e ci dicevano, proprio perché c'erano commenti critici da parte di certa dottrina italiana e adesivi critici rispetto alle nostre posizioni adesive a quelle europee, ho citato proprio la posizione dell'Unione delle Camere Penali italiane, citandole, la potete sentire nella discussione. Ma penso anche alla formazione e alla specializzazione dell'avvocato, se ho dato un contributo, se abbiamo dato un contributo, assieme a Vittorio Maness, a Gaetano Istorella, a Maiello, eccetera, ma i corsi di diritto penale europeo che si sono tenuti a Bologna perché è per comodità organizzativa, sono stati positivi o non sono stati positivi? Possono meritare il plauso di chi applaude o di chi non applaude? Hanno nobilitato la nostra funzione e a base di quell'esperienza, di quella preparazione, noi possiamo mettere in difficoltà la magistratura che può non conoscere, come conosciamo noi, l'importanza del diritto penale europeo. Applichiamolo, rivendichiamo sempre questa competenza, che è frutto anche dell'intervento a livello di formazione della Giunta Migliucci, della Giunta dell'Unione. Oggi si diceva in certi interventi, lessico e cultura. Avete notato come si reagisce a livello politico rispetto all'impiego del diritto penale? Dice un ministro, reddito di cittadinanza e poi chi froda in materia di reddito di cittadinanza, perché deve avere successo questa linea politica, galera di sei anni. Due gravi affermazioni. Non si deve parlare di galera, ecco perché il manifesto della giustizia penale liberale ha un significato importante. Non si deve parlare di galera di sei anni perché vale il principio quantomeno della pena commisurata su un minimo ed un massimo e del potere di commisurazione del giudice. Ci può essere anche il beneficiario del reddito di cittadinanza in futuro che ha posto in essere un comportamento non certo meritevole di una pena che viene declinata in termini di assoluta fissità. Sei anni di galera. Condono. Il condono o l'amministia, perché si tratta di questo, vale per la materia tributaria, ma gli evasori devono andare ancora una volta in galera. No? Ritorniamo alle prime esperienze della giunta. Avvocato Maura Traversa della Camera Penale di Monza, poi l'Avvocato Giuseppe Ledda, Camera Penale di Cagliari, Ledda. Buonasera a tutti. Maura Traverso, con la O. Con chi? La Camera Penale di Monza ha deciso, l'Assemblea degli iscritti della Camera Penale di Monza hanno deciso di votare per il programma e per il candidato Renato Borzone, condividendo completamente l'idea di unione che Renato Borzone ha esposto nel suo programma e condividendo e apprezzando moltissimo il programma e il programma legislativo per i cento giorni. Quando Renato Borzone declina quelle che sono le loro idee, le loro intenzioni su questi temi che sono importanti e fondamentali per la nostra vita professionale, ma non solo, sono delle idee che abbiamo completamente condiviso ed è questo anche uno dei motivi per i quali abbiamo deciso di votarlo. Io credo che non devo aggiungere nulla su quello che è stato detto fino adesso con riferimento alla gravità della situazione politica attuale. È un momento difficile. La Camera Penale che io presiedo ha più di 200 iscritti, ma il 35-40% degli iscritti sono giovani avvocati, cioè avvocati dottori e avvocati e a questi va dato un sogno, un sogno che ovviamente non può essere completamente distaccato dalla realtà, ma va dato un sogno. Va dato un sogno a loro, va dato un sogno a noi, ma soprattutto va dato una guida forte, perché è necessario recuperare quello che è una nostra idea, ma soprattutto la volontà, la voglia di ritornare a fare politica, soprattutto per quello che riguarda i più giovani. Quello che mi dà più preoccupazione di tutti i temi che sono stati trattati è la questione che riguarda le inammissibilità della Corte di Cassazione. Il 70% dei ricorsi vengono dichiarati inammissibili e questo accade anche quando vi è stata una discussione in pubblica udienza. Questo io credo che non sia un dato verosimile, non è possibile. Credo che sia l'anticipo di un qualche cosa che ci arriverà di nuovo. Abbiamo appena assistito con il precedente governo ad una riforma del processo penale che ha portato ad una riforma del regime delle impugnazioni. Ecco, io questi discorsi sulla Cassazione credo che porteranno ad un'ennesima modifica del regime delle impugnazioni. e questo è uno di quegli argomenti che necessita di una guida forte, di una guida importante, di un'unione delle Camere penali che non accetti un compromesso, che non accetti ciò che può essere meno o peggio o che non accetti alleanze al ribasso. Buonasera a tutti e grazie. La Camera Penale di Rimini, bene hanno detto i colleghi Branca Leoni e Sarti che mi hanno preceduto, sosterrà e sosterrà convintamente Gian Domenico Cagliazza e il suo progetto. Lo diciamo senza infingimenti e lo diciamo nell'idea di una continuità da cui non ci nascondiamo perché la giunta uscente è una giunta che ci ha soddisfatto e che ci è piaciuta. Cominciamo due parole di chiarimento perché anch'io immaritatamente faccio parte di osservatori e quindi mi sono sentita con tutto il rispetto per Renato Borzone che è persona che stimo e anche per i componenti della sua squadra di cui molti sono amici, ma mi sono sentita personalmente offesa caro Renato perché non ci hai definito cialtroni ma sicuramente merce di scambio. Ebbene io porto la mia esperienza personale, io non sono stata segnalata nell'osservatorio della specializzazione che con Lodovica Giorgi lo diciamo per realtà e per dover ha fatto un ottimo lavoro. Sono stata chiamata da Lodovica, immagino, per specificità che riguardano il mio impegno ordinistico, così come altri colleghi. La mia Camera Penale, che ovviamente è stata contenta di questa partecipazione, neppure lo sapeva. Quindi io non credo che si possa veramente parlare di unità quando individuiamo come merce di scambio colleghi che sono valenti colleghi, non parlo per me, ma soprattutto sono colleghi appartenenti all'Unione delle Camere Penali. Gli osservatori sono una fonte importante di futuro. Due anni fa qualcuno, ma lo dico senza polemica per l'associazione che è stata citata, ci ha detto che bisognava raccogliere le nuove dirigenze delle Camere Penali in altre associazioni. No, la nostra associazione è autosufficiente e in questo concetto di autosufficienza c'è una costruzione di futuro e di partecipazione proprio grazie al lavoro degli osservatori. È ovvio che ogni organismo collegiale, questa esperienza comune di chi ne fa parte, ha persone che lavorano, persone che fanno meglio e persone che evidentemente non lavorano. Questo non toglie che il principio di partecipazione attiva delle Camere Penali sia assolutamente meritevole di essere proseguito. L'importanza penso che vada vista anche sotto un altro profilo che quello del coinvolgimento, abbiamo detto dei giovani, ma diciamo di tutti coloro che vogliono partecipare, ma di più dei giovani in un momento in cui si registra assolutamente una disillusione nei confronti della vita attiva della politica forense. Quindi vedere questi colleghi, io quando andavo a Roma, Lodovica lo sa, testimone consapevole, tutte le stanze occupate della sede dell'Unione delle Camere Penali dove c'era l'osservatorio delle specializzazioni, delle volte ci si mischiava per discutere e per stare assieme in un'aggregazione concreta che è la riscoperta di quell'unità che tutti vogliamo. L'Open Day ovviamente non sarà rasa al suolo Rimini, l'Open Day è un'altra declinazione fondamentale di questi momenti aggregativi. Anche la discoteca, Renato, la battuta la raccolgo con simpatia, ma ha un suo significato. Noi oggi siamo disgregati e siamo lontani. Cerchiamo di ritrovarci nei principi, ma anche nell'amicizia, altrimenti saremmo sempre in contrapposizioni sterili. E sulla rete, perché di questo quattro anni fa forse ci sorrideva quando, ah ma te sei su Facebook, ma che vai a perdere tempo. No, oggi la rete è diventata un problema, è diventato il linguaggio dell'odio. Quel linguaggio dell'odio, ma lo dico con una forte ammenda anche per come mi esprimo io, nemmeno noi ci siamo risparmiati nelle nostre critiche. Da questo dobbiamo assolutamente uscire, perché siamo brutti e siamo ridicoli. Ancora, è una mia idea ed è un, spero che sia un progetto che chiunque sarà alla guida dell'Unione delle Camere Penali voglia raccogliere. Manta un minuto. Abbiamo finito? Ah, solo questo. Allora, io credo che l'Unione delle Camere Penali e le Camere Penali debbano uscire fuori dal circuito delle sole Camere Penali. Noi dobbiamo portare fuori i valori della nostra cultura. Quindi candidiamoci, anzi candidateli, io ho dato ai consigli dell'ordine, ai consigli distrettuali di disciplina. Portiamo fuori i valori della nostra cultura, perché sono valori fondanti. Grazie e lunga vita all'Unione delle Camere Penali. L'Avvocato Andrea Lazzoni, Camera Penale alla Spezia, poi l'Avvocatessa Valentina Tuccari della Camera Penale di Parma. Buonasera amici, grazie per essere ancora qua. Ci vuole forza, ci vuole pazienza. Non avrei fatto dichiarazioni di voto perché le considero poco eleganti, perdonatemi il francesismo. Tuttavia, gli amici della Camera Penale regionale Ligure mi hanno chiesto di manifestare il loro orientamento a favore di Renato Borzone, che peraltro coincide con quello della mia Camera Penale e con questo vi ho detto in che direzione ci siamo orientati. Prima di iniziare il mio intervento, due brevissime repliche in punto di verità le ritengo doverose. La prima per l'amica carissima Paola Rubini. Paola, tu ci hai ricordato il momento del passaggio di consegne dopo il termine della giunta Spigarelli e della gestione Spigarelli tra i dirigenti dell'osservatorio. Hai ricordato una riunione presso l'Unione? Ebbene, io devo dire che c'è un'inesattezza in quello che tu hai riferito, non tutti i responsabili degli osservatori di allora furono convocati, allora io credo tuttora, in allora tuttora responsabile di osservatorio non fui convocato. A onore del vero dico che, avendo partecipato attivamente al progetto di Salvatore Scutto, ritenni doveroso rimettere nella disponibilità della giunta il mio mandato. La giunta decise più che legittimamente di fare una scelta diversa. Altra precisazione riguarda la questione dell'ultimo consiglio nel quale non è stata ammessa all'Unione la neonata Camera di Nocera inferiore. Ho ascoltato il collega di Napoli Nord, credo fosse di Napoli Nord riferire che sarebbe stata fatta una sorta di votazione a sorpresa, ricordo semplicemente per amore di verità che fu il Presidente Veneto, addirittura contro le richieste di alcune Camere penali, ricordo ad esempio Milano che chiedeva un aggiornamento e un approfondimento a imporre, decidere quale dovesse essere il momento della votazione. Detto questo faccio una rapidissima carrellata degli argomenti che volevo trattare. Io ho l'onore di presiedere da qualche mese una Camera penale, ormai non più piccola, direi di media dimensione, una Camera che sta crescendo secondo un percorso virtuoso importantissimo. È una Camera che cresce soprattutto qualitativamente, è una Camera penale nella quale arrivano giovani colleghi che NECMETU, NECSPE e quindi senza timori irreverenziali imposti da nessuno, ma senza neanche la speranza di utilizzare Camera penale come un ascensore sociale, vengono ammessi e partecipano sempre più attivamente alla nostra vita associativa. Ebbene, questa crescita virtuosa è quello che credo, e questo punto mi pare sia condiviso da entrambi i candidati alla Presidenza, è quello che costituisce uno degli aspetti che fa sì che le nostre Camere penali territoriali siano giustamente definite i motori della Unione. C'è accordo tra i candidati su questo, c'è accordo sul fatto che l'importanza delle Camere penali territoriali sia essenziale, mi pare che ci sia accordo, potrei dire ormai tra tutti, sul fatto che i problemi ce ne siano stati. Ci sono stati problemi che vengono diversamente qualificati a seconda degli oratori e degli orientamenti degli oratori che si sono succeduti su questo palco. Vi sono sicuramente state delle critiche. Queste critiche, purtroppo, sono state accolte con dispiacere o fastidio. Questi sono i termini utilizzati dal nostro Presidente uscente. Nostro Presidente. Ebbene, e mi avvio a terminare davvero velocissimamente, rispetto a queste voci di dissenso. Io credo che, grazie Presidente, credo che la posizione di Renato Borzone sia la posizione condivisibile. È una posizione che supera e chiude con il passato, soprattutto chiude con certe interpretazioni dietrologiche che, secondo me, fanno male all'Unione, anche se servono per finalità elettorali, che addirittura vorrebbero creare, nella fantasia di chi le afferma, un partito degli scontenti che addirittura dovrebbe risalire all'epoca del post-Congresso di Venezia. Così non è. Così come, invece, io ritengo che chi governa abbia il dovere, il dovere morale innanzitutto del dialogo. E allora condivido anche su questo le parole di Renato Borzone, scritte a pagina 4 del suo programma. Chi governa l'Unione è certamente chiamato ad ascoltare e coinvolgere, anche chi ha espresso ed esprime il proprio dissenso. Grazie. Buonasera. È un'emozione fortissima poter intervenire al Congresso e spero che questa emozione non mi tradisca. Il mio è un intervento fatto col cuore perché penso che finché il cuore batte vuol dire che siamo vivi. L'idea di unione che ha la Camera Penale di Parma, che ho l'onore di presiedere, è l'idea di unione che sta scritta nel programma di Renato Borzone. Siamo in un momento cruciale della storia politica del nostro Paese. Siamo in un momento in cui il capo politico o i capi politici del Paese, per compiacere la massa, cui traggono legittimazione solo disposti a calpestare i più basilari diritti civili. Lo abbiamo visto questa estate con quel barbaro braccio di ferro che ha avuto come inconsapevoli vittime i migranti della nave dei Ciotti. La modifica antropologica l'ha subita questa politica. Non l'abbiamo subita noi. Nessuna modificazione o metamorfosi al nostro interno è avvenuta, perché sempre in quella direzione siamo andati e sempre andremo perché siamo l'ultimo avamposto che tuteli le garanzie e i diritti di tutti. Dobbiamo ripartire prendendo coscienza di far parte di quegli avvocati penalisti che hanno reso grande l'unione delle Camere Penali ed essere fieri, soprattutto noi giovani, di essere riconosciuti come prosecuzione di quella che non è una nicchia, ma è la nostra storia. Questo sembra banale, ma per capire dove stiamo andando bisogna anche capire da dove siamo venuti. Questo è tanto più possibile in quanto utilizziamo la nostra storia e la nostra preparazione per porci all'esterno come forza politica trasversale, ma soprattutto come forza culturale. Con quella soggettività politica che abbiamo sempre avuto, perché se l'articolo 111 della Costituzione è lì ed è scritto in quel modo è grazie alla nostra soggettività politica. Tutto questo si fa dando un senso di appartenenza alle nuove generazioni e mi ci metto dentro anch'io, io sono del 1980, quindi mi posso definire giovane, che non deve essere questo senso di appartenenza fine a se stesso perché ora si rischia che diventi sole ed esclusivamente autoreferenzialità. Dobbiamo crescere, e lo dico per prima io, professionisti preparati che possano attraverso l'azione locale contrastare efficacemente la deriva giustizialista che respiriamo tutti i giorni nelle aule dei tribunali, con la consapevolezza che siamo portatori di valori che sono solo nostri. Bisogna guardare a noi giovani attraverso una serie azione territoriale, attraverso le nostre scuole, per trasmettere oltre i valori del giusto processo quella passione e quel senso di appartenenza che faccia a tutti noi comprendere e riscoprire quel senso di militanza che ci rende forti ed autorevoli. Dobbiamo tutelare i diritti civili e fare davvero l'ultimo avamposto di tutela perché se cadono questi non ha più senso neanche la separazione delle carriere. e quindi mi auguro di poterci sentire, come credo che con Renato Borzone potremmo sentirci noi giovani, protagonisti davvero del futuro dell'avvocatura penale. Grazie. 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 Il mio intervento di stasera nasce a Roma, nasce a Roma, al congresso di Roma, quando ho sentito Gian Domenico Cagliazza, che non mi sta ascoltando, poi glielo riferirete, dire che finalmente, da poco tempo, con la giunta Migliucci, si era diventato un soggetto politico. Perché prima, e lo ha detto con questa smorfia e facendo così, eravamo una nicchia insignificante. Questa cosa allora mi ha indignato. Quelli lì sono i signori insignificanti. Quelli sono la nicchia. Loro, Frigo, Randazzo, Corbi e qualcun altro che sto dimenticando e col quale mi scuso. Frigo l'ho detto per primo. L'unione delle Camere Penali non è mai stata una nicchia, non è mai stata una cosa piccolina, non è mai stata una cosa inutile, non è mai stata una cosa ininfluente. Non ci possiamo dimenticare le lotte che sono state fatte e i risultati che sono stati raggiunti. E nonostante quello, nonostante si sia ottenuto per esempio un 111 della Costituzione, stimo sia un errore pensare, come scrive nel proprio programma Gian Domenico, che creare un intergruppo che poi dia alla politica il compito di accelerare l'iter di formazione delle leggi possa significare qualcosa. Il 111 l'abbiamo ed è Costituzione, non lo applica nessuno. Il giudice terzo non l'abbiamo se non quello scritto lì. Ma il giudice terzo non c'è e lo sappiamo tutti. Le leggi sono destinate a dettare le regole, a fissare i paletti, a segnare i binari. Ma le leggi nascono e vengono osservate solo se sono il risultato di un percorso culturale per cui il popolo, la gente, la politica pensa che quella tal norma sia necessaria. Allora a quel punto si arriva ad avere un risultato. Questo è quello che deve fare la Camera Penale, questo è quello che deve fare l'Unione della Camera Penale. Chiunque sia domani, dopo domani, il presidente della Camera Penale d'Italia, perché questo sarà domani Renato o Gian Domenico. Io ho fiducia che un'Unione che conta su un centinaio di persone, che resta fino alle 9 di sera a sentire le stupidaggini che vengo a dire io, non potrà morire mai. Andiamo avanti. Abbiamo superato periodi peggiori, abbiamo superato polemiche ben peggiori di quelle di questi giorni che sono stata all'acqua di rosa, non è successo proprio niente. Qualche piccolo fraintendimento tra due soggetti che sanno e sappiamo tutti potranno essere degli eccellenti presidenti dell'Unione. Io tifo per Renato. La mia Camera Penale voterà compatta con i suoi numerosi delegati che entrambi votaranno per Renato Borzone. Forza Renato. Allora, i lavori sono sospesi e riprendono domani mattina alle 8.30 precise. Scusate, sia chiaro che quel termine delle 8.30 di domani mattina per l'inizio dei lavori è una roba seria, perché se no poi qualcuno chiede di iniziare a votare prima della fine del dibattito e per noi non è possibile farlo. Ci sono ancora 10 interventi, 12 interventi, 13 interventi. Quindi noi alle 8.30 siamo qui, imbriagatevi poco e vedete di starci voi. alle 8.30 vengono chiamati. Sì, sì. No, fagli bere. No, vabbè. 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 Non c'è decaduto. No, va dentro. Scusa, mi dici dove siamo arrivati in fila, così ci troviamo. Siamo arrivati qua. Nicola, Nicola. Nicola. Svezi siamo arrivati.